crea la tua realtà nove esperimenti per provare il potere dell'attrazione libro scritto da pam grout quando ero un ragazzino ho chiesto alla mia insegnante del catechismo perché i miracoli avvenivano nei tempi biblici ma non sembravano far parte delle nostre vite di oggi lei non aveva una risposta e gradualmente sono arrivato a supporre che dio la chiesa e le cose religiose fossero irrilevanti e lontane dalla mia vita anche se non ho smesso di desiderare qualcosa di più ho lasciato la spiritualità per perseguire la scienza che almeno ha fatto un tentativo di spiegare come funziona il mondo è una vera delizia trovare gli scritti di pam grout che aiutano i dubbiosi come me a riempire quel desiderio di spiritualità lei presenta in un modo delizioso divertente ad un che chiunque può capire che l'energia il potere e sì anche miracoli sono qui adesso e disponibili per tutti le idee e gli esperimenti di questo libro mi hanno aiutato ad afferrare in un linguaggio che ha senso molte delle cose che le guide spirituali insegnano da migliaia di anni consiglio vivamente questo libro a chiunque che sta cercando di capire le idee spirituali e come si applicano a tutti noi anche qualcuno come me che ha dubbi sulla religione organizzata come lei sottolinea riqualificare la mente è un po come l'addestramento al vasino di un cucciolo bisogna continuare a riportarlo fuori e fargli notare la bellezza la maestosità e la verità attraverso semplici e deliziosi piccoli passi guida il lettore nella consapevolezza che i miracoli accadono ancora e che c'è un'incredibile fonte di energia disponibile per tutti joyce barrett ex biologo della nasa il modo in cui abbiamo percepito la vita ha bisogno di essere spazzato via in modo che ciò che è vero possa apparire michele longo donnell creatrice di vivere oltre la malattia prefazione chiunque sia seriamente coinvolto nel perseguimento della scienza si convince che uno spirito si manifesta nelle leggi dell'universo uno spirito enormemente superiore a quello dell'uomo albert einstein fisico teorico tedesco due mesi prima di compiere 35 anni il mio fidanzato di lunga data mi lasciò per una studente di legge di 20 anni con radici oscure tenete a mente che questo è stato più o meno lo stesso periodo in cui è uscito lo studio sulla donna single asteroide quello che ha rivelato pubblicamente che le donne oltre i 30 anni hanno più o meno le stesse probabilità di sposarsi che di essere travolte da un asteroide dopo diversi giorni passati a sdraiarmi a letto e a fissare il mio ventilatore da soffitto sono giunta alla conclusione che mi rimanevano due scelte potevo tagliarmi le vene in un bagno caldo o iscrivermi a un programma di studio lavoro di un mese a esalen la mecca dell'automiglioramento a big sur in california sapendo che la mia compagna a distanza all'epoca disprezzava il disordine ho optato per esalen la seconda notte incontrai un bel ex surfista di nome stan che mi convinse a passare la serata ascoltando l'oceano che si infrangeva sulle scogliere alla fine ci siamo addormentati in una delle sale massaggi rannicchiati insieme per stare al caldo non che abbia funzionato i 20 di aprile dal pacifico possono essere terribili e anche con il nostro calore corporeo combinato siamo praticamente morti di freddo ora che ci penso avrebbe certamente risolto il mio disordinato dilemma del suicidio se stan non fosse stato così carino e io non fossi così disperata nel cercare di dimenticare lo stronzo che mi aveva messo da parte come un sacchetto vuoto di doritos probabilmente mi sarei scusata e sarei tornata al mio sacca pelo isolato ma sono rimasta fino al mattino seguente quando la prima luce dell'alba ha rivelato che per tutto il tempo c'era stata una stufa accanto alla stuoia dove c'eravamo rannecchiati una stufa che avremmo potuto accendere e usare per tenerci caldi in poche parole questo è ciò di cui parla il libro c'è una stufa o piuttosto una forza energetica invisibile che è costantemente disponibile per il nostro uso e non ci siamo preoccupati di accenderla la maggior parte di noi è totalmente ignara del fatto che la stufa spaziale esiste pensiamo alla vita come a un tiro di schioppo casuale se la vi quelli di noi che sanno del riscaldatore spaziale cioè il campo energetico che ci dà la capacità di modellare e progettare le nostre vite non capiscono come funziona abbiamo sentito dire che pregare lo accende che le buone opere lo fanno andare avanti ma nessuno sembra sapere con certezza questo guru ci dice di cantare quello successivo suggerisce la meditazione quello dell'anno scorso insiste che dobbiamo pulire i nostri pensieri e aumentare le nostre vibrazioni allora qual è la forza energetica è davvero così vaga e misteriosa e perché funziona solo a volte nel migliore dei casi è volubile e capricciosa certamente niente su cui si possa fare affidamento o forse sì quello che vorrei suggerire è che questo invisibile campo energetico è affidabile al cento per cento funziona sempre come un principio matematico o una legge della fisica due più due fa sempre quattro le palle lasciate cadere dai tetti cadono sempre ogni tuo pensiero influisce sempre sulla realtà fisica vedere a credere le mie dita vengono staccate da tutto ciò che credo di sapere la certezza è molto utile ma può davvero chiudere la mente alla vera luce davido russell regista se hai letto il segreto o sei stato nei circoli metafisici e spirituali per un po di tempo sai già che i tuoi pensieri creano la tua realtà che c'è un potere nell'universo che può guarire e che tu e solo tu disegni la tua vita sfortunatamente c'è ancora questo piccolo problema questa piccola fregatura tu non ci credi veramente non completamente la maggior parte di noi infatti sta ancora operando con l'architettura mentale dei nostri antenati pensiamo di gestire le nostre vite con le nostre idee e pensieri brillanti pensiamo di affermare le nostre intenzioni e di creare nuove possibilità ma in realtà stiamo semplicemente riciclando vecchi nastri condizionamenti istintivi e comportamenti automatici la maggior parte dei quali abbiamo imparato prima dei cinque anni siamo come i cani di pavlov semplicemente reagendo a modelli che abbiamo acquisito prima di avere l'intelligenza di scegliere saggiamente la maggior parte dei pensieri che assumiamo sono in realtà le credenze invisibili e in gran parte indiscusse che abbiamo scaricato da altri quindi contrapponiamo i nostri pensieri positivi alla nostra vecchia programmazione che ci priva di potere in altre parole la nostra coscienza quella forza che in qualche modo influenza la realtà fisica è stata dirottata non molto tempo dopo essermi laureata al college aver trovato un lavoro e aver gestito i miei affari ho notato che i pensieri negativi sul denaro facevano a gara per attirare la mia attenzione mi sono ritrovata a preoccuparmi a chiedermi se l'esaurimento dei soldi fosse imminente a mettere in dubbio se potevo permettermi o meno la nuova bicicletta che volevo o il nuovo computer di cui avevo bisogno un giorno durante una corsetta mattutina ho improvvisamente capito quei pensieri erano cloni esatti dei commenti che mia madre faceva spesso quando stavo crescendo e anche se non c'erano prove a sostegno di quelle paure nella mia vita le avevo scaricate direttamente nella mia coscienza senza nemmeno esserne consapevole inutile dire che quello non era un paradigma che serviva il mio bene superiore ho coscientemente riscritto il paradigma che gestiva la mia vita finanziaria in posso permettermi tutto quello che voglio infatti sono così prospera che non ho più bisogno di preoccuparmi come scrittore freelance indipendente ho anche nominato dio come amministratore delegato della mia carriera ho pensato che non c'era modo di gestire questa volubile attività di scrittura con il cablaggio difettoso e i pensieri negativi che avevo scaricato dal mio passato chiaramente avevo bisogno di una nuova impronta energetica la realtà è cambiata amico se lavorassimo partendo dal presupposto che ciò che è accettato come vero lo è davvero allora ci sarebbe poca speranza di progredire Orville Wright inventore americano anche se la visione del mondo riduzionista e meccanica si è dimostrata difettosa è ancora profondamente radicata e incorporata nella nostra cultura i neuroscienziati ci dicono che il 95 per cento dei nostri pensieri sono controllati dalla nostra mente subconscia preprogrammata invece di pensare veramente stai guardando un film del passato se non fossi immerso in questo tumulto senza sosta di pensieri frammentati e di vecchia scuola modificheresti la tua vita a volontà non avresti paura del denaro non avresti altro che belle relazioni e saresti così estaticamente soddisfatto che non ti verrebbe mai in mente di prendere in mano un libro come questo francamente sono felice che tu l'abbia fatto questo piccolo libro vi dimostrerà una volta per tutte che i vostri pensieri hanno potere e che un campo di infinite possibilità attende la vostra richiesta vi aiuterà a riscrivere il pensiero obsoleto che guida la vostra vita invece di fare una grande argomentazione la stessa che hai letto in tutti gli altri libri sul cambiamento della realtà questo libro ha nove esperimenti facili da provare che offrono prove in tempo reale ti dà l'opportunità di passare dal sapere che i tuoi pensieri creano la realtà a testimoniarlo quotidianamente decisione per decisione a questo punto è ancora una teoria vedere con i tuoi occhi che tu cambi la realtà semplicemente osservandola riorganizzerà il tuo cervello e ti libererà dai vecchi condizionamenti imparare attraverso la sperimentazione scientifica quanto profondamente siete connessi al campo della potenzialità vi renderà letteralmente liberi la magia che abbiamo gettato in mare oh come il mondo ama ancora teneramente una gabbia Tess Lynch scrittrice e saggista la fisica quantistica definisce il campo come forze in movimento visibili che influenzano il regno fisico in questo libro imparerete a usare questo campo di potenzialità mi piace chiamarlo CP poiché l'energia è invisibile e poiché stiamo ancora operando secondo i principi della vecchia scuola che mettono la materialità al primo posto non abbiamo imparato a sfruttare veramente questo elemento costitutivo fondamentale per i prossimi 21 giorni più o meno il tempo necessario per fare gli esperimenti di questo libro hai la rara opportunità di sviluppare una relazione cosciente con l'energia anche la materia ha detto il fisico quantistico David Bohm non è altro che luce congelata e imparare a trasformarla e parcellizzarla in qualsiasi cosa il tuo cuore desideri che sia pace mentale denaro o una carriera più gratificante puoi persino dirigere la CP per procurarti una vacanza a Tahiti prendete me per esempio qualche anno fa ho deciso di trascorrere un mese in Australia un chiropratico per cui avevo una cotta enorme aveva appena accettato un lavoro lì per lavorare con gli aborigeni come? mi chiedevo ci saremmo innamorati quando io ero in Kansas e lui era a 10.683 miglia di distanza un'occhiata al mio estratto conto avrebbe convinto qualsiasi persona ragionevole che un biglietto aereo da 1.500 dollari per Sydney il prezzo corrente a quel tempo era fuori questione ma io volevo andarci ed ero abbastanza fortunata da conoscere il campo di potenzialità che poteva farlo accadere ho iniziato a pianificare il viaggio ho iniziato a immaginarmi mentre mi scatenavo tra le onde di Sydney voglio dire che mi sono davvero agitata per questa immagine nella mia mente nel giro di una settimana il mio editore della rivista Sposa Moderna ha chiamato so che è un preavviso tardivo ha iniziato ma c'è qualche possibilità che tu sia disposta ad andare in Australia per scrivere una storia sulla luna di miele? pagheremo un'extra beh, ok, ho detto se insistete puoi trasformare l'energia per guarire e cambiare il tuo corpo stavo facendo un'escursione con un'amica nelle pianure vicino a Steamboat Springs in Colorado arrampicandosi sull'unico sentiero dell'intero parco è inciampata su una roccia è caduta e ha guardato con orrore la sua caviglia che ha iniziato a gonfiarsi cioè, questa caviglia si è gonfiata non sarebbe stato un problema se questo fosse successo vicino a un ambulatorio gratuito ma tenete presente che noi due eravamo a 70 minuti e questo se si cammina velocemente cosa che lei non poteva fare perché zoppicava dalla connessione telefonica più vicina per non parlare di un ambulatorio gratuito le ho detto di dire al suo corpo di smettere di gonfiarsi ha cominciato a gridare smetti di gonfiarti guarisci smetti di gonfiarti guarisci va bene dirlo a bassa voce le ricordai arrivamo al nostro campo e lei non dovesse nemmeno vedere un dottore CP uguale IP potenzialità infinita la vita è in attesa ovunque il futuro fiorisce ovunque ma noi ne vediamo solo una piccola parte e ne calpestiamo gran parte con i nostri piedi Herman S poeta e romanziere svizzero tedesco i nove esperimenti contenuti in questo libro la maggior parte dei quali richiede un breve periodo di 48 ore o meno dimostreranno che la CP come l'elettricità è dipendente prevedibile e disponibile per tutti da San Francesco d'Assisi a Barbara Walters proveranno ciò che i fisici negli ultimi cento anni hanno scoperto che il campo ci connette tutti e che la ragione per cui controlliamo le nostre vite è che ogni nostro pensiero è un'onda di energia che influenza tutto il resto dell'universo ma come l'elettricità bisogna collegarsi ad essa e dovete smettere di essere così dannatamente velleitari nessuno sano di mente chiamerebbe Sears il negozio in Stati Uniti e direbbe buongiorno mandatemi qualcosa che mi piace allo stesso modo non chiamereste un idraulico per aggiustare il vostro water con questa condizione venite quando volete eppure è così che la maggior parte di noi interagisce con il campo siamo smidollati vaghi e non abbiamo la minima idea di come funzioni veramente il libro crea la tua realtà non solo spiega come funziona il CP ma fornisce nove esperimenti ognuno dei quali può essere condotto con assolutamente nessun denaro e pochissimo dispendio di tempo per dimostrare che i pensieri sono cose fisiche reali sì avete letto bene dice dimostrare i nove principi energetici presentati in questo libro confermeranno che la CP è all'opera nella tua vita che tu sia consapevole della sua esistenza o meno imparerai che è più profondo delle leggi fisiche è affidabile come la gravità una volta che hai imparato ad essere definito e cristallino nelle tue intenzioni e ad accettare di fissare delle scadenze e superare questa folle illusione che qualcosa non sei mai sicuro di che cosa sia sbagliato in te per lavorare efficacemente queste leggi spirituali dovete capire nel profondo delle vostre ossa che l'universo è generoso e che in ogni momento vi copre le spalle non ricordo il momento esatto in cui ho iniziato a condurre esperimenti fai date con la mia vita so che mi era diventato sempre più chiaro che tutte le teorie spirituali i libri e le lezioni che mi affascinavano tanto erano fondamentalmente inutili senza la mia piena partecipazione come la maggior parte delle persone ho iniziato con piccoli passi facendo semplici intenzioni come assicurarsi posti di parcheggio in anticipo trovare quadrifogli ottenere interviste con persone in prima pagina ma il risultato che alla fine mi ha convinto che impostare un lavoro di cornice porre una scadenza e utilizzare la sperimentazione in stile scientifico era imperativo per una vera crescita spirituale è stato quello che ora mi riferisco come il miracolo del chiodo per anni ho appeso un calendario accanto al mio letto e lo strappavo di tanto in tanto per annotare eventi importanti o per cercare la data dell'ultimo taglio di capelli o dell'ultimo incontro o dell'ultima visita dal dentista una sera ho afferrato il calendario un po' troppo avidamente e ho strappato il piccolo chiodo che lo fissava al muro mi sono messa in ginocchio per cercarlo quanto lontano può andare un piccolo chiodo? giusto? ho cercato, e cercato, e cercato a quanto pare quel piccolo chiodo aveva fissato un mantello dell'invisibilità in stile Harry Potter perché non si trovava da nessuna parte alla fine ho concluso che avevo passato abbastanza tempo a strisciare sul mio tappeto e che avrei semplicemente inviato un'intenzione per farlo comparire entro ventiquattro ore la mattina dopo quando mi svegliai il chiodo era nella mia mano annidato tra il pollice e l'indice da allora ho continuato a manifestare tutti i tipi di cose belle da appuntamenti con ragazzi sexy a un regolare lavoro di scrittura di viaggio a una Toyota Prius ma nessuna di esse ha fatto il tipo di impressione che ha fatto quel semplice chiodo stavo ottenendo risultati così convincenti con i miei esperimenti che decisi che era il momento di riprodurli per vedere se avrebbero funzionato altrettanto bene per gli altri cominciai a suggerire alcuni di questi semplici esperimenti agli amici una collega un ministro della chiesa dell'unità ha fatto usare a tutta la sua congregazione le relazioni di laboratorio che troverete alla fine di ogni capitolo in breve tempo i GDU gioventù dell'unità muovevano visibilmente l'energia con le loro bacchette di Einstein fatte in casa si formavano gruppi settimanali per condurre esperimenti regolari la gente manifestava ogni sorta di cose sorprendenti quello che so per certo è che il modo migliore per capire un principio spirituale forse l'unico modo non è leggerlo in un libro o sentire un oratore che lo spiega da un podio ma metterlo in un quadro che dimostri come funziona vederlo in azione come avviene in questi esperimenti porta alla convinzione completa e certa ed è l'unica cosa che vi farà uscire radicalmente dall'architettura mentale vecchia scuola il nuovo curriculum devo trovarlo qui proprio qui irrompendo incontenibile attraverso lo sdrucciolo trascinato al centro morto di una vita ordinaria Bob Savino poeta e saggio di Kansas City 1. il principio l'amico resta questo è il principio di base il fondamento su cui poggiano tutti gli altri fondamentalmente ciò che dice è c'è una forza energetica invisibile o un campo di possibilità infinite l'esperimento potrebbe essere descritto al meglio come un ultimatum darete alla forza esattamente 48 ore per rendere nota la sua presenza esigerete un segno chiaro è inequivocabile qualcosa che non possa essere liquidato come una coincidenza 2. il principio della volkswagen jetta ricordate la nuova auto che avete comprato qualche anno fa quando hai deciso che era l'auto dei tuoi sogni ti sembrava un'auto unica hai pensato che saresti stato l'unico in città a guidarne una con orgoglio bene nel momento in cui vi siete documentati su di essa in rapporti dei consumatori avete deciso il prezzo che dovevate offrire e vi siete finalmente recati al concessionario avete notato che praticamente ogni ottava auto era una volkswagen jetta o qualsiasi altra auto voi voleste e questo è quello che succede quando cominci a pensare a qualcosa lo attiri nella tua vita ogni pensiero che abbiamo ogni giudizio che diamo ha un impatto sul campo delle potenzialità in effetti la realtà non è altro che onde di possibilità che abbiamo osservato in forma questo principio afferma tu impatti il campo e attingi da esso secondo le tue credenze e aspettative e per provarlo fissiamo la seguente chiara intenzione questo è ciò che voglio tirare fuori dal campo nelle prossime 48 ore 3 il principio di albi einstein anche se questo principio anche tu sei un campo di energia è uno dei principi spirituali fondamentali in realtà è venuto alla luce per la prima volta in un laboratorio di fisica sì sono stati gli scienziati a scoprire che nonostante tutte le apparenze contrarie gli esseri umani non sono materia ma onde di energia in continuo movimento infatti avrete notato che il titolo di questo libro è un gioco sulla famosa equazione di einstein questo è l'unico esperimento che coinvolge un'apparecchiatura appositamente progettata e perfettamente sintonizzata ok quindi si tratta di un appendi abiti di metallo un esemplare del quale presumo a meno che tu non sia un completo e totale sciattone sia disponibile nel tuo armadio e una cannuccia per bere qualcosa che potete facilmente ottenere gratuitamente in qualsiasi mcdonald's 4 il principio dell'abracadabra la maggior parte delle persone associa la parola abracadabra ai maghi che tirano fuori i conigli dai cappelli in realtà è un termine aramaico che si traduce in creerò mentre parlo è un concetto potente è il motivo per cui Edison spesso annunciava l'invenzione di un apparecchio prima di averlo effettivamente inventato è il motivo per cui Jim Carrey si è firmato un assegno di 10 milioni di dollari molto prima di aver fatto un film questo principio dice semplicemente qualunque cosa su cui ti concentri si espande e nell'esperimento imparerai che non esiste un pensiero ozioso e che tutti noi siamo troppo cavalieri e tolleranti nei confronti del vagare della nostra mente 5 il principio della cara ebi questo principio afferma che la tua connessione con il campo fornisce una guida accurata e illimitata riallineando la vostra coscienza potete accedere a risposte affidabili per ogni richiesta che fate il motivo per cui non lo sapete è che avete insegnato a voi stessi l'abitudine molto poco naturale di sentirvi separati di non essere in comunione con il CP 6 il principio del supereroe in questo esperimento governato dal principio i tuoi pensieri e la tua coscienza hanno un impatto sulla materia duplicherai un esperimento condotto dal dottor Gary Schwartz professore dell'Università dell'Arizona che ha dimostrato che inviare un'intenzione alle piante le fa crescere più velocemente e riflettere più luce delle loro controparti senza intenzione 7 il principio di Jenny Craig che tu sia un lettore di etichette o meno sai che il cibo che mangi offre certe vitamine minerali e naturalmente calorie probabilmente pensate che queste sostanze nutritive siano tagliate e asciugate che se il retro del contenitore dello yogurt dice che ha 187 calorie allora ha 187 calorie quello che forse non sapete è che i vostri pensieri su voi stessi e sul vostro cibo sono in una danza costante con il vostro corpo e che quando ti senti in colpa per il consumo di calorie il tuo cibo raccoglie una vibrazione negativa che ti ricambia in questo esperimento proverai il principio i tuoi pensieri e la tua coscienza forniscono l'impalcatura per il tuo corpo fisico infondendo amore al tuo cibo 8. il principio dei 101 dalmati questo importantissimo principio spirituale afferma sei connesso a tutto e a tutti nell'universo gli scienziati la chiamano non località e se avete guardato la versione a cartoni animati di 101 dalmati avete visto il principio in azione ricordate quando le cattive compagnie di Crudelia Devil cercavano di catturare i cuccioli fuggiti il vecchio terrier scozzese nella stalla dove si nascondevano abbaiava per chiedere aiuto a un bassotto della contea vicina che, a sua volta abbaiò il messaggio a un bassotto più lontano lungo il percorso solo che nella fisica quantistica la comunicazione avviene istantaneamente nell'istante in cui il terrier scozzese sa che i cuccioli hanno bisogno di aiuto lo sa anche il bassotto a 20 miglia di distanza tutto quello che succede a una particella viene comunicato istantaneamente all'altra in questo esperimento invierai messaggi a persone in altri luoghi senza l'uso di email lettere o forti esplosioni 9. Il principio del pesce e dei pani questo principio afferma che l'universo è meno limite abbondante e stranamente accomodante dimostrerà anche che le vostre paure sono inutili e che forse è giusto fare un bel respiro profondo una visione più vera e più grande non puoi mai cambiare le cose se combattendo la realtà esistente per cambiare qualcosa costruisci un nuovo modello che rende il modello esistente o besoleto Buckminster Fuller futurista americano spero sia confortante sapere che non sarai il primo ad usare la tua vita come un esperimento quando il grande compianto Buckminster Fuller aveva 32 anni decise di condurre un esperimento per vedere cosa un individuo sconosciuto e squattrinato avrebbe potuto fare per l'umanità chiamandosi porcellino d'India B si dedicò a portare il cambiamento nel mondo quando iniziò l'esperimento era quello che si potrebbe definire un nessuno fallito e disoccupato aveva una moglie e un bambino da mantenere la sua prima figlia la sorella maggiore del bambino era appena morta aveva bevuto molto le sue prospettive non sembravano promettenti ma decise di mettere da parte il passato di abbandonare i pensieri limitanti voleva sapere cosa potrebbe fare una persona per cambiare il mondo per i successivi 56 anni si dedicò al suo esperimento unico corse dei rischi si chiese e se? non solo è diventato un architetto un inventore un autore e un grande leader di uomini ma tra il 1927 quando ha lanciato l'esperimento e la sua morte nel 1983 ha scritto 28 libri ha ricevuto 44 lauree honoris causa ha registrato 25 brevetti statunitensi e ha letteralmente cambiato il modo in cui gli uomini vedono se stessi questo è ciò che spero che questo libro faccia per voi spero che cambi il vostro modo di vedere voi stessi spero che vi ispiri a condurre un esperimento con la vostra vita a usare la vostra energia per diventare l'essere umano più fantastico più gioioso meraviglioso bello e tenero che potete introduzione il crollo dell'onda dove impariamo che siamo male informati la principale illusione dell'uomo è la sua convinzione che esistano cause diverse dal suo stesso stato di coscienza Neville Goddard autore e mistico barbadiano qualsiasi illusionista degno della sua bacchetta magica capisce che l'ingrediente più importante del suo repertorio di giochi di prestigio è la diversione un mago distoglia l'attenzione del suo pubblico da ciò che sta realmente facendo e la dirige verso qualcos'altro che sembra cruciale ma, ovviamente, non lo è questo è quello che abbiamo fatto noi deviare tutta la nostra attenzione sul mondo fisico questi bluff sensoriali ci hanno fatto perdere il fatto che ciò che è invisibile ciò, che non possiamo vedere con i nostri occhi è in realtà più fondamentale per la vita di ciò che vediamo la fisica quantistica ci dice che il regno dell'energia invisibile indicato collettivamente come il campo o il CP come lo chiamo io è la forza governante primaria del regno materiale è il progetto che forma la realtà infatti ora sappiamo che l'universo è fatto di nient'altro che onde e particelle di energia che danno forma alle nostre aspettative giudizi e credenze le energie sottili i pensieri le emozioni e la coscienza giocano un ruolo da protagonista nelle nostre esperienze di vita ma poiché sono invisibili non abbiamo cercato di capirle o di usarle a nostro favore cambiare il mondo è una semplice questione di cambiare queste aspettative e credenze è veramente così facile portare qualcosa nel mondo fisico richiede di concentrarsi non su ciò che vediamo ma su ciò che vogliamo vedere buone 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 vibrazioni è il nigno della coscienza umana è arrivato Diane Collins autrice di Do You Quantum Think? ok dillo e basta come può qualcosa di così semplice come un pensiero influenzare il mondo permettetemi di sottolineare che cento anni fa nessuno avrebbe creduto che le canzoni cantate da un gruppo di concorrenti di American Idol potessero passare attraverso mattoni vetro legno e acciaio per arrivare da una torre di trasmissione al vostro televisore nessuno avrebbe creduto che un telefono cellulare non più grande di un mazzo di carte ti avrebbe permesso di parlare con tua sorella a 2000 miglia di distanza i vostri pensieri come i 289 canali televisivi e come la vostra voce al cellulare sono onde vibrazionali quando sentite Eminem rappare su sua figlia Ilie il vostro timpano sta catturando un'onda sonora vibrazionale quando vedi il bastone di Brad Pitt o il singolo guanto di pelle di Madonna accessori che hanno sfoggiato ai Golden Globes 2012 stai vedendo modelli di onde luminose vibrazionali ed è questo che sono i vostri pensieri onde di energia vibrazionale che interagiscono e influenzano il CP ogni pensiero che avete che avete avuto o che avrete mai crea una vibrazione che esce nella CP estendendosi per sempre queste vibrazioni incontrano altre vibrazioni incrociandosi in un incredibile labirinto di energia mettete insieme abbastanza energia e si raggruppa in materia ricordate cosa diceva Einstein la materia si forma dall'energia il campo di potenzialità segue semplicemente l'energia che inviate e il vostro pensiero vibrazioni di pensiero attirano altre vibrazioni che corrispondono ecco un piccolo esempio qualche anno fa volevo uno schiacciapatate non l'ho detto a nessuno ho solo fatto una nota mentale la prossima volta che sei al Walmart compra uno schiacciapatate quella sera stessa la mia amica Wendy che stava ripulendo i suoi cassetti è passata con un paio di utensili da cucina non più necessari tra cui uno schiacciapatate un'altra volta ho deciso che avevo bisogno di più risate nella mia vita nel giro di un paio di settimane ho iniziato a frequentare Todd un collega divertente che alla fine è diventato un comico le coincidenze che vediamo nella nostra vita sono solo energia e CP al lavoro il più delle volte impieghiamo l'energia inavvertitamente totalmente ignari del fatto che ciò che pensiamo diciamo e facciamo fa la differenza di conseguenza attiviamo questo potere illimitato per seguire un programma default che non fa uso di immaginazione o possibilità la gente pensa che Gesù sia il tutto e per tutto perché era così bravo a manipolare l'energia e la materia ma come ha sottolineato in modo così toccante anche se queste non sono le sue esatte parole anche tu sei un uomo sono una mamma single non esattamente il miglior stereotipo in cui essere ingessata come l'essere nero o ebreo fa emergere certi preconcetti la gente si aspetta automaticamente che io sia povera magari con il sussidio mentre questo è certamente uno dei canali disponibili io preferisco guardare un canale diverso preferisco concentrarmi su una realtà diversa ecco cosa c'è scritto sul mio sito web pan grout è una viaggiatrice del mondo una madre amorevole un'autrice di best seller una milionaria e una testimone ispiratrice per tutti quelli che incontra ho iniziato a concentrarmi su queste cose venti anni fa prima di avere un figlio prima di diventare una viaggiatrice del mondo o un'autrice e per quel che conta prima ancora di piacermi così tanto concentrandomi su ciò che volevo ovviamente ha funzionato perché ora posso dire con orgoglio che tutte le cose di cui sopra tranne una sono vere vi lascerò indovinare quale deve ancora manifestarsi finora ho scritto sedici libri due sceneggiature una sop'opera dal vivo e abbastanza articoli di riviste che non sono morta di fame in venti anni mantengo un blog di viaggi che mi ha portato in tutti e sette i continenti ho scritto di tutto dal bungee jumping in Nuova Zelanda all'acquisto di tappeti in Marocco alla raccolta di caffè in Nicaragua devo ancora saltare da un aereo ma devo conservare qualcosa per il mio novantesimo compleanno il primo passo verso l'illuminazione spirituale abbandonare il tuo potente attaccamento alla realtà convenzionale siamo tutti prigionieri di una storia Daniel Quinn autore di Ishmael la realtà non è tutto quello che si dice in effetti non è azzardato dire che tutto ciò che si pensa sia reale non lo è i fisici da ormai cento anni non sanno cosa fare del fatto che la visione classica del mondo di Newton non ha assolutamente nulla a che fare con il modo in cui il mondo funziona al suo interno il regno subatomico sfida così tanto la ragione e la logica che la maggior parte degli scienziati spaventati di mettere in pericolo le loro credenziali accademiche hanno più o meno ignorato il fatto che la vita non è affatto come la immaginiamo noi in effetti è così strano particelle che spuntano dal nulla tempo che rallenta e accelera particelle che reagiscono e comunicano tra loro anche se separate da migliaia di chilometri che l'unica cosa che gli scienziati hanno fatto finora con queste informazioni è sviluppare una tecnologia che ci permette di farci saltare in area a vicenda inviare messaggi di testo ricevere messaggi dal cellulare e di far esplodere le nostre cene in tv da Angry Man anche i due principali fondamenti della realtà fisica spazio e tempo non sono quello che sembrano questo due pilastri fisici non sono altro che illusioni ottiche estremamente convincenti fisici come Bernard Espagnat recente vincitore del Templeton Prize da 1,4 milioni di dollari ci dicono che è giunto il momento di scambiare la nostra vecchia formulazione della legge naturale con una visione radicalmente diversa e più accurata della realtà cioè che la coscienza stessa crea il mondo materiale anche se tutti i fisici del pianeta sanno dell'universo bizzarro in cui la materia nasce dal nulla e in cui gli elettroni possono saltare da un'orbita all'altra senza attraversare lo spazio la maggior parte ha scelto di ignorarlo di scrollare le spalle e di usare il vecchio qualunque cosa non è che siano in totale negazione come ho detto hanno usato la nuova fisica per sviluppare laser transistor superconduttori e bombe atomiche ma non possono nemmeno iniziare a spiegare come funziona questo mondo quantistico come ha osservato il fisico James Treffel abbiamo incontrato un'area dell'universo che i nostri cervelli non sono cablati per capire alcuni fisici coraggiosi stanno iniziando a prendere coscienza del fatto che le loro preziose ipotesi potrebbero essere sbagliate stanno ammettendo che i principi fondamentali della realtà materiale non reggono alcuni sono anche abbastanza coraggiosi da ammettere che la coscienza stessa crea il mondo fisico come dice il dottor Fred Alan Wolf un fisico popolarmente conosciuto come dottor quantum si riduce a questo l'universo non esiste senza un percepitore di quell'universo tutto quello che ho da dire è era ora un corso in miracoli un programma di autoapprendimento in psicologia spirituale che ho praticato e insegnato per 25 anni ha sempre sostenuto l'idea che la coscienza crea il mondo materiale dice che noi uomini decidiamo in anticipo come sperimentare la vita che scegliamo in anticipo ciò che vogliamo vedere il problema è che tutti noi guardiamo il mondo con un gigantesco truccelo sulla spalla tutto quello che dobbiamo fare per cambiare il corso delle nostre vite miserabili è superare il nostro continuo rancore contro il mondo per vedere attivamente e aspettarci una realtà diversa così come ora noi devotiamo tutto il nostro tempo e la nostra attenzione la nostra coscienza se volete alle cose che non vogliamo ma non è altro che una cattiva abitudine e come ogni cattiva abitudine può essere cambiata con uno sforzo cosciente e deliberato è ciò che non è il concetto che l'uomo ha del suo mondo costruito sull'esperienza dei cinque sensi non è più adeguato e in molti casi non è più valido Shafika Karagula psichiatra di origine turca in questo momento il pianeta che chiamate casa sta girando ad una velocità di circa 930 miglia all'ora sta orbitando intorno al sole ad una velocità sorprendente di 66.486 miglia all'ora ma a meno che tu non ti sia appena scolato un paio di boccali di birra probabilmente non sei consapevole di questo movimento questo è solo un piccolo esempio di come distorciamo la realtà si scopre che quasi tutti i concetti e i giudizi che diamo per scontati sono distorsioni molto presto diciamo intorno alla nascita la nostra mente stabilisce un modello di percezione e poi procede a filtrare tutto il resto in altre parole sperimentiamo solo le cose che corrispondono alla nostra percezione molto limitata una ragazza delle Filippine mi ha detto che ci sono volute settimane se non mesi dopo il suo arrivo negli Stati Uniti prima che notasse che alcune persone qui avevano i capelli rossi comprese le persone che conosceva e con cui aveva a che fare regolarmente i capelli rossi non erano coerenti con quello che era stata condizionata a vedere e aspettarsi così per diversi mesi è stata soggettivamente cieca ai capelli rossi vedendoli come la bruna della sua cultura gli scienziati ora sanno che il cervello riceve 400 miliardi di bit di informazioni ogni secondo per darvi un'idea di quanto sia informazione considerate questo ci vorrebbero quasi 600.000 libri di media grandezza solo per stampare 400 miliardi di zeri inutile dire che è un sacco di realtà quindi cosa facciamo? cominciamo a selezionare cominciamo a restringere il campo prendo quel pezzo di informazione laggiù e vediamo questo si adatta bene alla mia sopopera in corso sul sesso opposto quando tutto è stato detto e fatto siamo scese a 2000 miseri pezzi di informazione fate pure un inchino perché anche questo è piuttosto impressionante stiamo parlando di 2000 bit di informazione ogni secondo ma ecco il problema quello che scegliamo di prendere è solo la metà di un milionesimo di percentuale di quello che c'è là fuori facciamo finta che ogni punto di una punta di penna sia un bit di informazione mi sono esercitata e il massimo di punti che posso ragionevolmente fare in un secondo è 5 ma cerchiamo di essere generosi e supponiamo che tu sia più bravo di me a fare i punti della penna facciamo finta che tu riesca a fare 10 punti al secondo di nuovo supponiamo che ogni punto sia un po' di informazione per fare tanti punti quanti ne elabora il tuo cervello in un secondo? ci vogliono quasi 3 minuti e mezzo alla tua velocità altamente superiore di 10 punti al secondo ma se il tuo cervello elaborasse tutte le informazioni disponibili 400 miliardi di punti ci vorrebbero 821 anni il nostro cervello setaccia continuamente le possibilità e sceglie quali informazioni vedere e credere per pura pigrizia le cose che scegliamo di percepire e non fate errori è una scelta sono cose che già conosciamo sono cose che abbiamo deciso molto tempo fa vediamo sentiamo assaggiamo tocchiamo e odoriamo non il mondo reale ma una versione drasticamente condensata del mondo una versione che il nostro cervello ha letteralmente inventato il resto sfreccia senza essere riconosciuto John Maunel un neuroscienziato dell'università di Harvard dice le persone immaginano di vedere quello che c'è veramente ma non è così una volta che lei decide quali bit far entrare costruisce ponti tra le varie cellule nervose intrecciando le fibre nervose per creare percorsi neurali l'uomo medio ha 100 miliardi di cellule nervose ognuna con innumerevoli tensioni ex quindi in ogni cervello vengono costruite autostrade diverse la mappa dei percorsi neurali nel tuo cervello e diciamo nel cervello di Johnny Depp sono diverse come le mappe del Wisconsin e del Rhode Island una volta che hai costruito i percorsi smetti di viaggiare per il resto del paese l'interstatale 70 nel mio stato di nascita il Kansas è una metafora perfetta che ci crediate o no il Kansas lo stato che il mago di Oz ha ritratto in bianco e nero contiene effettivamente molti punti di riferimento geologici c'è un gran canyon in miniatura nell'angolo nord-ovest per esempio è un'enorme formazione calcarea a sette piani chiamata Castle Rock vicino alla città di Quinter ma poiché la gente che viaggia attraverso il Kansas raramente lascia la E70 nessuno ha la minima idea dell'esistenza di queste formazioni geologiche hanno letteralmente bipassato tutte le cose belle degne di nota e sono giunti all'errata conclusione che il Kansas è piatto e noioso ma non è la realtà come quei pianificatori di autostrade che mettono la E70 sul percorso più piatto più veloce e più facile noi costruiamo i nostri percorsi neurali sui percorsi meno complicati quelli che abbiamo già percorso tante volte ma questo non ci mostra la realtà neanche lontanamente non iniziamo a vedere tutto quello che c'è solo tre minuti e mezzo rispetto a 821 anni le strade e le autostrade del nostro cervello vengono impostate molto presto quando nasciamo ogni possibilità esiste prendiamo il linguaggio per esempio in ogni neonato c'è la capacità di pronunciare ogni suono in ogni singola lingua il potenziale c'è per il rullare della lingua spagnola c'è anche per i dittonghi gutturali tedeschi ma molto presto il nostro cervello stabilisce percorsi neurali che si adattano ai suoni che sentiamo ogni giorno eliminando altri suoni di altre lingue con la possibile eccezione di Barbara Walters più o meno tutti coloro che parlano inglese possono pronunciare la seguente frase rolling grok really roses Roland Ratinsky ma quando le persone provenienti dalla Cina cercano di imparare l'inglese non hanno più i percorsi neurali per dire correttamente le loro R ecco perché fried rice diventa fly glitze giusto perché nessuno pensi che io sia etnocentrica dovrei probabilmente aggiungere che ho provato a pronunciare alcune di quelle parole tedesche gutturali solo per scoprire che i miei percorsi neurali tedeschi sono stati sparati all'inferno e ritorno forse il migliore esempio di come la vostra mente crea il proprio gioco di realtà virtuale è il sogno quotidiano da giardino quando Morley Safer si è presentato alla tua porta ieri sera facendoti tutte quelle domande imbarazzanti sembrava piuttosto reale ma una volta che la sveglia è suonata Morley e quell'intervista virtuale di Sixty Minutes sono scoppiati come la fragile bolla di sapone che era i nostri percorsi neurali stabiliscono repliche di ciò che è successo prima come il bambino di tre anni che insiste a guardare la sirenetta ancora e ancora ci aggrappiamo alle nostre illusioni distorte con una presa tenace togli le tue maledette mani dalla mia illusione anche se ci rende infelici preferiamo riporre la nostra fede nel disastro che abbiamo fatto osserviamo le cose in forma ci vuole zero fede quello che ci vuole è l'immaginazione se è chiaro nel tuo pensiero è anche questo momento che ti piomba addosso come un camion Mac Richard Bach autore di illusioni e altri romanzi metafisici se me lo chiedete imparare a trasformare l'energia è così importante che dovrebbe essere insegnato insieme alla lettura alla scrittura e all'aritmetica e tutto inizia con l'intento la forza che sta dietro ogni cosa è l'energia il carburante la carica elettrica che crea un campo di risonanza e manda onde di probabilità nel CP Ester X che facilita il Abraham X lo chiama a lanciare un razzo di desiderio dare attenzione aggiunge massa nel momento in cui fate un'intenzione la create è istantaneo esiste come una cosa reale non lo vedi ancora perché stai ancora operando dal tempo lineare siete ancora venduti sul vecchio adagio creare le cose richiede tempo così continui a lavorare e ad aspettare continui a seguire i sette passi dell'ultimo libro di autoaiuto ma ecco cosa ci dicono i fisici le cose nel mondo quantistico non accadono per gradi accadono immediatamente quindi la cosa che intendi nel momento in cui la intendi esiste ma come il gatto di Schrödinger un famoso esperimento mentale ideato nel 1935 dal fisico austriaco Erwin Schredina sei solo consapevole della realtà che scegli di osservare la manifestazione fisica rimane avvolta al di fuori della tua coscienza attuale i fisici d'avanguardia ci dicono che la vita è multidimensionale ma la maggior parte di noi è bloccata nella nostra realtà fisica unidimensionale limitata a ciò che sperimentiamo con i nostri cinque sensi ciò che sperimentiamo con questi presunti strumenti di osservazione infallibili non sono altro che ciò che decidiamo di cercare non è nemmeno una questione di uovo o gallina ciò che vediamo sperimentiamo e sentiamo con i nostri cinque sensi viene sempre dopo la decisione di vederlo sperimentarlo e sentirlo io paragono la coscienza a un gigantesco grattacielo posso vivere al secondo piano ma la cosa che ho creato con il mio pensiero è al diciassettesimo piano finché non riesco ad arrivare al diciassettesimo piano sembra che manchi ancora che io stia ancora aspettando un'altra grande analogia è un televisore se hai l'antenna satellitare hai più di cento canali per guardare sky a parte però puoi guardare solo un canale alla volta quando stai guardando diciamo modern family stai ridacchiando delle buffonate di cam mitchell phil e gloria e sei completamente ignaro degli altri 99 o più canali ecco perché è davvero importante rimanere sul canale che volete non date spazio alla realtà da cui state cercando di uscire sintonizzati solo sul tuo intento motivi per cui ci inseriamo in programmi che non ci piacciono viviamo in un mondo che adora le limitazioni Tama Keeves autore di questa volta ballo 1 non siamo veramente qui non in questo momento l'adesso è il punto di forza ecco perché è così facile per uno yogi che consapevolmente cancella la staticità mentale cambiare la frequenza cardiaca il polso e altre funzioni corporee se non sei veramente qui la tua mente non è disponibile a fare ciò che le stai chiedendo di fare è imperativo praticare la consapevolezza cosciente momento per momento altrimenti state operando a partire da vecchie credenze incrostate credenze che avete scaricato prima che aveste 5 anni vuoi davvero che un bambino di 5 anni gestisca la tua vita? quando trovo la mia coscienza che opera al di fuori dell'adesso che purtroppo è una grande percentuale del tempo mi ricordo delicatamente di questa analogia l'autista dell'UPS ha appena consegnato a casa mia ogni singola cosa che ho sempre desiderato ma poiché ho lasciato l'edificio non me ne rendo nemmeno conto sono fuori a caccia di miseri sostituti tutto è proprio lì una volta che riporto la mia coscienza alla temporalità di ora 2 l'abbiamo chiamato difficile il potere di creare con i nostri pensieri è un gioco da ragazzi questo non è nemmeno in discussione ma continuiamo a dire ai nostri amici e soprattutto a noi stessi che è difficile o che ci stiamo ancora lavorando nota solo nei prossimi giorni quanto spesso affermate che è difficile o impegnativo fate attenzione a quanto spesso dite le cose sono sempre state così o è una cosa di famiglia passiamo così tanto tempo a parlare di ciò che non funziona che perdiamo l'intero punto cioè che abbiamo il potere di creare qualcosa che funziona 3 perseguitiamo la negatività cosa studiamo? malattie problemi disastri del passato per cosa ci prepariamo? alle emergenze ci piace affondare i denti nei problemi e chiedere cosa c'è che non va? è una vecchia scuola che ha bisogno di essere trasformata una volta che cominciamo a cercare ciò che è giusto la nostra vita comincia a girare in nuove direzioni inimmaginabilmente eccitanti ed ecco la verità ogni cosa sbagliata che in realtà non è altro che un giudizio avventato ha un rovescio della medaglia la mancanza è il rovescio dell'abbondanza la malattia è il rovescio della medaglia della salute entrambe le idee esistono allo stesso tempo entrambe sono vere scegliendo di vedere un aspetto si nasconde l'altro aspetto altrettanto probabile purtroppo vivendo nella coscienza dello spazio e del tempo si può osservare solo un lato della medaglia alla volta ma è importante rendersi conto che l'altro lato è altrettanto reale e che in qualsiasi momento si può semplicemente girarlo gli opposti per esempio abbondanza carenza sono entrambi veri è una questione di quale realtà preferisci vivere 4 per George pensiamo di aver capito una volta che definisci qualcosa non la metti più in discussione una volta che conosci qualcosa diventa la tua realtà ma conoscere qualcosa è estremamente restrittivo in termini quantistici fa collassare l'onda non lasciando spazio al mistero alla meraviglia e a nuove scoperte pensateci se una delle tue braccia è piena di libri e l'altra di una borsa della spesa è impossibile prendere qualcos'altro puoi avere un sacco di conoscenza e un mucchio di gradi accademici incorniciati e appessi alla secondo piano di quel grattacielo ma come membro ci sono molti altri piani cioè dimensioni e tutto ciò che sai può bloccare le potenzialità 5 la mente è così potente che può creare qualcosa al di fuori di se stessa per essere più potente ecco perché è essenziale quando si fanno gli esperimenti sospendere il giudizio abbastanza a lungo da credere che funzionino se siete convinti che siano un secchio di balle formato famiglia raccoglierete dati per sostenere questo punto di vista 6 non ci siamo davvero esercitati usare la CP per dirigere la propria vita non è un esercizio intellettuale non è una teoria è una pratica come padroneggiare le scale o imparare a giocare a ping pong Tiger Woods avrà avuto solo 18 anni quando ha vinto il campionato amatoriale degli Stati Uniti ma aveva già accumulato 16 anni di pratica e dedica ancora molte ore al giorno al condizionamento e alla pratica non si può conoscere la saggezza può solo essere la saggezza ed è qui che entra in gioco questo libro scegliere un altro canale emancipatevi dalla schiavitù mentale nessuno tranne noi stessi può liberare la nostra mente adesivo in vendita sul sito web di Green Living lo scopo di questo libro è di liberarvi dalla prigionia delle vostre illusioni di aiutarvi a mettere da parte il comunicato stampa fabbricato che credete sia la realtà la buona notizia è che non dovete cambiare uno solo dei vostri comportamenti tutto quello che dovete fare è cambiare la vostra mente nel caso non abbiate controllato Amazon ultimamente ci sono letteralmente migliaia di libri su come cambiare il vostro corpo all'ultimo conteggio Panini da solo meritava 678 libri e CD ma per quanto posso dire non c'è un solo libro su come modellare la tua mente eppure la vostra mente con tutti i suoi percorsi preimpostati e malinterpretati è la radice di tutti i vostri problemi ricordate che è la coscienza come stanno cominciando a riconoscere coraggiosi fisici come Fred Wolf che crea la realtà fisica anche quei Panini che non sono ancora d'acciaio puoi tornare più e più volte al negozio di scarpe ma non venderà mai il latte e tutti quei disperati tentativi di cambiare il tuo corpo la tua relazione il tuo riempimento del vuoto non funzioneranno mai finché non imparerai a cambiare e modellare la tua mente è piuttosto difficile controllare la tua mente quando pensi di doverlo fare per sempre ma stabilendo un lasso di tempo definito come negli esperimenti di questo libro la tua mente può essere persuasa a fare un tentativo è come un programma in dodici passi cercare di rimanere sobri per sempre non può funzionare un giorno alla volta ora, questo è qualcosa che una mente può avvolgere tutti gli esperimenti tranne due richiedono 48 ore o meno sono due brevi giorni su una vita di oltre 70 anni anche una mente flaccida può impegnarsi in questo perché vi do 48 ore chiamalo il vecchio principio della scadenza quando un editore dà una scadenza lui o lei sa di iniziare a controllare il manoscritto in quel periodo le scadenze ci danno qualcosa da aspettarci qualcosa da cercare quando sei su una strada di campagna sconosciuta e cerchi la cassetta della posta verde dove dovresti girare a sinistra per andare a casa del tuo appuntamento al buio ti aiuta a sapere che sono 8,1 miglia dall'ultima svolta altrimenti cominci a chiederti se l'hai mancata e finisci per tornare indietro una scadenza ti spinge semplicemente a prestare attenzione una volta ho chiesto una guida per decidere se iniziare o meno a scrivere freelance a tempo pieno lavoravo 20 ore alla settimana per una piccola azienda e scrivevo di nascosto mi piace molto risorse e sviluppo dissi riferendomi al posto in cui lavoravo ma ho questo sogno vedete di essere un freelance a tempo pieno non è che non mi piaccia scrivere lettere di raccolta fondi è solo che voglio perseguire le mie idee di storia scrivere delle cose che bruciano nel mio cuore cosa ne pensi stavo già ricevendo molti incarichi grandi riviste nazionali stavano chiamando stavo facendo nuovi contatti ricevendo spunti su un paio di idee e di rubriche questa sarebbe stata una risposta sufficiente per alcune persone ma io sono ottusa volevo un segno indiscutibili ok continuai ho bisogno di un segno che non possa essere liquidato come coincidenza inoltre impongo una scadenza precisa ho bisogno di saperlo nelle prossime 24 ore il giorno dopo sono stata licenziata un'altra volta quando il mio lavoro da freelance era lento ho inviato curriculum qualcosa che sono inclina a fare ogni volta che mi sento in preda al panico sicuramente mi è stato offerto un lavoro in poche settimane l'offerta scrivere materiale di marketing per una linea di autobus locale ok non ho detto che mi hanno offerto un lavoro interessante in due settimane era per più soldi di quanti ne avessi mai guadagnati in vita mia ma come potevo permettermi di rinunciare a tutto quel tempo ero davvero pronta a rinunciare alla mia carriera di freelance? ancora una volta ho preteso un segnale chiaro avevo bisogno di saperlo entro 24 ore perché era il momento in cui dovevo dare al mio datore di lavoro un sì o un no la mattina seguente travel e ledger la rivista per cui volevo scrivere di più mi chiamò per darmi un incarico ho riattaccato ho gridato sì ma la mia guida doveva essere in vena di mettersi in mostra quel giorno perché neanche 15 minuti dopo un'altra rivista di cui non avevo mai sentito parlare figuriamoci se avevo inviato una richiesta mi chiamò e voleva una storia sulle bistecche di Kansas City ho dovuto chiamare e dire al mio aspirante capo grazie ma no grazie essere nel regno come dice a course in miracles è semplicemente focalizzare la tua piena attenzione su di esso devi essere disposto a non percepire nient'altro attualmente le nostre menti sono dedicate a cose che non vogliamo le nostre intenzioni positive occupano solo una piccola parte della nostra mente il resto è concentrato sui problemi che speriamo che le intenzioni eliminino la maggior parte della nostra potenza cerebrale è dedicata alle vecchie credenze di scarsità di relazioni problematiche e di un Dio che spara fulmine di fuoco dal cielo la ragione per cui il 99,9% della tua mente è ancora dedicata a cose che non vuoi è perché questa è l'impostazione predefinita del mondo ciò che definisce come normale l'impostazione predefinita del mondo vede notizie di inondazioni e terremoti sente storie sull'epilessia di tuo cugino di secondo grado e dice vedi, cosa ti avevo detto è quasi impossibile annullare l'impostazione predefinita del mondo anche se sai, almeno teoricamente che un altro modo è possibile prendiamo l'essere al verde, per esempio la maggior parte di noi, è d'accordo che non vuole essere al verde quindi cosa facciamo? dedichiamo la nostra mente, ad evitarlo lavoriamo molte ore chiamiamo i nostri agenti di cambio leggiamo libri e articoli sul diventare ricchi ignorando completamente il fatto, che cercando di diventare ricchi stiamo dedicando la nostra mente, all'idea che non siamo già ricchi di conseguenza, abbiamo deciso in anticipo di essere al verde se semplicemente, dedicassimo la nostra mente, a sentirci ricchi ad essere grati, per tutte le ricchezze già apparenti nella nostra vita ad esempio le nostre famiglie, e i nostri meravigliosi amici l'essere al verde scomparirebbe lo sperimentiamo solo perché ci dedichiamo i nostri pensieri ecco quanto, è potente la nostra mente la mia amica Carla, è fermamente convinta che quando ti senti al verde devi semplicemente uscire a fare shopping immediatamente, devi dare un calcio a quella convinzione nelle palle è così che credo, lo dica lei l'ho provato una volta, durante un viaggio stampa a macchina Kailand, Michigan stavo appena lanciando la mia carriera da freelance non ero ancora sicura, di come questa cosa dei soldi, sarebbe andata a finire alloggiavo al lussuoso Grand Hotel profondamente consapevole che i vestiti, che avevo infilato nella mia valigia, all'ultimo minuto non erano all'altezza, del guardaroba di Jane Seymour, in Summer in Time e nemmeno degli attuali ospiti del Grand che sgranocchiavano i loro biscotti da tè, sul portico a 660 piedi chiaramente, non ero vestita bene e la cena di cinque portate uomini in giacca e cravatta, non era ancora iniziata ho gironzolato nel costoso negozio di souvenir e i miei occhi, sono stati immediatamente attratti da uno splendido abito di seta verde acqua una sbirciata furtiva al cartellino del prezzo fu la prova positiva, che quel che quell'abito era ben oltre il mio normale budget quattro volte tanto infatti, quello che spendo di solito per un vestito è stato allora, che ho capito che dovevo averlo dovevo recitare la parte, dello scrittore freelance di successo che volevo essere ho comprato quel vestito sapendo, che stavo preparando la strada per il successo finanziario nella mia nuova carriera come addomesticare un cucciolo tutti pensano a cambiare il mondo ma nessuno pensa, a cambiare se stesso Leo Tolstoi, romanziere russo se il tuo cervello è come il mio inclina a procrastinare, facilmente confuso e distraibile cambiare idea, può essere una vera sfida mi piace pensare, che sia come quando si addestra un cucciolo basta continuare a portarlo fuori e mostrargli una realtà diversa fino a quando finalmente realizza wow, c'è un mondo enorme là fuori ed è molto più divertente fare pipì sugli alberi e sui cespugli e sugli idranti che sulle vecchie pantofole di Pam la tua mente sarà stupita dalla bellezza che è disponibile quando la metti sul posto la pace profonda apparirà grandi idee si materializzeranno e si espanderanno la gioia sorgerà l'unica cosa che devi fare è dedicare la tua mente solo alle cose che vuoi se vuoi pace pensate alla pace se vuoi l'amore pensa all'amore se vuoi le scarpe Jimmy Cho pensa alle scarpe Jimmy Cho non pensare a come la pace sembra impossibile o che l'amore sembra fugace o che non ci sono soldi nel tuo conto in banca per le scarpe Jimmy Cho tieni la tua mente concentrata solo su ciò che vuoi e ogni volta che quel cucciolo inizia a dirigersi verso quelle pantofole prendilo e riportalo fuori nel film Man on Fire Denzel Washington interpreta un ex agente delle forze speciali che diventa la guardia del corpo della giovane figlia di un ricco uomo d'affari messicano nonostante i tentativi di Denzel di rimanere neutrale e non coinvolto finisce per diventare una figura paterna perpita facendole da tutor per i compiti e aiutandola a guadagnarsi un posto nella squadra di nuoto un'attività che lei ama più delle le lezioni di piano su cui insiste il padre più e più volte durante il loro allenamento di nuoto Denzel grida la stessa domanda allenata o non allenata e Pita risponde esuberante allenata quindi ripeto la domanda la tua mente è addestrata o non addestrata e spero che presto sarete in grado di gridare addestrata la più grande scoperta e sviluppo dei anni a venire saranno lungolinee spirituali ecco una forza che la storia chiaramente insegna che è stata la più grande potenza nello sviluppo dell'uomo e della storia eppure abbiamo solo giocato con essa e non l'abbiamo mai studiata seriamente come abbiamo fatto con le le forze fisiche un giorno la gente imparerà che le cose materiali non portano felicità e sono di scarsa utilità per rendere gli uomini e le donne creativi e potenti allora gli scienziati del mondo rivolgeranno i loro laboratori allo studio delle forze spirituali quando questo giorno arriverà il mondo vedrà più progresso in una generazione di quanto che nelle ultime quattro Charles Proteus Steinmetz inventore del motore a corrente alternata tutta la vita è un esperimento più esperimenti si fanno e meglio è Ralph Waldo Emerson saggista americano non hai bisogno di un camice bianco di nanotubi di carbonio e nemmeno quegli antiestetici occhiali protettivi per condurre i seguenti esperimenti tutto ciò di cui hai bisogno è una mente aperta e la capacità di osservare registrare le tue scoperte e essere disposti a inquadrare le cose sotto una nuova luce per quelli di voi che sono stati bocciati in chimica iniziamo con un corso di aggiornamento fondamenti di scienza niente mi sconvolge sono uno scienziato su una maglietta del designer Jay Bertrand 1. Cos'è esattamente la scienza? secondo il Webster's Dizionario la scienza è a conoscenza raggiunta attraverso lo studio o la pratica di solito inizia con una teoria 2. Ok, allora cos'è una teoria? per la maggior parte di noi una teoria è un fatto vago e confuso ma quando si parla di teoria scientifica si parla di un quadro concettuale che spiega le osservazioni esistenti e ne prevede di nuove una teoria viene accettata non sulla base e sul prestigio o sul potere di persuasione del suo sostenitore ma sui risultati ottenuti attraverso osservazioni e o esperimenti che chiunque può riprodurre per esempio la teoria di gravità può essere provata da chiunque da un bambino che salta fuori da un letto a castello a un prete voodoo che salta sopra una capra sacrificale in infatti la maggior parte degli esperimenti di laboratorio sono ripetuti molte decine e quadrilioni di volte l'altra caratteristica di una teoria scientifica è che è falsificabile il che significa che un esperimento potrebbe anche dimostrare che non è vera la teoria che Marte è popolato da piccoli omini verdi che fuggono ogni volta che li cacciamo non è falsificabile perché in questa teoria i marziani scompaiono sempre ogni volta che qualcuno li rintraccia ma la teoria che i marziani non esistono è scientifica perché si può falsificarla catturandone uno e procurandogli un invito a Good Morning America 3 allora cos'è un'ipotesi? di nuovo nel gergo comune un'ipotesi è un sinonimo di congettura ma per uno scienziato un'ipotesi è una supposizione di lavoro su come funziona il mondo ogni esperimento inizia con un'ipotesi si fanno osservazioni su come funziona il mondo e poi si arriva ad un'ipotesi che può essere testata per vedere se ha un valore di verità di solito è come un'affermazione che può essere confutata o dimostrata è spesso scritta come un'affermazione se allora se faccio questo e quello allora questo e quello e tal accadrà se x si verifica allora y seguirà oppure come x aumenta cos'è sarà y? lo usiamo per formare un metodo scientifico 4 mi scusi un metodo scientifico il metodo scientifico è universalmente accettato come il modo migliore per separare la verità dalle bugie e illusioni la versione semplice è qualcosa del genere porre una domanda raccogliere informazioni formulare un'ipotesi testare l'ipotesi registrare e studiare i dati trarre conclusioni il grande vantaggio del metodo scientifico è che non ha pregiudizi funziona allo stesso per tutti le conclusioni saranno valgono indipendentemente dal vostro colore di capelli dalla vostra persuasione religiosa o dal vostro numero di scarpe un paio di regole di base lo state facendo perché siete fantastici coraggiosi e curiosi e, sì, sei probabilmente un po' pazzo e questa è una buona cosa Chris Bati, fondatore del Mese Nazionale della Scrittura del Romanzo ognuno dei seguenti capitoli presenta un importante principio spirituale e un esperimento scientifico empirico per dimostrarne la validità potete fare gli esperimenti uno dopo l'altro che è quello che fa la maggior parte delle persone perché si eccitano così tanto dopo il primo oppure potete saltare fatene uno questa settimana provane un altro la prossima settimana dipende tutto da voi prima di lanciare ogni esperimento fai l'intenzione di rinunciare ai condizionamenti del passato il solito inizio con questo adagio di un corso in miracoli apri la tua mente e liberala da tutti i pensieri che potrebbero ingannare e poi, sii vigile nel ricevere le prove cercatele nello stesso modo in cui cerchereste un mazzo di chiavi della macchina scomparse in un giorno in cui hai finito latte e il bambino piange dopo aver cercato ovunque le metti di solito nella tua borsa nella borsetta nella tasca dei pantaloni cachi sul bancone vicino alla porta cominci a sollevare i cuscini del divano a strisciare sotto il letto e a setacciare la lettiera del gatto l'importante è che non smetti di cercare finché non stringendoli tra le tue zampette su dice se vai al supermercato per il detergente per la velli non torni a casa finché non trovi lo scaffale con il Comet Ajax e il Mr. Clean se vai in libreria a prendere l'ultimo romanzo di John Grisham non ti sottrai con qualche debole scusa sul fatto di non riuscire a trovare la sezione G si va in negozio sapendo perfettamente che sarà lì alla fine di ogni capitolo c'è una relazione di laboratorio queste sono simili alle relazioni di laboratorio che usano i veri scienziati è importante annotare il momento in cui lanci ogni esperimento prendete appunti documentate ogni scoperta il più dettagliata è la mappa migliore è il modello che avrete per ulteriori studi mentre registrate tutte le tue percezioni ed esperienze sii disposto a rischiare di avere torto per ottenere i dettagli verificabili che dimostrino che hai ragione ok pronto a diventare uno scienziato pazzo esperimento 1 il principio il tizio resta c'è una forza energetica invisibile o campo di infinite possibilità tutti gli altri stanno aspettando l'eternità e gli sciamani dicono che ne dici di stasera Alberto Biloldo autore di origine cubana e insegnante di energia medicina la premessa questo esperimento vi dimostrerà una volta e per tutte che c'è una forza amorevole abbondante totalmente in voga nell'universo alcune persone la chiamano Dio voi potete chiamarlo Prana il tutto c'è o Cosmo Kramer per quanto mi riguarda il problema fino ad ora è che abbiamo dovuto prendere questa forza per fede non ci è stato permesso di vederla o toccarla ma di sicuro ci è stato chiesto di fare molte cose in suo nome come la decima e la meditazione e mettere la cenere sulla testa preferisco di gran lunga l'idea di un'energia che si muove su strade a doppio senso dare e prendere vi dice qualcosa? in questo esperimento faremo sapere al CP che tesoro è ora o mai più siamo così stanchi di credere in qualcosa che si giocando a nascondino vogliamo una prova irrefutabile e la vogliamo ora conoscete quelle quattro piccole iniziali ASAP che significano il prima possibile beh quelle sono quelle a cui miriamo daremo alla CP esattamente 48 ore per darci un segno un segno chiaro un segno che non possa essere cancellato il neon funzionerebbe perché abbiamo comprato questa idea che la forza è vaga e misteriosa non ci aspettiamo davvero di trovarla o almeno non siamo sorpresi quando non lo facciamo perché non siamo stati allenati a notare questa forza ispiratrice energizzante forza che altera la vita è in zoom in intorno e attraverso di noi senza la nostra consapevolezza che io aspetta se la tua medicina non fa crescere il mais che utilità ha orso del sole anziano chi beva per coloro che vogliono aspettare i cancelli perlati fate pure è come una persona moderna di oggi che si rifiuta di usare l'elettricità tutto quello che per accedere all'elettricità è trovare una presa inserire un dispositivo elettronico o un apparecchio e voilà si ottengono tutti i tipi di cose pane tostato musica trasmessa dalle torri radio film e notizie e altri esseri umani che mangiano lumache su isole deserte dobbiamo riaddestrarci a pensare a questa forza energetica nello stesso modo in cui pensiamo ho là l'elettricità non ci chiediamo sono buono? abbastanza per collegare il mio tostapane alla presa di corrente? oppure ho pregato abbastanza a lungo? o abbastanza profondamente? abbastanza da meritare il diritto di accendere le luci della cucina? non ci sentiamo in colpa per voler accendere la radio e ascoltare la NPR il CP è altrettanto senza pregiudizi e disponibile come l'elettricità una volta che prendiamo la decisione di cercarla davvero cercarla e non è così difficile da trovare prove aneddotiche Dio non è il tipo di persona che alcuni vorrebbe farvi credere Alex Franco Fitch in Skinny Bones di Barbara Park questa è la sezione in cui parliamo dell'elefante nella stanza sì sto parlando di Dio a meno che tu non sia appena strisciato fuori da sotto una foglia di cavolo probabilmente hai notato che un sacco di gente parla di di questo tizio chiamato Dio un giorno su sette giorni è dedicato a venerarlo edifici di tutte le forme e dimensioni sono stati costruiti per onorarlo molti giornali hanno una sezione religiosa proprio accanto alla sezione politica le notizie locali il tempo e le cruciverba una qualche versione del tizio per prendere in prestito un soprannome dal cult classico il grande Lebovski esiste in ogni cultura che sia mai esistita anche i fisici la cui unica linea di lavoro è studiare le proprietà e le interazioni di materia ed energia conoscono la forza invisibile la maggior parte di loro non la chiama Dio Albert Einstein per esempio sosteneva di non credere nel Dio tradizionale ma sicuramente sapeva che c'era qualcosa di molto più succulento là fuori là fuori nel cosmo quel succo diceva era tutto ciò che gli interessava davvero il resto sosteneva erano solo dettagli il Dio in cui la maggior parte di noi crede è un'invenzione dell'uomo fabbricato per comodità accettiamo questo Dio creato dall'uomo come un fatto indiscutibili ma non ha senso se Dio è amore se Dio è perfetto se Dio è tutte le altre descrizioni benefiche che gli attribuiamo perché dovrebbe gettare qualcuno in una fossa di leoni inoltre perché mai qualcuno sano di mente vorrebbe mettersi con un Dio capriccioso è ingiusto che si diverte a punirli anche la più stupida delle donne sa che teoricamente non dovrebbe frequentare un ragazzo che potrebbe farle del male voglio dire chi ne ha bisogno? Dio come terrorista non so se Dio esiste ma sarebbe certamente meglio per la sua reputazione se non esistesse Jules Renard autore francese non appena ho imparato a b c mi fu insegnato che io la piccola Pammi su Graut ero una miserabile peccatrice e non ero all'altezza della gloria di Dio era un fatto come 2 più 2 uguale a 4 l'unica parte redentrice di questa importantissima lezione è che almeno non ero solo si scopre che anche tutti gli altri nel mondo sono peccatore anche la signora Bequit la mia maestra d'asilo dal cuore tenero che mi lasciava pochi la mia tartaruga domestica in classe un lunedì sì e uno no la cosa brutta di essere un peccatore è che garantisce un biglietto di sola andata per l'inferno era un po' difficile capire l'inferno dato che non avevo viaggiato molto più in là del 97 fratto 336 Kansas ma secondo mio padre l'inferno non era un posto dove si voleva stare era più caldo della casa di mia zia Gwen e mio zio Ted in Texas l'estate in cui il loro condizionatore si rompe e a differenza di quella vacanza che finiva dopo quattro giorni si resta all'inferno per l'eternità per capire l'eternità ha detto pensa a come ti sei sentito lo scorso 26 dicembre aspettando di nuovo il Natale la clausola di fuga è che si può essere salvato così quando avevo quattro anni con l'organista della chiesa che suonava just as I am mi camminai fino alla facciata della piccola chiesa metodista di Canton Kansas mi misi in ginocchio le mie piccole e nodose ginocchia di quattro anni e chiesto al buon dio di perdonarmi per i miei peccati la mia famiglia proveniente da una lunga stirpe di metodisti tirò collettivamente un sospiro di sollievo papà e mamma chiamarono tutte le zie e gli zii quella sera stessa per trasmettere la buona notizia beh la nostra figlia maggiore ora è ufficialmente salva si rallegrarono con orgoglio almeno possiamo essere sicuri che pa mandrà in paradiso la parte migliore pensavano era che la mia conversione non poteva che essere di buon esempio per mia sorella Becky che aveva due anni e mio fratello Bobby che aveva solo tre mesi anche se segretamente speravo che gli avrebbero dato fino a quando non fosse stato abbastanza grande per parlare naturalmente non si voleva correre alcun rischi voglio dire Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento giorno o notte era come un ladro nella notte poteva venire al mattino mentre stavi mescolando i cerchi nei tuoi cereali poteva venire all'intervallo mentre pendevi dalle ginocchia sulle barre per scimmie poteva anche venire alle due del mattina mentre dormivi il che poteva essere un vero problema se ti capitava di avere il sonno pesante Gesù potrebbe strapparti prima che tu abbia il tempo di toglierti il sonno dagli i tuoi occhi e a questo non volevi nemmeno pensare voglio dire la casa di zia Gwen e zio Ted era calda nello stesso momento in cui stavo imparando ad accettare la mia vera identità peccaminosa mi veniva detto e ancora che Dio è amore mai non importava che le chiese presentassero Dio come una specie di telecamera nascosta che sorvegliava tutto quello che facevo non aveva alcun senso razionale ma naturalmente io avevo solo quattro anni che cosa sapevo anche se ero incredibilmente vicino all'essere un bambino perfetto prendevo sempre il massimo dei voti cercavo di non litigare con i miei fratelli stavo lontano dalla droga e dall'alcol e persino rifacevo il mio letto senza che me lo dicessero mi sentivo costantemente criticata da questo Dio amorevole che era seduto in cielo e si sfregava allegramente le mani ogni volta che sbagliavo il che accidenti ops ecco che vado di nuovo usando il suo nome in vano sembrava essere piuttosto spesso che eredità da scaricare su un innocente bambino Dio assomiglia a Zizi Top e altri miti fastidiosi le nostre idee su Dio ci dicono di più su noi stessi che su di lui Thomas Merton mistico cristiano chiedete all'individuo medio se crede in Dio e probabilmente dirà qualcosa come beh tuttavia è improbabile che egli si sia mai chiesto esattamente cosa intende per Dio quando gli verrà chiesto probabilmente qualche cliché su il tizio al piano di sopra cercare di definire Dio naturalmente è impossibile Dio non è statico così come non è statica l'elettricità o la luce Dio si trova al di là del mondo materiale della materia della forma e delle forme esso riempie il cosmo satura la realtà e sostituisce il tempo e lo spazio ma questo non ci impedisce di cercare di costruire delle definizioni ecco sono le otto cose più assurde che abbiamo inventato su Dio assurdità 1 Dio è un Lui anche se le chiese progressiste a volte si riferiscono a Dio come lei il Picù non ha davvero a un genere certamente non parliamo di signora elettricità o signor gravità il pronome più appropriato sarebbe esso la cipi è un campo di forza che gestisce l'universo la stessa fonte di energia che fa crescere i fiori forma le croste sulle ginocchia sbucciate e costantemente spinge per la completezza Dio è più simile alla forza in Star Wars una presenza che abita dentro di noi un principio che ci fa vivere ecco perché Luke Skywalker e Darth Vader sono diventati un tale fenomeno Star Wars è un mito che ci parla a un livello profondo viscerale una parte di noi sa che la forza è con noi attraverso le nostre parole pensieri e azioni creiamo il mondo assurdità 2 Dio assomiglia agli zizi top fa segni di spunta neri dopo il tuo nome ed è fondamentalmente troppo occupato a lavorare sulla fame nel mondo per preoccuparsi di te Dio se credi alla scatola accettata è un po' come Buradlin to kill a mockingbird questo misterioso vicino costantemente scrutare fuori dalla finestra del suo attico in attesa di beccarci a fare qualcosa cattivo non possiamo davvero vederlo ma siamo stati adeguatamente avvertiti della sua presenza lì a guardare giudicando monitorando ogni nostra mossa se non segui questo comandamento o se infrangi questa regola Dio potrebbe mandare il suo angelo dei servizi segreti a cercarti per darti un colpo in testa assurdità 3 Dio fa dei favoritismi il CP è un campo di forza che è ugualmente disponibile per tutti è una capacità naturale in tutti noi non un dono esclusivo concesso a pochi infatti questa è la lezione principale che Gesù ha insegnato Dio è dentro tu sei parte di Dio puoi fare miracoli adorare Gesù come facciamo noi è un po' come adorare Benjamin Franklin perché ha scoperto per primo l'elettricità Ben Franklin mandò quell'aquilone in una tempesta elettrica in modo che noi potessimo usare il principio che ha dimostrato lui non l'ha fatto perché noi costruissimo tempi in suo onore dipingere immagini di lui e portare al collo piccole chiavi commemorative lui voleva che prendessimo il principio dell'elettricità e usarla cosa che facciamo per far funzionare radio e computer e condizionatori d'aria se ci fossimo fermati alla scoperta di Ben come abbiamo fatto con la scoperta di Gesù saremmo tutti seduti all'albuio Benjamin Franklin non ha inventato l'elettricità non più di quanto Gesù abbia inventato i principi spirituali il fulmine e la conseguente elettricità sono sempre stati disponibili solo che non rendersene conto o sapere come accedervi Galileo non ha inventato la gravità quando ha fatto cadere la palla di legno dalla torre pendente di Pisa lui l'ha solo dimostrata allo stesso modo Gesù ha dimostrato i principi spirituali che vuole che noi usiamo e sviluppiamo abbiamo sprecato duemila anni adorando questo suo idolo invece di usare i principi che ci ha insegnato guarda attraverso la Bibbia e da nessuna parte Gesù dice adoratemi la sua chiamata a noi era seguitemi c'è una grande differenza facendo di Gesù un eroe perdiamo l'intero punto Gesù non stava dicendo sono figo fatemi delle statue trasformate il mio compleanno in una grande festa commerciale stava dicendo ecco, guardate cosa è possibile guarda, di cosa siamo capaci noi umani Gesù è nostro fratello, la nostra eredità il tipo, che dovremmo emulare quello che Gesù stava cercando di dirci è che le chiese i capi religiosi e tutta la loro retorica stridente ha soffocato la verità di Dio ci hanno gettato il fumo negli occhi omettendo di menzionare il fatto che il CP non è un oggetto di culto ma una presenza molto reale e un principio secondo il quale dovremmo vivere assurdità 4 Dio ricompensa la nostra sofferenza e dà punti browni per il nostro sacrificio meglio conosciuto come la vita fa schifo e poi si muore molti di noi pensano che la vita sia una sorta di campo di addestramento per il paradiso crediamo che questo breve periodo di vita sia solo un test per il paradiso che alla fine ci guadagneremo se teniamo duro e sopportiamo un giorno cammineremo attraverso i cancelli perlati e saremo felici questi errori di pensiero sono stati condensati in fatti viventi niente più chiaro dell'inevitabilità dei dolori e delle prove ma se non fosse necessario e se non ci fosse motivo di essere poveri o ammalarsi o fare qualsiasi cosa se non vivere una vita abbondante ed eccitante e se queste vite tragiche e difficili fossero un'altra diceria inventata dalle chiese e cementata nella nostra coscienza da anni e anni di condizionamento quello che vorrei suggerire è che questo paradiso che state aspettando è disponibile ora e che vi è stata venduta una una bugia su chi siete e su ciò che è possibile assurdità 5 Dio è così esigente il CP non giudica non punisce non pensa bene se mi è stato un bravo ragazzo ieri aiutando quella piccola vecchia signora ad attraversare la strada penso che risponderò alla sua preghiera di vincere la lotteria questi sono pensieri che Clarence Thomas potrebbe pensare il CP non ha bisogno di nulla non richiede nulla da noi non fa richieste non ama madre Teresa più di Céline Dion solo gli umani disinformati che si affannano disperatamente a dare un senso al loro mondo sono venuti con un Dio che gioca con le nostre vite un Dio che ama e che non ama le stesse persone che amiamo noi la nostra paura ci ha intrappolati in una scatola che riproduce la nostra percezione molto limitata assurdità 6 non vuoi chiedere troppo a Dio certamente non vorresti disturbarlo come ho già sottolineato il CP non è una persona quindi non può infastidirlo il CP è un potere una forza energetica invisibile non è finito o limitato quindi non si può certo chiedere troppo ad esso come dice il vecchio detto si può portare un contagocce o un secchio nell'oceano all'oceano non interessa semmai non usiamo abbastanza il potere della CP stiamo parlando di una forza onnipotente non di una squadra di soccorso dell'ultimo minuto che arriva per pagare il mutuo la CP non è un avversario che deve essere portato al tavolo delle trattative assurdità 7 Dio è così vago al contrario una volta che ci si sbarazza della nuvola nera di voci e mezze verità che nascondono la vostra consapevolezza scoprirete che la forza invisibile comunica con la stessa chiarezza del dottor Phil una volta ti libererai dei blocchi ti verrà mostrato esattamente cosa fare e come farlo di nuovo abbiamo bisogno di condizionarci a pensare a Dio più come pensiamo all'elettricità all'elettricità non importa chi collega la riccia capelli l'elettricità non ha bisogno di prove che siamo abbastanza buoni per fare un toast assurdità 8 Dio risponde solo quando è buono e pronto non c'è mai un momento in cui Dio o la forza non ti sta guidando e non devi aspettare nessuna luci verdi o carte esci gratis di prigione il grande uomo è disponibile 24 al 7 una volta che sei pronto a concentrare tutta la tua attenzione su di esso la guida del CP avviene attraverso il testo di una canzone alla radio da una telefonata di un amico scomparso da tempo il trucco è prestare attenzione fidarsi e come io continuerò a ripetere concentrare tutta la tua attenzione su di esso e mentre siamo sull'argomento della volontà di Dio mettiamo questo sul tavolo non c'è posto nella nostra immagine aggiornata di Dio per un inferno di tormento eterno o per un sadico che vorrebbe o potrebbe tentare di metterti lì né c'è spazio per l'idea che la malattia o deformità o morte o povertà o limitazione di qualsiasi tipo sia la volontà di Dio la volontà di Dio per coloro che insistono nell'usare questo termine è il desiderio incessante dello spirito in te di diventare tutto ciò che siete capaci di essere Amen il metodo permettermi di diventare un po' pazzo e irrazionale mi ha aperto a certe esperienze mistiche Patrick Miller fondatore di Fearless Libri in questo esperimento dedicherai 48 ore a cercare le prove di questo CP onnisciente onniperfetto chiamatelo Dio se vi si sente più a suo agio per fortuna la CP esiste in ogni singolo posto in cui si potrebbe pensare di cercare per alzare la posta in gioco chiederai al CP una benedizione o quello che io chiamo un dono gli darai 48 ore per mandarti un regalo che normalmente non riceveresti un assegno a sorpresa per posta un biglietto da un vecchio amico qualcosa di veramente inaspettato non devi specificare la benedizione che viene dopo nell'esperimento numero 4 ma devi bisogno di dare una richiesta chiaramente definita e una scadenza concreta e come sempre aiuta a chiedere aiuto per riconoscere il tuo dono quando la mia amica Wendy ha approvato questo esperimento ha ricevuto non solo una ma due benedizioni inaspettate ha ottenuto un dollaro allora aumento il suo capo ha chiamato all'improvviso e suo fratello che vive fuori dallo stato e non la chiama mai a meno che non ci sia una morte in famiglia si è offerto di aiutarla a traslocare cosa che non aveva mai fatto nei sei traslocchi che aveva fatto prima di questo Robin un'altra amica è andata alla sua macchina durante le 48 ore durante le quali lei stava conducendo l'esperimento e ha trovato una splendida borsa di pelle fatta a mano un regalo lasciato da un'amica che non aveva idea che lei stesse facendo l'esperimento amo la borsa così tanto che la porto ancora oggi dice i risultati a seconda della vostra consapevolezza variano alcune persone ottengono qualcosa di semplice la mia amica Julie per esempio ha visto un bambino di due anni che non aveva mai visto prima su una panchina del parco si sono sorrisi a vicenda come due anime gemelle riunite oppure potrebbe essere qualcosa di molto sorprendente un altro sperimentatore Eric fu offerto un viaggio gratuito sugli sci a lago Tahoe prendete nota di come vi sentite nel chiedere al campo energetico una benedizione ti senti un po' ansioso ti chiedi se sei egoista dubiti se sia appropriato chiedere qualcosa di di buono questo sentimento fornisce un'intuizione rivelatrice forse non credete di meritare un regalo questo pensiero manda segnali al campo energetico e influenza la sua risonanza forse voi pensate che sia appropriato chiedere solo qualcosa di cui avete bisogno anche questo segnale viene trasmesso via radio al campo energetico per fare questo esperimento correttamente dovete mettere da parte lo scetticismo non per sempre solo per 48 brevi ore tutto quello che dovete fare è passare due miseri giorni aspettandosi di vedere delle prove aspettatevi di vedere il tizio a colori aspettatevi con tutto il cuore aspettatelo con ogni millimetro della tua anima come ogni buona ipotesi questa è falsificabile se non sentite dal cp entro 48 ore sentitevi liberi di dare fuori 1. scegliere un momento per iniziare l'esperimento ora di solito funziona per me 2. annota l'ora e la data 3. chiedere alla cp di rendere nota la sua presenza 4. chiedi una benedizione se vuoi ripeti l'intenzione o l'approccio elencati nel seguente foglio di lavoro o inventa il tuo proprio questo è quanto lasciatevi andare e osserva foglio della relazione di laboratorio il principio il tizio rimane principio la teoria c'è un'energia invisibile forza o campo di infinite possibilità ed è vostro per la richiesta la domanda il cp esiste? l'ipotesi se c'è un'energia 24 ore a 7 giorni forza ugualmente disponibile per tutti posso accedervi in qualsiasi momento semplicemente prestando attenzione inoltre se chiedo alla forza una benedizione dandole un periodo di tempo specifico e istruzione chiare mi manderà un dono e mi dirà con piacere tempo richiesto 48 ore data di oggi e ora termine ultimo per ricevere il regalo l'approccio odio rompere con te cp ma la gente comincia a parlare stanno a chiedersi ma questo tizio fa sul serio? voglio dire davvero come se fosse così importante dal tuo mento venire qui e annullare questo pazzo gioco a nascondino che stai facendo ti do esattamente 48 ore per rendere la tua presenza voglio un pollice in su un un segno chiaro qualcosa che non possa essere scritto come una coincidenza ora abbiamo una scienza della spiritualità che è completamente verificabile e oggettiva Amit Goswami fisico teorico in pensione esperimento 2 il principio della Volkswagen Jetta tu impatti il campo e attingi secondo le tue credenze e aspettative i miracoli sono come i brufoli perché una volta che inizi a cercarli ne trovi più di quanti hai mai sognato di vedere le money sneak it in una serie di sfortunati eventi la premessa ciò che si manifesta nella nostra vita è un riflesso diretto dei nostri pensieri ed emozioni interiori la mia amica Linda mi ha raccontato una storia incredibile su una giovane donna che una volta osservò all'ala aeroporto questa povera giovane stava lottando con tre borse pesanti ma peggio che dell'ingombro del suo bagaglio era il suo atteggiamento tutt'altro che positivo con grande gusto lei stava esprimendo il suo immenso disgusto per la mancanza di aiuto perché continuava a gridare l'autobus ci sta mettendo così tanto dove diavolo è l'autobus questo è completamente inaccettabile Linda ha detto che avrebbe potuto sentirsi dispiaciuta per la ragazza se non fosse che l'autobus che stava criticando era un metro e mezzo davanti a lei con la porta spalancata l'autobus ha girato due volte ogni volta fermandosi per far salire i passeggeri ma la giovane donna non poteva vederlo l'autobus grazie al suo intenso impegno di lotta e alla rabbia era letteralmente fuori dalla sua sfera energetica ecco perché ho chiamato questo principio con il nome di un popolare modello di auto una volta che un nuovo modello o marca entra nella vostra sfera di consapevolezza improvvisamente l'ha notato ovunque e questo è ciò che accade quando dedichiamo la nostra mente a cose che non vogliamo mancanza infelicità e pericolo non sono più prevalenti di una Volkswagen Jetta ma una volta che li portiamo nella nostra coscienza prendono tristemente il sopravvento secondo i fisici c'è un campo di zero point quello che io chiamo il campo delle potenzialità o il CP dove esiste ogni possibilità per esempio c'è la possibilità che tu possa essere una ballerina un'altra che tu possa essere un senatore degli Stati Uniti quando si tratta di CP le possibilità sono infinite dato che non sono un fisico e riesco a malapena a pronunciare il nome David Bohm figuriamoci capire la sua teoria delle realtà stratificate preferisco pensare al campo come un gigantesco negozio Walmart con centinaia di migliaia di prodotti o possibilità questo è probabilmente un buon momento per dire che non sono un fan di Walmart che non sono mai stata capace di perdonare il gigante aziendale per aver mandato la mia farmacia all'angolo e il mio negozio di tessuti preferiti fuori dagli affari ma come mamma single con un budget di tanto in tanto mi abbasso a fare acquisti lì e quando lo faccio so solo dove trovare la stoffa i puzzle le scarpe per bambini tutte cose che sono nota per l'acquisto ma sono completamente ignara della maggior parte delle centinaia di migliaia di prodotti sugli scaffali perché perché non sono quello che sto cercando questo non significa che non ci siano non significa che non siano reali come i puzzle e le scarpe significa solo che non sono consapevole di loro per esempio mia figlia una volta è tornata a casa da scuola con i pidocchi dopo essere andata nel panico e aver brevemente considerato di gettarmi dal ponte più vicino alla fine ho concluso che avrei dato un esempio molto migliore come genitore andando alla ricerca di shampoo contro i pidocchi di sicuro in una corsia all'uolmart che avevo percorso decine probabilmente centinaia di volte c'era una selezione completa di shampoo per pidocchi perché non l'avevo mai notato prima perché non era quello che stavo cercando le catene che ci legano le tue percezioni sbagliate più selvagge le tue strane immaginazioni i tuoi incubi più neri non significano nulla un corso di miracoli qualche anno fa un'agenzia di lotterie ha regalato cento viaggi gratuiti ovunque i vincitori volessero andare questo significava che i fortunati vincitori potevano volare a parigi per vedere la torre eiffel o volare in australia e scalare airs rock o rilassarsi su una spiaggia nelle isole dei caraibi e sapete una cosa il 95 per cento dei dei vincitori ha scelto una destinazione entro quattro ore da casa loro quattro ore questo riassume abbastanza bene la condizione umana c'è così tanto là fuori ma la maggior parte di noi sceglie di rimanere entro quattro ore dalle nostre zone di comfort ci rifiutiamo di spostarci anche quando c'è un'ampia evidenza che ci stiamo perdendo grandi cose senza esserne veramente consapevoli di ciò passiamo la maggior parte delle nostre ore di veglia ore immerse nella zona di comfort della negatività l'attrazione del negativo è così forte che molti di noi passano le loro intere giornate saltando da un pensiero deprimente all'altro ho dormito di nuovo troppo questa guerra è inconcepibile l'economia è un disastro la benzina è cara il mio capo o mio figlio o il mio x mi sta facendo impazzire la negatività e la paura iniziano nel momento in cui siamo nati c'è un mondo spaventoso là fuori Jimmy non osare parlare con gli sconosciuti non osare cantare quella stupida canzone al supermercato qualcuno potrebbe sentire impariamo a limitare impariamo a credere nella scarsità impariamo che il nostro naturale inclinazione ad amare e a creare e a ballare è poco pratica e folle i nostri genitori pensano che sia loro dovere giurato insegnarci a stare attenti ad essere responsabili a agire da adulti e se per qualche motivo siamo abbastanza fortunati da avere genitori che non dispensano queste lezioni la nostra cultura ci indottrina rapidamente a credere che collezionare cose materiali sia il nostro scopo nella vita e che l'unico modo per ottenere quei beni è quello di mettere i nostri proverbiali nasi alla macina da quando siamo alle elementari siamo già maestri nella competizione vecchi professionisti nel vivere nella scarsità e paura ma indovinate un po' è tutto un grande stratagemma una cattiva abitudine come afferma chiaramente un corso in miracoli una volta che hai sviluppato un sistema di pensiero di qualsiasi tipo vivi in base ad esso e lo insegni una volta che formate una credenza attaccate tutti i vostri sensi e tutta la tua vita alla sua sopravvivenza i fisici chiamano questo fenomeno collasso dell'onda un numero infinito di quanti particelle sono fuori nel campo universale che danzano intorno diffondendosi in onde il momento in cui qualcuno guarda queste onde di energia si solidificano come la gelatina nel frigorifero il vostro osservare è ciò che le fa appaiono solide, reali, materiali ricordate nel film Disney Biancaneve quando è sdraiata sul pavimento della foresta e piange lei si sente come se tutti questi occhi la stessero fissando e in effetti dozzine di creature della foresta che si muovono e sgambettano ma nel momento in cui alza la testa per guardare tutti i uccellini gli scoiattoli e i cervi si nascondono dietro gli alberi tutto ciò che può vedere è una foresta solida e immobile in realtà il nostro universo è un campo di energia in movimento in movimento e con infinite possibilità ma poiché i nostri occhi si sono bloccati sulla modalità problema questo è ciò che appare come realtà sembra proprio la realtà o lo vedrai quando ci crederai non ti libererai finché non ti renderai conto che tu stesso formi le catene che ti legano arte nella sparizione dell'universo di Gary Renard nel 1970 Colin Blakemore e G.F. Cooper scienziati dell'università di Cambridge fecero un affascinante esperimento con i gattini questo deve essere stato prima che gli attivisti per i diritti degli animali si facessero sentire perché quello che fecero fu prendere una cucciolata di gattini e privarli della luce tranne una volta al giorno solo per un'ora o due quando gli scienziati hanno fatto entrare abbastanza luce per i gattini per vedere un paio di strisce verticali strisce bianche e nere questo è quanto un paio d'ore un paio di strisce ora non so se le loro coscienze hanno finalmente avuto il meglio o se qualche predecessore tipo peta ha iniziato a stargli col fiato sul collo ma dopo diversi mesi rilasciarono i gattini dal buio cosa hanno scoperto era che le cellule corticali dei gattini cellule del bulbo oculare per quelli di voi che non hanno una mente scientifica che favorivano l'orientamento non verticale erano andate in ibernazione non potevano più distinguere le linee orizzontali andavano letteralmente a sbattere contro corde orizzontali che erano tese davanti a loro nel 1961 quando l'antropologo colin turnbull studiò i pigmei portò uno dei suoi soggetti fuori dalla foresta dove viveva poiché non era mai stato esposto ad ampie pianure il senso di profondità del pigmeo fece lo stesso atto disparizione delle cellule corticali dei gattini tarnbull indicò una mandria di bufali in lontananza e il pigmeo la cui percezione della profondità era distorta si rifiutò di crederci devono essere formiche le sue percezioni erano influenzate da ciò che era stato condizionato a vedere come esseri pensanti cerchiamo continuamente di dare un senso al nostro mondo sembra una buona cosa giusto? se non fosse che ogni informazione che non è del tutto in linea con le nostre convinzioni le alteriamo senza nemmeno accorgercene impastiamo e spremiamo fino a quando tutto finalmente entra nella scatola stretta del nostro limitato sistema di credenze pensiamo che ciò che percepiamo con i nostri sensi sia vero ma il fatto con cui continuerò a sbattervi sulla testa è solo la metà di un milionesimo di percentuale di ciò che è possibile alla base del tronco cerebrale circa delle dimensioni di una goccia di gomma c'è un gruppo di cellule il cui compito è quello di ordinare e valutare i dati in arrivo questo centro di controllo noto come sistema reticolare attivante ha il compito di inviare ciò che pensa sia urgente alla parte attiva del cervello e di dirigere le cose non urgenti verso la parte posteriore ma mentre organizza è anche impegnato a interpretare a trarre inferenze e a filtrare tutto ciò che non combacia con ciò in cui crediamo in altre parole proviamo in anticipo il mondo che vogliamo vedere peccato che tutti noi abbiamo preso il copione sbagliato questo semplice esperimento di 48 ore dimostrerà che ciò che vedi nella vita non è altro che quello che cerchi proverà anche che è possibile trovare qualsiasi cosa si cerchi e cosa più importante dimostrerà che cambiando ciò che cerchi puoi cambiare radicalmente ciò che appare nel tuo mondo prove aneddotiche toto non credo che siamo in kansas più adesivo visto a lawrence kansas probabilmente non avete mai sentito parlare di peter e dei linkedin ma scommetto che il nome fin dorn suona come un campanello ricordate quel giardino in scozia che produceva cavoli abbastanza grandi da rovesciare un camion postale bene peter e i linkedin sono le persone che hanno coltivato quei cavoli da 18 kg tenete presente che il cavolo medio è di 2 kg e l'hanno fatto concentrando i loro pensieri su una verità superiore certamente non avevano nient'altro per loro infatti quando i kedi i loro tre figli e la loro compagna ricercatrice spirituale Dorothy McLean si trasferirono nella Raulotte su quella penisola spazzata dal vento che si protendeva nel mare del nord la terra poteva essere descritta come morta e senza profitto nessuno sano di mente l'avrebbe scelta come un posto per coltivare qualcosa figuriamoci un giardino il terreno se si può chiamare così consisteva di rocce e sabbia le tempeste erano abbastanza forti da far cadere un bambino medio di secondo grado e il luogo in cui si trovavano non proprio in buone condizioni era situato tra un discarica di rifiuti e un garage fatiscente ma concentrandosi su una verità superiore hanno creato un giardino che può essere descritto solo come miracoloso anche se sono stati i cavoli da 18 kg cavoli che hanno avuto tutta la pubblicità i KD coltivarono anche altri 65 tipi di verdure 21 tipi di frutta e 42 diverse erbe e questo prima che iniziassero ad aggiungere fiori so cosa state pensando ricco compost e buona agricoltura biologica ma la verità è che il terreno dei KD era così patetico che la gente della Contea disse che nemmeno il compost poteva aiutare all'epoca in cui iniziarono il loro esperimento di coscienza superiore i KD non avevano mai fatto giardinaggio ne avevano hanno soldi da investire in forniture di giardinaggio erano al verde per usare un eufemismo Peter che aveva gestito con successo un hotel a quattro stelle era stato licenziato e tutti e sei vivevano con la disoccupazione che ammontava a circa 20 dollari a settimana no hanno iniziato a coltivare verdure per una ragione pensavano che potesse essere un bel gesto per nutrire i loro tre ragazzi in crescita ma quando iniziarono ad allineare la loro coscienza con la verità spirituale e nient'altro ogni sorta di cose strane cominciarono ad accadere balle di paglia cadevano dai camion che passavano giusto in tempo per pacciamare sacchi di cemento avanzati sono apparsi misteriosamente nel bidone della spazzatura di un vicino giusto in tempo per versare un patio le loro piante mentre i raccolti dei loro vicini soffrivano divennero resistenti alle malattie e ai parassiti l'ipotesi se decido di cercare auto di color tortora tramonto e le farfalle o piume viola le troverò tempo richiesto 48 ore data odierna ora l'approccio secondo questa pazza pan grout il mondo là fuori riflette quello che voglio vedere lei dice che non ha niente se non le mie illusioni che mi impediscono di sperimentare la pace la gioia l'amore così anche se sospetto che sia incrinata oggi andrò a cercare le auto color tramonto tortora domani andrò a caccia di farfalle a numero di auto tramonto tortora osservate b numero di farfalle osservate scrivi tue note su quello che hai osservato i miracoli non accadono in contraddizione con la natura ma solo in contraddizione con ciò che è noto in natura san agostino filosofo latino e teologo esperimento 3 il principio di albi einstein anche tu sei un campo di energia è proprio sotto le tue dita tesoro questo è tutto ciò che devi capire tutto è proprio sotto le tue dita Ray Charles cantante e pianista americano la premessa non ho intenzione di annoiarvi con un intero testo sulla fisica quantistica ne ho letti a dozzine e credetemi non sono belli ma ci ci sono un paio di voci in giro che devono essere messe a tacere prima di andare avanti per cominciare chi pensi di essere non è chi sei veramente pensate di avere una vita limitata qualcosa come 70-80 anni e poi ti raggrinzisci ti vengono i reumatismi e crolli kabum è tutto finito ma questo non è più vero di quel sogno che hai fatto la scorsa notte sulla bionda alta il tuo corpo è un impostore una piccola frazione di chi sei veramente il 99% di chi sei è invisibile e intoccabile questo corpo che penso sia pam grout questa donna ma gravi un metro e ottanta con perpetui problemi di carnagione è solo un granello di ciò che sono veramente non più la vera me di quelle foto di due mesi fa in cui indosso l'imbarazzante cappellino rosa non sentirti male se sei caduto nella trappola che tu il tuo corpo e il mondo intorno non siete altro che materia non è facile stare sull'orlo di una rivoluzione queste nuove idee che gli scienziati stanno finalmente iniziando a prendere sul serio stanno sfidando tutto che crediamo su come funziona il nostro mondo e come definiamo noi stessi tutta la verità e nient'altro che la verità tutto quello che sai sull'universo e le sue leggi è più che probabile che sia sbagliato al 99,99% Fred Alan Wolf fisico quantistico americano ciò che Einstein scoprì è che quella famosa equazione è uguale mc2 significa che la massa ed energia sono fondamentalmente due forme della stessa cosa l'energia è materia liberata e la materia è energia in attesa di accadere c'è un'enorme quantità di energia una quantità assurdamente enorme intrappolata in ogni essere vivente voi, facendo la supposizione che sei un essere umano, di media grandezza contenete non meno di 7 volte 10 alla 18 joule di energia potenziale questo, magari non significa molto per te ora ma facciamo finta che tu voglia fare una considerazione se tu fossi un po' più astuto e sapeste come liberare questa energia potresti usarla, per farti esplodere con la forza di 30 bombe all'idrogeno molto grandi in altre parole il mondo materiale non è altro che modelli di energia densa gli scienziati mettono tutte queste particelle subatomiche in un acceleratore di particelle le hanno fatte collidere e alla fine hanno scoperto che non c'è nessuna particella alla fonte è solo pura energia illimitata che vibra così velocemente da sfidare la misurazione e l'osservazione quindi, nonostante ciò che sembra ad occhio nudo voi siete energia infatti, niente al mondo è veramente solido non tu, non questo libro, non la sedia su cui sei seduto scomponi il mondo solido fino ai suoi più piccoli componenti e troverai particelle danzanti e spazio vuoto sembra solido solo perché l'energia vibra un po' più lento della velocità della luce ecco cos'è l'energia particelle in vibrazione questo significa che tu, questo libro, e la sedia vibrando l'energia, è una cosa piuttosto nebullosa tu non puoi vederla, graffiarla, o portarla fuori a cena ma puoi, e lo fai ogni giorno influenzare il modo in cui fluisce attraverso di voi e poiché, è l'elemento costitutivo di tutto l'universo è una cosa potente prova questo esperimento che ho imparato da pioniera dell'energia donna eden 1. portate i vostri palmi l'uno verso l'altro come se steste per applaudire ma fermatevi 3 cm, prima che le vostre mani si contatto 2. ora ruotate i polsi in modo che le braccia formino una X polsi dovrebbero essere al centro della X e ancora 3 cm di distanza 3. attira la tua attenzione, sullo spazio tra i tuoi polsi poiché, i tuoi polsi contengono diversi centri di energia le energie si connetteranno e molto probabilmente, sentirai qualche sensazione nell'area tra di loro 4. prova a muovere i tuoi polsi, di circa un centimetro più vicino e poi fuori di qualche centimetro, avanti e indietro vedete? cosa ti avevo detto? la tua energia su ogni momento, voi plasmate, e date forma a questa energia con la vostra coscienza lo fate con ogni pensiero, ogni intenzione, ogni azione come vi sentite, cosa pensate, credete e valore e come vivete la vostra vita, influenzano il modo in cui l'energia fluisce attraverso di voi per dirla in termini più semplici questo influenza il modo in cui vibrate e come vibrate, influisce su ciò che tirate dall'intreccio, dal bilanciamento campo energetico in continuo movimento in cui nuotate tirate fuori da questo campo, e nel vostro mondo tutto ciò che vibra sulla stessa frequenza, o lunghezza d'onda diciamo che ti sente eccitato, gioioso e grato queste emozioni, inviano vibrazioni ad alta frequenza che magnetizzano altre cose per cui essere entusiasti, gioiosi e grati qualsiasi cosa con la stessa alta frequenza balzerà verso il tuo campo energetico tuttavia, se sei spaventato in preda ai sensi di colpa e convinti, che ci sia un terrorista dietro ogni angolo state inviando vibrazioni a bassa frequenza che attireranno, brutte cose nella vostra vita attiriamo sempre, la nostra corrispondenza vibrazionale noi siamo gli iniziatori delle vibrazioni e quindi i magneti, o la causa funziona allo stesso modo di un diapason fate suonare un diapason, in una stanza piena di diapason calibrati su diverse altezze e solo quelli calibrati sulla stessa frequenza, suoneranno anch'essi e suoneranno per tutta la strada, attraverso il metrodome di Minneapolis le forze simili si attraggono è una classica regola della fisica non ci sono, tu e loro chiunque non sia scioccato dalla fisica, non l'ha capita Niels Bohre, fisico danese come se non aveste già abbastanza stranezze, con cui fare i conti sto per un altro piccolo dettaglio tutto nel mondo fisico, come lo conosciamo è collegato ad ogni altra cosa nel mondo fisico siete attaccati e impegnati, in un campo di energia universale sottostante il campo, come disse papà albi Einstein è l'unica realtà le cose appaiono separate perché vibrano a diverse lunghezze d'onda proprio come la nota c vibra ad una lunghezza d'onda diversa, rispetto al si bemolle ognuna di queste vibrazioni, crea un filo nel campo elettromagnetico che a sua volta estruisce l'energia, dove andare, e cosa fare questo campo energetico pulzante è il motore centrale del vostro essere, e della vostra coscienza dove si trova questo campo? Boh, non c'è nessun posto, in cui non sia tutto nell'universo è collegato al campo energetico tutte le forme di vita che siano zebre africane, le ostriche nel vostro giardino o quegli iceberg che si sciolgono la vostra intelligenza, creatività e immaginazione interagiscono con questo magnifico e complesso campo energetico possiamo sembrare, corpi separati con idee separate ma siamo tutti solo un grande pulzante vibrante campo di coscienza prove aneddotiche non è quello che non sai, che ti mette nei guai è quello che sai per certo, che non è così Mark T.W. E. In, autore americano Ed Venegans è una dei miei ministri preferiti dell'unità è divertente, è saggia e sa sa come funzionano i principi spirituali lei viaggia per tutti gli Stati Uniti dando prosperità a seminari, in cui insegna alle persone come vivere una vita più abbondante, e centrata su Dio ma come tutti noi Ed Venegans ha dovuto imparare i principi spirituali attraverso tentativi ed errori racconta una storia esilarante sulla sua prima grande dimostrazione una dimostrazione, secondo gli unitariani cioè, la gente che frequenta Chiesa dell'Unità è quando si tira fuori qualcosa che vuoi o di cui hai bisogno dal nulla aria, più o meno al tempo, della prima dimostrazione di Edwene lei era relativamente nuova, ai principi spirituali era quello, che si potrebbe educatamente chiamare, al verde come dice lei non avevo due spiccioli da strofinare insieme ma aveva sentito questa voce pazzesca dal suo maestro spirituale che lei non solo piaceva Dio ma che lui voleva aprire le porte del cielo e versare le sue benedizioni se lei semplicemente imparasse, a dirigere la sua energia ma prima doveva sapere cosa voleva e quando lo voleva questo fu facile in quindici minuti Edwene riempì un intero blocco giallo con i suoi desideri nuove scarpe verdi un nuovo partner maschile una nuova macchina e così via decise che voleva anche una settimana di vacanza a città del Messico non era mai stata lì ma pensava che sarebbe stato un ottimo posto per praticare il suo spagnolo inoltre, aveva sempre voluto vedere la piramide del sole la piramide della luna e i dipinti di Diego Rivera Edwene non aveva soldi per il viaggio quindi scriverlo era, come disse lei un po' uno scherzo ma ha pensato che diamine andò persino in un'agenzia di viaggi guardò degli opuscoli e fece una provvisoria prenotazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui aveva deciso di viaggiare ho pensato che il peggio che potesse succedere è che sarei stata imbarazzata di fronte alla gente di viaggio quando non sarei stata in grado di pagare spiegò Edwene questo è solo perché non ti senti ricca disse il suo insegnante non stai vibrando come una persona ricca beh, avrei potuto dirtelo io rispose Edwene hai dato un'occhiata al mio conto ultimamente? sto avendo problemi a pagare la mia bolletta della luce ecco perché hai bisogno di uscire e fare qualcosa che ti faccia sentire ricca la sua insegnante ha insistito Edwene decise che la sua sfida più grande era il negozio di alimentari ero una di quelle persone che compravano il minimo indispensabile fagioli, pane di mais, farina le cose basilari dice non osavo spendere per nessuna di quelle cose da fufu non c'è niente come bagno di schiuma avevo un budget così la volta successiva che si trovava al supermercato decise di fare un salto al banco gastronomico solo per dare un'occhiata notò una bottiglia di olive ripiene di mandorle gli diede un'occhiata e sapeva che era quello che mangiava la gente ricca così lei comprò portò la spesa a casa e chiamò la sua amica Lana Lana, sto arrivando ci sederemo vicino alla tua piscina e tireremo fuori i tuoi nuovi bicchieri da vino di cristallo e berremo quella bottiglia di vino che hai appena comprato mangeremo le olive che ho appena comprato e faremo finta di essere in una vacanza esotica a città del Messico cosa? disse Lana alla fine accettò di stare al gioco e infatti si sedettero vicino alla piscina di Lana bevendo vino, mangiando olive ridendo e fingendo di essere in vacanza a città del Messico beh, tesoro quale piramide dovremmo visitare domani? chiedeva Duene o forse preferisci andare in spiaggia? e allora Lana rispondeva facciamole entrambi e dopo possiamo passeggiare per il mercato e ascoltare i mariaci si divertirono così tanto che Lana decise di voler andare anche lei a città del Messico il giorno dopo andò alla stessa agenzia di viaggi e fece le sue prenotazioni nel giro di una settimana la mamma di Lana la chiamò e le disse ehi, indovina un po' mi piacebbe pagare quel biglietto per città del Messico ed ero io a far le affermazioni scherza ora e Duene qualche settimana dopo l'agente di viaggio chiamò e Duene e la informò che a meno che lei non fosse scesa a pagare i biglietti quel giorno avrebbe dovuto lasciarli andare ok, arrivo subito disse Duene all'agente di viaggio anche se si sentiva come la vecchia madre Abbard con gli armadi completamente vuoti salì in macchina e decise che era il momento di fare un severo discorso con Dio Dio, disse ora, ho fatto tutto quello che so fare qui ho fatto la mia lista ho fatto le mie affermazioni mi sono comportata da ricca per come la vedo io il resto dipende a te e, ragazzone, visto che l'agente di viaggio sta chiamando andrò avanti e sarà meglio che quei soldi siano lì sulla strada per l'agenzia di viaggi ebbe l'intuizione di fermarsi a casa di sua madre ora mi conosco abbastanza bene da sapere che probabilmente stavo pensando che se avessi detto a mia madre che la mamma di Lana aveva comprato il suo biglietto forse avrebbe accettato di comprare il mio biglietto ammette Duene è andata a casa di sua madre si è comportata più dolce che può essere e disse a sua madre di questa vacanza che lei e Lana avevano preparato finì la sua storia guardò sua e disse e sai una cosa? la mamma di Lana ha persino accettato di pagare il biglietto di Lana non è meraviglioso? è meraviglioso disse la madre di Duene cosa ha intenzione di fare? scoraggiata ed Duene concluse la sua visita e cominciò a uscire dalla porta quando la sua madre le chiese se sarebbe stata così gentile da uscire a prendere la posta la casa di sua madre aveva un lungo vialetto così Duene camminò fino alla cassetta della posta scalciando calci alle pietre e imprecando sottovoce su sulla via del ritorno e Duene decise di dare una piccola occhiata alla posta notò una lettera indirizzata a lei ora capite non ho vissuto a casa di mia madre da quindici anni e non ricevevo posta lì da quindici anni dice Duene non avendo idea di chi fosse questa persona sull'indirizzo di ritorno aprì la busta ed ecco c'era una lettera da una vecchia compagna a distanza che si era sposata da quando lei ed Duene avevano vissuto insieme quindici anni prima a quel tempo erano entrambi giovani poveri e costretti a decorare con quello che Duene chiama il primo esercito della salvezza nemmeno tre mesi dopo essere andati a vivere insieme e Duene trovò un lavoro come insegnante all'estero e lasciò la compagna a distanza l'appartamento e i mobili usati ecco cosa diceva la lettera Tara e Duene stavo sfogliando l'elenco telefonico di Houston l'altro giorno e ho visto l'indirizzo dei tuoi genitori volevo dirti che mi sono sposata e mi sono trasferita in una bella casa nuova con mio marito abbiamo arredato la nostra casa con mobili nuovi quindi ho venduto tutti i mobili che avevamo comprato quindici anni fa gira che ci credereste? che alcuni di essi erano piuttosto di valore non mi sembrava giusto tenere tutti i soldi visto che avevamo lavorato così duramente per arredare quel posto per favore trova un assegno per la tua metà dei soldi e lo sai, dice Duene era l'importo esatto che mi serviva per pagare il biglietto al centesimo in più 100 dollari per spendere Duene, ha anche aggiunto un divertente seguito alla sua storia di sicuro, Lana e Duene si sono divertite a città del Messico hanno fatto shopping si sono sedute accanto piscina hanno visitato le piramidi e passeggiarono per i mercati e ovunque andavamo Lana riceveva fiori, dice Duene camminavamo attraverso il mercato e i mariaci smettevano di suonare e portavano a Lana una gardenia un giorno eravamo sull'autobus e questo tizio salta su da a Lana una rosa e salta giù una sera a cena questa grande scatola bianca arriva al nostro tavolo Lana la apre e una dozzina di orchidee a questo punto comincia a sentirmi esclusa ho detto addio guarda, amico ho bisogno di un segno che anch'io sono amata, dice Duene nemmeno quindici minuti dopo il cameriere del ristorante ha portato gli antipasti e che Dio ha un tale senso dell'umorismo eduene ride sai cosa ha portato quel cameriere? olive ripiene di mandorle il metodo la comunità scientifica occidentale e in realtà tutti noi siamo in una situazione difficile perché per mantenere il nostro attuale modo di essere dobbiamo ignorare una quantità enorme di informazioni cleve B.A.C.K.S.T.E.R. ricercatore di piante ed ex agente della CIA anche se questo principio è uno dei principi spirituali fondamentali ricordate spirituale significa semplicemente l'opposto di materiale in realtà è venuto alla luce per la prima volta non in una chiesa ma in un laboratorio di fisica sì sono stati gli scienziati a scoprire per primi che nonostante tutte le apparenze contrarie gli esseri umani non sono materia ma onde di energia in continuo movimento in questo esperimento proverai che anche i tuoi pensieri e sentimenti creano onde di energia ecco cosa fare prendi due appendi abiti in filo metallico facili da trovare nella maggior parte armadio svitate il collo di ogni gruccia finché al solo due fili dritti queste sono le vostre bacchette di Einstein o meglio lo saranno quando li formate a forma di L circa 30 cm di lunghezza per la parte principale e 12 cm per il manico tagliare una cannuccia di plastica a metà potete ottenerne una gratuitamente in qualsiasi McDonald's e fai scorrere il manico che hai appena piegato all'interno delle cannucce renderà le tue bacchette oscillare facilmente e piegare la parte inferiore del gancio per tenere la cannuccia in posizione ora fai finta di essere un Matt Dillon in Gunsmoke con due pugni e una pistola con le bacchette tenute all'altezza del petto e a circa 10 cm dal tuo corpo svolazzeranno dappertutto all'inizio come ho detto siete un continuo fiume di energia quindi date loro qualche momento per sistemarsi una volta che hanno smesso di disbattere siete pronti per iniziare l'esperimento con gli occhi dritti davanti a voi ricordate vividamente qualche evento molto spiacevole del vostro passato a seconda dell'intensità della tua emozione le bacchette rimarranno dritte avanti intensità debole o punteranno verso l'interno da punta a punta le bacchette seguono la banda elettromagnetiche intorno al vostro corpo che si sono contratte a causa della frequenza negativa generata dai vostri pensieri ed emozioni spiacevoli ora fai diventare positive le tue frequenze pensando a qualcosa di amorevole o gioioso le bacchette ora si espanderanno verso l'esterno come il vostro campo energetico si espande al vostro flusso di energia positiva ok, ora tenete i vostri occhi dritti davanti a voi ma focalizza la tua attenzione su un oggetto alla tua all'estrema destra o all'estrema sinistra e guarda le bacchette seguire i tuoi pensieri più giocate con questo più diventerai abile a sentire lo spostamento vibrazionale quando si passa da una frequenza ad un'altra foglio della relazione di laboratorio il principio il principio di albi einstein la teoria tu sei un campo di energia in un campo di energia ancora più grande la domanda potrebbe essere vero che sono fatto di energia l'ipotesi se sono energia posso dirigere la mia energia tempo richiesto due ore di sperimentazione data odierna ora l'approccio wow baby con nient'altro che i miei potenti pensieri e la mia energia posso rendere queste bacchette rock and roll pensa solo a quali altre magie posso senza dubbio fare come disse una volta un famoso presidente fatti sotto ricerca note essere un vero esploratore nella scienza seguire la guida senza pregiudizi della pura indagine scientifica significa non aver paura di proporre l'impensabile e dimostrare che amici colleghi e paradigmi scientifici si sbagliano l'inmet taggart autore di il campo esperimento 4 il principio di abracadabra qualunque cosa su cui ti concentri si espande posso manipolare le influenze esterne nella mia vita con la stessa sicurezza con cui posso far piangere un bambino ghegnando augustin barrogs autore americano la premessa quando ho sentito per la prima volta che i miei pensieri potevano portare bene materiali nella mia vita ho fatto quello che qualsiasi persona intelligente e pensante avrebbe fatto mi sono messo a ridere ma decisi anche di fare un tentativo che male poteva fare condurre in un esperimento segreto Andrea la mia insegnante mi disse di scrivere tre cose che volevo questo è tutto non dovevo farle spuntare dal nulla non dovevo elaborare un budget dovevo solo fare una lista che diamine voglio una bicicletta un computer e un pianoforte nel giro di due settimane ero l'orgogliosa proprietaria di una bella mountain bike rossa e di un IBM PC Junior per il pianoforte ci volle un po' più di tempo ma alcuni anni fa la mia amica Wendy che si stava trasferendo nel Maryland mi chiamò e mi disse che se fossi venuta a prenderlo avrei potuto avere il suo bellissimo Kimball in ciliegio mia figlia costretta a prendere lezioni di piano mi maledice da allora sì, questo è il capitolo che tutti aspettavate il capitolo su come manifestare cose materiali è il principio spirituale che attrae gli aspiranti credenti come i quindicenni a Megan Fox lasciami indovinare ad un certo punto della tua vita hai letto, pensa e arricchisci te stesso la magia del credere il potere del pensiero positivo o qualche combinazione di questi per quanto vecchio e irritabile come questi libri possono essere c'è un motivo per cui sono ancora in stampa essi parlano di una verità universale se sai cosa vuoi, lo puoi avere il mio amico Chris ok, la maggior parte dei miei amici pensano che questo principio utilizzi la magia qualche misteriosa magia che potrebbe funzionare per alcune persone ma non per altre ma non è più complicato che camminare da Biloxi, Mississippi, a New Orleans una volta che hai la mappa giusta diciamo che Biloxi è quello che una escort del 94 scassata un lavoro che non sopporti e un sacco di fine settimana a guardare DVD da solo New Orleans, dove vuoi davvero essere? è una Jaguar nuova di zecca un lavoro ban pagato che utilizza e apprezza i tuoi più grandi punti di forza e i fine settimana guardando film con un incredibilmente esemplare del sesso opposto per arrivare a New Orleans non ci vuole nessun dono particolare ci vuole solo, la volontà di continuare a camminare e concentrare l'attenzione, l'energia e la consapevolezza penso sempre, a un mago che tira una sciarpa attraverso un buco se si può solo afferrare una piccola estremità puoi tirarla fino in fondo attraverso è tutto ciò che serve, un'estremità minuscola decidi che lo vuoi, e continua a concentrarti finché non l'avrete tirato fino in fondo cosa puoi manifestare? praticamente, qualsiasi cosa tu abbia mai visto, sentito o sperimentato il mondo è fondamentalmente, il tuo catalogo di vendita per corrispondenza se l'hai visto, o anche se puoi immaginarlo afferra un'estremità di quella sciarpa e comincia a camminare forse, dovrei essere più specifico il New Orleans, del mio amico Don era una chitarra Martin le chitarre Martin partono da 1100 dollari e anche se non aveva il denaro pronto Don fece l'intenzione, di possedere una chitarra Martin non ha fatto un bel niente ha solo tenuto credendo concentrandosi su quella chitarra che un giorno, in qualche modo, ne avrebbe avuta una quasi un anno dopo, ricevette un messaggio da sua madre tuo padre ha appena preso una vecchia chitarra a un mercatino per 5 dollari può essere un giocattolo per Daisy? beh, quel vecchio giocattolo per la figlia di Don, Daisy era una rara Martin 00028 del 1943 una delle sole 100 costruiti la stessa chitarra che suona Eric Clapton e che vale circa 20.000 dollari sembra che Daisy dovrà aspettare, ed ereditare la chitarra nel testamento di Don mi piace chiamare questo, il principio della statua della libertà anche se questo principio è il faro che rappresenta, tutto ciò che la gente pensa di volere vacanze in Giamaica una grande casa a Malibu in realtà, è molto in basso, nella meslogirarchia dei bisogni è solo sul primo, forse secondo gradino è necessario far scendere questo principio ovviamente, in modo da poter distogliere la mente dalle preoccupazioni materiali e così che tu possa, conoscere la verità su chi sei ma nessuna di queste cose, è ciò che vuole veramente non proprio Gesù non avrebbe, mai potuto riportare Lazzaro in vita e moltiplicato tutti quei pesci e pani se fosse stato preoccupato dal desiderio, di una residenza sulla spiaggia detto questo io non voglio farvi sentire in colpa, perché volete una grande casa a Malibu non c'è una cosa sbagliata, in una grande casa a Malibu o qualsiasi altra cosa non sentitevi in colpa voletelo cammina verso di essa, con tutto il tuo cuore e forza sappiate solo, che ci sono piori più alti e che la maggior parte delle persone, accumulano cose materiali per paura e la paura, dopo tutto è quello che stiamo cercando di allontanarci mettere in fila le anatre o cosa sia la coerenza il grande spirito è ovunque non è necessario parlargli a voce alta egli sente tutto quello che c'è nelle nostre menti, e nei nostri cuori al cenero, uomo medicina dei Leicota la maggior parte delle persone pensa di poter incitare al cambiamento, solo rivolgendosi a Dio con qualche grido per aiuto ma poiché ora sappiamo che Dio è il campo di forza, che gestisce l'universo sappiamo anche, che ogni pensiero incita al cambiamento ogni volta che pensiamo qualcosa sia che si tratti di una gonna che la fa assomigliare a John Travolta in hairspray o che commetterò a ricauri, se non avrò quel aumento influenziamo, il campo delle potenzialità infinite penso che probabilmente dovrei ripetere che ogni singolo pensiero, influenza il CP l'unico motivo, per cui non cambiamo l'acqua in vino o non guariamo il cancro, con un solo tocco è perché, i nostri pensieri, sono sparsi dappertutto invece di essere un unico, costante, ben mirato di Apason i nostri pensieri sono più come una banda, di giovani suonatori di tromba da un lato, preghiamo che le cose funzionino ma dall'altro, ci preoccupiamo che non lo facciano allo stesso tempo, immaginiamo un risultato positivo ma segretamente pensiamo, che l'ottimismo sia un mucchio di sciocchezze vogliamo impegnarci in una relazione con questo e quello ma se lui se ne va? vogliamo fare soldi ma la mala bibbia, non ha detto qualcosa sui cammelli, gente ricca, e la cruna di un ago la forza, sta letteralmente rimbalzando sui muri vai su da questa parte no, aspetta, vai da quella parte sta sbattendo in giro, come un fulmine in un mason viene dissipato, perché non abbiamo chiaro cosa vogliamo veramente non è che il campo della potenzialità non stia rispondendo alle nostre preghiere è solo che stiamo pregando per troppe cose quando si calcola, che una persona media ha qualcosa come sessantamila pensieri al giorno ti rendi conto che la tua vita è pregata da molto più di ti prego Dio fammi uscire da questa multa per eccesso di velocità che hai pronunciato, quando hai notato per la prima volta le luci rosse lampeggianti certo, avete pregato per la pace della mente oggi ma hai anche passato 1200 pensieri ossessionati su quel maledetto collega che ha rubato la tua idea del sito web sì, hai fatto l'intenzione di pensare e diventare ricco ma hai anche dedicato 500 pensieri a preoccuparsi del pagamento in ritardo della tua auto quando capisci la preghiera per quello che è veramente è più facile capire perché quella supplica una tantum a Dio non sempre va a buon fine l'unica ragione per cui Gesù poteva camminare sull'acqua era perché il cento per cento dei suoi pensieri preghiere credevano che potesse farlo aveva superato il sistema di pensiero del mondo che dice solo un idiota sarebbe così stupido da uscire dalla barca non c'era un solo dubbio non un solo pensiero preghiera nella sua coscienza che non ci credesse pienamente la tua mente è molto potente non importa quanto manchi di rispetto al privilegio non importa quanto tu ti senta inefficace ogni singolo pensiero produce forma a qualche livello solo perché quei pensieri sono incasinati e credetemi se siete umani almeno alcuni dei suoi pensieri sono incasinati non li rende deboli o inefficaci deboli e inefficaci per ottenere ciò che vuoi forse ma mai deboli e inefficaci la prima legge di Newton sulla preghiera scegliendo i tuoi pensieri e selezionando quali correnti emozionali rilascerai e quali rafforzerai determini gli effetti che avrai sugli altri e la natura delle esperienze della tua vita Gary Zukav, autore di Seat of the Soul quando lanci una pallina da tennis in aria si può contare sul fatto che scenda certo, potrebbe cadere sulle petugne del vicino o sul tetto del supermercato 7-Eleven dove avrete bisogno di una scala per recuperarla ma è garantito che tornerà giù l'intenzione, è proprio come quella palla da tennis ritorna proprio, nel modo in cui l'hai spedita come Newton nella sua famosa terza legge del moto per ogni azione, c'è una reazione uguale e reazione opposta quello che dai, quello che si prega si riceve indietro in uguale misura se invii pensieri di paura ricevi indietro cose di cui aver paura se menti, ti verranno dette delle bugie se critichi, vieni criticato ma se inviate amore, ricevete un grande, generoso amore in cambio se invii benedizioni, vieni benedetto a tua volta se vuoi sapere per cosa stai veramente pregando dai un'occhiata alla tua vita vedrai i tuoi pensieri più intimi i veri desideri del tuo cuore le preghiere che nessuno conosce tranne te una mia amica aveva paura dei ragni lei aveva paura di infilare la mano nel suo cassetto dei trucchi una mattina invece di di prendere un rossetto si sarebbe trovata le mani avvolte da un ragno gigante questo pensiero infondato le passava per la testa ogni mattina per mesi finché indovinate un po' lei ha messo mano al suo cassetto dei trucchi e afferrò un grosso, grasso e peloso ragno lupo per dirla in un altro modo, il pensiero è creativo i pensieri che tieni nella tua mente sia conscia che inconscia, creano ciò che vedi nella tua vita ogni pensiero ha una certa vibrazione ti ritorna indietro secondo il suo tono la sua intensità e la sua profondità di sentimento i vostri pensieri si manifestano nella vostra vita improporzionalmente alla loro costanza, intensità e potenza sono affollato dentro Pradip Venugopal blogger indiano la tua mente è impegnata in una continua resa dei conti tra parti diverse e conflittuali di te stesso queste intenzioni frammentate se vuoi metteranno in moto ogni sorta di dinamica diciamo che avete un'intenzione cosciente di comprare una nuova casa nello stesso momento in cui mettete quell'intenzione in movimento si invia contemporaneamente un inconscio ma altrettanto potente paura di una rata del mutuo più alta cominciate a preoccuparvi dei tassi di interesse e a preoccuparvi del contratto di termiti che avete inavvertitamente lasciato scadere sulla vostra casa attuale entrambe le quali inviano intenzioni ancora più inconsce se queste inconsce intenzioni di paura sono più forti delle intenzioni di desiderio cosciente beh indovinate quale vince la dinamica delle intenzioni opposte può produrre confusione e dubbio quando vi aprite a nuove percezioni e desideri e contemporaneamente sperimenti paura e angoscia crei una lotta se continua così cominciate a dubitare che stabilire delle intenzioni funzioni o almeno si concludete che non funziona per voi vi scoraggiate e cominciate a credere che la vita e le circostanze siano più potenti di te credetemi non lo sono neanche e lontanamente e vostre intenzioni contrastanti stanno semplicemente creando turbolenze nel campo delle potenzialità i vostri pensieri sono estremamente potenti ma il cipino risponde solo alle vostre suppliche lasciatemi ripetere risponda ad ogni pensiero conscio e inconscio con i lati opposti che si combattono ecco quattro campi di battaglia più comuni 1. la routine noi umani abbiamo questa fastidiosa tendenza a cadere in schemi abitudinari ricordate quei 60.000 pensieri quotidiani che ho menzionato prima bene tutti tranne mille questi pensieri sono esattamente gli stessi pensieri che avete avuto ieri gli scienziati ci dicono che il 98 per cento dei nostri 60.000 pensieri sono ripetizioni del giorno prima la mia vicina ha un recinto invisibile per cani non si vede ma se il suo piccolo jack russell osa mettere piede fuori dal recinto riceve una scossa dolorosa tutti noi siamo come quel piccolo jack russell incastrati nelle nostre invisibili recinti invece di usare i nostri pensieri per pensare nuove idee per chiedere le risposte ai grandi misteri della vita li sprechiamo in cose banali insignificanti e del tutto prive di senso guardate la copertina di una tipica rivista femminile perdere centimetri velocemente strategie dell'ultimo minuto per il glamour delle vacanze quiz il tuo compagno ti ama davvero? non abbiamo niente di meglio a cui pensare se i 7 milioni di lettori dell'edison journal si chiedessero invece cosa posso fare per migliorare la mia anima? come posso rendere il mondo più amorevole? i grandi problemi di cui abbiamo tanta paura sarebbero risolti in un anno 7 milioni di persone che si concentrano su problemi del genere sono una forza inarrestabile 2 la coppia dell'amministratore i pubblicitari statunitensi spendono più di 400 miliardi di dollari ogni anno cercando di convincerti che senza i loro prodotti sei un completo e totale perdente l'intera ragione da essere del pubblicitario è quella di rendere te e me insoddisfatti di ciò che abbiamo e di chi siamo l'americano medio vede tra 1500 e 3000 pubblicità al giorno anche chi non guarda la televisione è costantemente invitato a consumare tutto dai monitor dei bancomat ai sacchetti per il lavaggio a secco agli adesivi sulla frutta del supermercato è noto per la presenza di pubblicità le pubblicità più pericolose per quanto mi riguarda sono quelle dei nuovi farmaci da prescrizione perché insegnano alla gente ad essere malata Madison Avenue ha fatto un lavoro stellare allenandoci ad avere bisogno di deodoranti, collutori e dominos due pizze al prezzo di una ora, stanno rompendo un nuovo terreno addestrandoci ad essere malati Steven Pressfield, autore del best seller la leggenda di Beger Vance e altri libri dice che il suo ex capo dell'agenzia pubblicitaria gli ha detto di inventare una malattia perché poi possiamo vendere la sua cura 3. le teste degli altri come le radio onde che volano nell'atmosfera i pensieri degli altri ti bombardano costantemente raccogli inconsciamente i pensieri della tua famiglia della tua cultura e della tua religione anche se non la pratichi attivamente una volta ho incontrato un tizio che aveva inventato dozzine di prodotti tra cui molti che io e te usiamo quotidianamente veniva regolarmente soprannominato un genio ma se gli aveste fatto il test sarebbe stato rimandato in prima elementare il ragazzo non ha mai imparato a leggere e ha detto che è stato intenzionale se avessi imparato a leggere ha detto avrei raccolto le idee di altre persone e le avrei cementate nella mia testa ho scelto di non preoccuparmi delle interferenze questo è probabilmente il punto in cui dovrei menzionare che non sto sostenendo l'analfabetismo solo facendo notare che meno interferenze da un mondo pazzo e pieno di pensieri migliore è l'accesso alla CP infatti, la ragione per cui tutti i pezzi grossi spirituali meditano è perché li aiuta ad evitare le interferenze 4. la propria testa nonostante quello che pensi di stare pensando è molto probabile che c'è un pensiero ancora più grande che si mette in modo sfortunatamente, tutti noi abbiamo una traccia sonora di fondo che fa qualcosa del genere questo c'è qualcosa che non va in me non sono abbastanza bravo non ho talento non me lo merito non posso farlo è troppo difficile affermazioni negative come queste sono ciò che chiamiamo false preghiere le convinzioni predefinite alle quali si marcia in obbedienza la buona notizia è che non sono vere la cattiva notizia è che operano come se fossero vere sono il tuo amuleto personale che porti inconsapevolmente ovunque tu vada non bisognereste di attraversare la vita senza di loro perché sono così familiari quando ho iniziato a scrivere per le riviste avevo un complesso di inferiorità che non sarebbe stato adatto allo Shea Stadium perché venivo da una piccola città del Midwest non potevo immaginare di avere qualcosa da dire a un editore di lusso di New York anche se ho mandato una richiesta dopo l'altra lanciando le mie idee non mi aspettavo davvero di venderne molte dopo tutto sapevo solo che non c'erano abbastanza incarichi per andare in giro nel migliore dei casi ho pensato che avrei potuto essere in grado di intrufolarsi un po' sotto il radar inutile dire che ho ricevuto molte lettere di rifiuto così tante che probabilmente avrei potuto tappezzare la città di Cincinnati se avesse avuto bisogno di carta da parati gli editori non mi dissero esattamente di morire ma non mi incoraggiavano a continuare a scrivere poi ho letto un libro chiamato scrivi per la tua vita di Lawrence Block nei primi anni ottanta quando la rubrica di Block per il Writer's Digest era all'apice della sua popolarità lui e sua moglie, Ling decisero di organizzare una serie di seminari per aspiranti scrittori a differenza della maggior parte dei seminari di scrittura dove si impara a scrivere trattamenti della trama o a comporre strategie per ottenere un agente il seminario di Block ha affrontato l'unica cosa che conta davvero quando si tratta di essere uno scrittore uscire di te stesso e sbarazzarsi degli innumerevoli pensieri negativi che ti dicono che esemplare irrimediabilmente poco interessante di umanità che sei al seminario i partecipanti hanno meditato hanno preso dei partner e hanno confessato le loro più grandi paure hanno fatto tutti i tipi di cose che li hanno aiutati ad andare in fondo al perché volevano scrivere ma non lo facevano i seminari ebbero un enorme successo ma Block che era uno scrittore non un organizzatore di seminari alla fine si stancò di trotterellare in giro per il paese mettendo in scena i venti invece ha autopubblicato il libro che ho incontrato circa lo stesso tempo ho preso il libro a cuore ho fatto tutti gli esercizi ho scritto affermazioni ho consultato il mio bambino interiore per scoprire di cosa avevo tanta paura mi sono anche spedita delle cartoline per 30 giorni di fila su queste cartoline scrivevo promemoria rassicuranti come tu, Pam, sei una grande scrittrice tu, Pam, hai quello che serve per vendere a New York tu, Pam, sei interessante e la gente vuole sentire quello che hai da dire sono sicura che il postino pensava che fosse un po' pazza sprecando 25 centesimi o qualunque cosa la francatura di allora per mandarmi cartoline che mi dicevano quanto fosse affascinante e abbondante ma se sapesse che cambiamento hanno fatto nella mia vita l'avrebbe fatto anche lui improvvisamente ho iniziato a ricevere incarichi da riviste importanti sì, con i grandi editori di New York prima c'era sposa moderna che voleva un pezzo sugli esercizi che le coppie potevano fare insieme diario di casa delle signore ha chiesto una storia di viaggio su Tampa Bay improvvisamente questa scrittrice del Kansas una volta insicura stava ricevendo incarichi da grandi riviste nazionali del tipo che si vede negli studi dei dentisti ho improvvisamente iniziato a scrivere in modo più fluido a trovare idee più convincenti probabilmente un po', dopo tutto questa era una delle mie affermazioni ma soprattutto ho cambiato la realtà di ciò che pensavo e dicevo di me stesso ho rinunciato al pensiero che non ci fossero abbastanza incarichi per andare in giro ho lasciato andare l'idea ridicola che non avevo abbastanza talento per vendere alle riviste nazionali la cosa principale, è mantenere la cosa principale t-shirt, vista alle Hawaii il regista Michael Moore, in un discorso di laurea, ha dato il seguente consiglio tutti voi ragazzi dovreste imparare che una volta che avete rinunciato a quella ragazza lei verrà da voi in un certo senso, le nostre intenzioni funzionano stesso modo credendo che abbiamo un disperato bisogno di un miracolo o di qualcosa che ora non abbiamo neghiamo la verità ci vestiamo con l'atteggiamento ogni volta che cerchiamo una risposta facciamo il falso presupposto che la risposta non sia già qui intendendo l'amore, o la felicità, o qualche altro obiettivo desiderato sconfigge l'intero scopo presuppone che l'esito della vita sia ancora in dubbio non lo è pregare non è una questione di corrompere Dio è semplicemente comprendere le leggi superiori che superano la legge inferiore del piano fisico supplicare o implorare o comportarsi come se non ci fosse è supporre la dualità, non l'unità e l'unità è ciò a cui miriamo dovete vivere sotto il presupposto che la tua intenzione sia già accaduta devi sentirti come se è già avvenuta per avere quelle anatre allineate per avere tutte quelle onde in coerenza laser non so se sapete qualcosa della tecnologia laser ma funziona un po' come congresso il 12 settembre 2001 ricordate come tutti quei vecchi senatori e rappresentanti irascibili hanno completamente dimenticato, di essere repubblicani, e democratici, liberali e conservatori? come l'unica cosa nell'era sono un americano, per Dio e cantavano God Bless America, in un unico grande coro unificato beh, è così che funziona un laser a differenza della luce ordinaria che ha un sacco di diversi tipi e dimensioni di lunghezze d'onda i laser hanno lunghezze d'onda, di una sola dimensione il che conferisce loro, una precisione millimetrica questo è il modo, in cui vuoi fare le tue intenzioni o lo è, se volete vedere qualcosa apprezzabile accadere Gesù non ha dubitato per un secondo che ci fosse cibo in abbondanza in giro infatti, uno dei motivi per cui Gesù fu crocifisso fu che quelli che comandavano pensavano che lui fosse troppo fiducioso come osava essere così audace da pensare di poter far camminare e far ballare le brosi ma Gesù, non ha solo pensato di poter fare queste cose egli sapeva sapeva la verità, di chi era il che rendeva la sua mente un vero e proprio laser non si fermase a chiedere se un cieco potesse vedere dopo tutto il dono della salute e della perfetta espressione di sé è un diritto divino di tutti o se l'acqua potesse diventare vino sapeva di avere il diritto di comandare i cieli e la terra infatti, questa è l'unica grande differenza tra Gesù e me e te ci stiamo ancora chiedendo se si risale al aramaico che come probabilmente sapete è la lingua in cui Gesù conversava la parola radice di chiedere rivela più di un bene se non è troppo problema chiedere in aramaico significa una combinazione di rivendicazione e richiesta chiedere qualcosa nella preghiera è semplicemente mettere mano a ciò che è tuo hai il diritto e anche la responsabilità di comandare la tua vita come possiamo esserne sicuri tu chiedi nello stesso modo in cui sei sicuro che 2 più 2 fa 4 perché è un principio semplice e inalterabile della matematica se aggiungi 2 più 2 e ottieni 5 non è colpa della matematica allo stesso modo se non ottieni le risposte che vuoi non è colpa del campo della potenzialità sei tu che sta incasinando il principio le intenzioni che sono focalizzate attraverso una personalità integrata e completa sono come un laser un singolo chiaro raggio prove aneddotiche una nave in porto è sicura ma non è per questo che le navi sono costruite Benasi Arbuto ex primo ministro del Pakistan a 34 anni Agustin Barrox decise di smettere di essere un alcolizzato e diventare un autore di best seller del New York Times come egli dice nel suo libro di memorie Magical Thinking il divario tra il copywriter attivo e alcolizzato che vive nello squallore e la sensazione letteraria con un album di recensioni entusiastiche sembrava grande a Canyon Virtuale eppure un giorno decisi che era esattamente quello che avrei fatto quattordici giorni dopo finì il suo primo manoscritto un romanzo intitolato Television non mi aspettavo che fosse un best seller era il libro dei popcorn al formaggio quello che mi aspettavo era che sarebbe stato pubblicato dice e poi ha scritto un libro di memorie sulla sua infanzia e questo decisi doveva essere un best seller del New York Times in cima alla lista doveva essere tradotto in una dozzina di lingue e opzionato per un film il suo agente gli suggerì di ridurre le sue ambizioni ho capito il suo punto di vista spiega Augustin ho anche capito che il libro sarebbe stato enorme non perché fosse scritto eccezionalmente bene ma perché doveva essere un best seller così avrei potuto lasciare il mio odioso lavoro di pubblicitario e scrivere al tempo pieno il libro di memorie di Augustin correre con le forbici ha trascorso più di 70 settimane consecutive nella lista dei New York Times all'ultimo conteggio è stato pubblicato in più di 15 paesi e è stato trasformato in un film con l'incomparabile Annette Bening la fortuna i desideri avidi di un uomo disperato soddisfatti a caso dice Augustin no non ci sono incidenti pregare chi io è più grande di noi due holly Stan Laurel attore comico inglese la gente mi spesso dice io non prego è una perdita di tempo è come credere a Babbo Natale o alla fata dei denti la mia risposta è impossibile smettere di pregare non si può fare Thomas Merton il mistico cristiano ha detto che preghiamo respirando prendete Alunzer per esempio lui non lo chiamava pregare ma quando vinse la sua quarta gara della 500 miglia di Indianapolis cinque giorni prima del suo quarantottesimo compleanno ha dimostrato il vero potere della preghiera quell'anno 1987 per essere esatti era stato senza tante cerimonie dal suo team di gara anche se aveva vinto la Indy 500 tre volte prima per la prima volta in 22 anni sembrava che sarebbe stato costretto a guardare la famosa corsa da bordo campo il suo sponsor e praticamente tutti gli altri lo consideravano finito ma nella sua mente in ogni pensiero che possedeva Unzer sapeva di non essere troppo vecchio per correre sapeva di poter ancora vincere quella preghiera era così forte che quando Danny on guys uno dei piloti che lo aveva sostituito nel team squadra si fece male durante le prove Unzer fu portato a correre con una macchina di riserva una March Cowart usata nessuno tranne lui si aspettava nulla non solo stava guidando una macchina di vecchio modello ma quando il familiare signori accendete i vostri motori suonò attraverso sistema di amplificazione Unzer era bloccato indietro in ventesima posizione ma questo non ha turbato il tre volte vincitore in ogni fibra del suo essere vedeva se stesso vincere non si aspettava altro che la vittoria infine al centottantatresimo giro si fece strada e tagliò il traguardo per il suo quarto titolo della 500 miglia di Indianapolis Alunzer non ha mai avuto un dubbio ogni singolo pensiero pregava per la la vittoria oppure pensate alla madre che non avendo mai sollevato nulla di più pesante di una borsa della spesa piena di cibi surgelati improvvisamente solleva una Plymouth di due tonnellate da suo figlio di sei anni bloccato sotto in quel momento ecco si assorta nel suo urgente bisogno di liberare il suo prezioso bambino che non ha spazio per altri pensieri devo spostare quella macchina è l'unica preghiera nella sua mente lei non ricorda da nessuna parte nella sua mente che una tale azione è impossibile il metodo siamo potentemente imprigionati dai termini in cui siamo stati condotti a pensare Buckminster Fuller inventore americano e futurista in questo esperimento usando solo il potere dei tuoi pensieri magnetizzerai qualcosa nella tua vita imposterai un'intenzione per attirare un particolare evento o cosa nella tua vita sii specifico fino all'esatto marca e modello dato che hai solo 48 ore è probabilmente meglio scegliere qualcosa che non riporti i tuoi pensieri a bilaxi per esempio se si decide di manifestare una BMW Z3 Roadster è molto probabile che i vostri pensieri predominanti saranno sì, giusto, mangiami pantaloncini inutile dire che pensieri del genere non ti porteranno fino a New Orleans non che non si possa manifestare una BMW Z3 Roadster ci sono guru in India che strappano gioielli dal nulla ma, per il bene di cambiamento di paradigma cominciamo con piccoli passi scegliete qualcosa a cui potete pensare come un biglietto del teatro in prima fila o fiori dal tuo partner il mio amico Chuck ha provato questo esperimento e ha deciso di fare il saputello voleva andare a letto con due ragazze alla volta certa abbastanza, alla fine delle sue 48 ore ha incontrato una nuova donna, che ora frequenta e finì a letto con lei e sua figlia di 6 anni che si è infilata per una rapida coccola con la sua mamma ecco perché è importante essere specifici e rendersi conto che il CP ha un grande senso dell'umorismo foglio della relazione di laboratorio il principio, l'abracadabra la teoria, qualunque cosa su cui ti concentri, si espande la domanda, posso tirare fuori le cose dal dall'aria, semplicemente pensando a loro? l'ipotesi, facendo la seguente intenzione, e concentrandomi sul suo risultato posso attirarlo nella mia vita? scrivere la mia intenzione tempo richiesto, 48 ore l'approccio, ho scansionato il grande catalogo chiamato mondo e, per il bene di questo esperimento ho deciso che questo, è quello che intendo manifestare nelle prossime 48 ore mi concentrerò su di esso con tutto il mio essere e ricorderò ciò che Abraham Hicks ama dire è facile manifestare un castello, come un bottone data di oggi, ora, scadenza per manifesting ricerca note, un gran numero di persone crede di pensare quando invece sta semplicemente riorganizzando i propri pregiudizi William James, psicologo e filosofo americano esperimento 5 il principio della cara Abby la tua connessione con il campo, fornisce una guida accurata, e guida illimitata ho spesso desiderato, che quando alle prese con una decisione, o un dilemma che le nuvole si aprissero e una voce cosmica, tipo Charlton Heston, ci invitasse al secondo piano dove il bibliotecario della vita, sedesse con noi per diverse ore rispondendo pazientemente, a tutte le nostre domande, e dando indicazioni Henriette Anne Clauser, autore di, scrivilo, fallo accadere la premessa la guida interiore è costantemente disponibile non c'è mai un momento non c'è mai stato, e mai ci sarà in cui non si può ottenere assistenza interiore per qualsiasi cosa affidarsi a qualsiasi altro strumento decisionale a chiedere guai la mente scimmiesca un termine buddista per il rantolo distraibile, ronzio bas cosa dovrei fare cosa faccio? non è mai stata progettata per risolvere i problemi è come usare un paio di forbici da unghie, per tagliare il prato eppure, è da lì che la maggior parte di noi prende la guida da un emisfero cerebrale sinistro che incline a giudizi errati interpretazioni errate e grandi invenzioni la mente cosciente, è stata progettata solo per due cose identificare i problemi, e formulare obiettivi chiunque sfrutti correttamente la mente la userebbe per definire un problema, o fissare un'intenzione e poi tornare rapidamente indietro, Jack questo è tutto questo è tutto ciò, che la corteccia cerebrale è buona a fare piantare semi ma invece, la mente cosciente decide di essere coinvolta di pesare i pro e i contro di arrivare a decisioni al diavolo le sensazioni viscerali non appena la mente cosciente definisce il problema o stabilisce l'intenzione allora comincia a blaterare a parlare di quanto sia grande il problema e di come non sia possibile risolverlo grande il problema è perché è improbabile che essere risolto in qualsiasi momento presto e come questa intenzione suona bene, ma accidenti, ci sono stata l'ho fatto, e di sicuro non ha funzionato l'ultima volta è sufficiente dire che questo spin doctor nel cervello non è la vostra migliore risorsa giudica, distorce la realtà e causa un'inutile sofferenza emotiva diciamo che Jane, usa la sua mente cosciente per creare l'intenzione di migliorare il suo rapporto con il marito perfetto grande lavoro tranne che invece di tirarsi indietro e lasciare che l'intenzione fiorisca invece di accantonare temporaneamente la mente cosciente e rivolgersi a una fonte che potrebbe davvero offrire assistenza la mente cosciente di Jane, comincia a creare conclusioni razionali comincia a considerare le opzioni in poco tempo, sta urlando non farmi iniziare e da lì, la cacofonia di voci, comincia a suonare discordante come un gruppo, di aspiranti rockstar che suonano, nel garage dei loro genitori la mia relazione con mio marito, è una farsa mio marito, è bisognoso e pigro non avrò mai quello che voglio in altre parole, la mente cosciente inizia ad interpretare il problema è, che non può vedere oltre il suo naso o oltre le decisioni preordinate che ha preso prima di essere abbastanza grande da sapere meglio i risultati possono essere disordinati, capricciosi e crudeli una soluzione migliore, è quella di usare quei tagliaunghie per quello per cui sono state progettate rimetterle nell'armadietto dei medicinali e usare uno strumento, che è meglio attrezzato per la falciatura del prato una volta che ci prendi la mano scoprirai che è estremamente affidabile inoltre, le sue risposte sono molto più pacifiche, istintive e rispondenti a tutti i fattori imprevedibili che la mente cosciente non può iniziare a capire la guida interiore arriva in molti pacchetti non ho idea di quale sia la fonte della mia voce interiore certamente non credo che sia la voce di Gesù Cristo o di un antenato morto con una stridula accento irlandese o di un pleiadiano di alto rango che mi invia pacchetti di dati psichici da un'astronave anche se quest'ultima nozione sarebbe particolarmente divertente Patrick Miller, fondatore di Libri Senza Paura a volte la guida interiore, arriva contro ogni previsione come la notte, in cui ero preoccupata per la temperatura di 41 gradi di mia figlia appena nata stavo camminando sul pavimento, con Tasman in braccio frenetica con preoccupazione e completamente confusa, su come mettere sotto controllo la febbre impetuosa era circa le tre del mattino e mentre i miei amici dicono sempre chiamami a qualsiasi ora del giorno e della notte e probabilmente lo pensano davvero non riuscivo a convincermi a farlo invece ho camminato avanti e indietro attraverso il nostro piccolo appartamento improvvisamente una voce di sorprendente chiarezza affiorò nella mia mente e disse non ti ho dato questo grande dono solo per portarlo via sapevo che in quel momento tutto sarebbe andato bene a volte la guida interiore offre messaggi distinti come quei giocattoli di predizione delle otto palle la mia amica Darlene ebbe quella che in quel momento sembrava una visione piuttosto sciocca si sentì guidata a fare domanda per un posto di direttore musicale nella sua chiesa nella Carolina del Nord suonava bene tranne che per un piccolo dettaglio lei non aveva assolutamente alcuna formazione musicale e poteva solo suonare il sassofono contralto e suonarlo male certo le piaceva cantare ma amare cantare e avere una squadra di musicisti che suonino strumenti e cantanti per creare armonia sono due storie diverse la sua mente cosciente ha iniziato a fare il lavaggio del cervello Darlene sei solo una pazza perché Dio o chiunque altro dovrebbe volere che tu guide un team musicale così ha accettato di fare un ultimo tentativo un tiro da metà campo niente meno dopo di che si rassicurò che avrebbe archiviato la visione dove probabilmente doveva stare nel cassonetto locale fece il seguente patto con la sua guida interiore se vuoi davvero che io guidi la squadra musicale fammi incontrare o il ministro il presidente del consiglio o il pianista entro la fine della giornata poiché era lunedì e la chiesa era già sigillata e consegnata per quella settimana pensò di essere al sicuro dopo tutto aveva lavorato tutto il giorno e le probabilità di imbattersi in uno di quei tre persone nel suo quartiere erano quasi zero tornando a casa dal lavoro si fermò per fare la spesa si avvicinò alla linea della cassa quando sentì una voce ehi Darlene che ci fai qui non era una voce eterea dal profondo come la voce rassicurante che mi confortava alle 3 del mattino era la voce di Mary Jenkins presidente del consiglio che stava aspettando in fila davanti a Darlene il punto è che la guida arriva in tutti i pacchetti per molti anni appena prima di andare a dormire Napoleon Hill autore del classico pensa e arricchisci te stesso avrebbe convocato una riunione immaginari del consiglio di Ralph Waldo Emerson Thomas Paine Thomas Edison Charles Darwin Abraham Lincoln Luther Burbank Henry Ford Napoleone Andrew Carnegie come presidente di questo gabinetto immaginario Hill era in grado di fare domande e ricevere consigli dopo alcuni mesi di questi procedimenti notturni Hill era stupito che i nominati nel suo gabinetto sviluppassero caratteristiche individuali Lincoln per esempio cominciò ad arrivare in ritardo e poi a camminare in parata solenne Burbank e Payne spesso si impegnavano in battute spiritose queste esperienze divennero così realistiche che divenni timoroso delle loro conseguenze e le interruppi ammise Hill impensa e arricchisci te stesso come molte persone che ricevono un'insolita guida interiore Hill era riluttante ad ammettere le sue riunioni notturne del consiglio ma disse questo mentre i membri del mio gabinetto possono essere puramente immaginari mi hanno condotto in gloriosi sentieri di avventura hanno riacceso un apprezzamento della vera grandezza incoraggiato lo sforzo creativo e incoraggiato l'espressione di un pensiero onesto guida interiore può venire in qualsiasi pacchetto che sei abbastanza aperto per ascoltare alcuni di noi hanno bisogno di una bella botta in testa altri sono più come Gary Renard autore di scomparsa dell'universo che con la sua mente estremamente aperta ha ricevuto una guida da una coppia di maestri ascesi che si sono presentati una notte mentre guardava la tv Michael Beckwith prima di diventare un potente ministro del nuovo pensiero presso l'Agape centro spirituale internazionale vicino a Los Angeles vide una visione di un rotolo che si srotolava che diceva Michael Beckwith parlerà alla chiesa della scienza religiosa di Tacoma quando il pastore di Tacoma chiamò dicendo ehi Michael vorremmo che tu venissi a parlare alla nostra chiesa Michael disse lo so abbiamo messo la nostra guida interiore nella lista delle chiamate vietate una delle funzioni principali delle religioni formalizzate è quella di proteggere le persone da un'esperienza diretta di Dio Carl Jung psichiatra svizzero sfortunatamente la maggior parte di noi ha limitato la guida che lasciamo entrare abbiamo deciso che segni al neon telegrammi e lettere sigillate da Dio vanno bene ma tutto il resto è un po' troppo spaventoso diavolo saremmo spaventati a morte se una pergamena si srotolasse davanti a noi o se un maestro asceso passasse davanti alla tv durante un episodio di Mad Men i nostri percorsi neurali hanno detto uh uh non io non ci sto se qualche angelo si presentasse ai piedi del nostro letto probabilmente chiameremmo la polizia deve essere una sfida per la nostra guida interiore come vi sentireste se qualcuno vi facesse una domanda e poi si voltasse spalle ignorando tutto quello che hai detto siamo come bambini di 5 anni con le dita nelle orecchie che fanno la 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 non prendereste semplicemente il vostro telefono quando suona e iniziare a parlare ad alta voce tu diresti pronto e ascolteresti la persona la l'altro capo della linea qui stiamo accusando la forza superiore di non darci una guida chiara e noi siamo quelli con i nostri dannati telefoni staccati quando Neil Donald Walsh si sedette per la prima volta con una penna in mano e alcune domande difficili nel suo cuore rimase scioccato quando una voce che presumeva essere Dio gli rispose vuoi davvero conoscere la risposta o stai solo farneticando Walsh che un po' esitante accettò di stare al gioco e disse beh entrambe le cose e se hai delle risposte mi piacerebbe sentirle dove abbiamo mai preso l'avventato che la guida interiore sia limitata a pochi fortunati molto di ciò risale a quei miti che crediamo su Dio che lui è così misterioso è solo di domenica il parte che è stata tralasciata è che la nostra guida interiore è affidabile e costantemente disponibile è lì ogni volta che si sceglie di ascoltare come il CNN è in funzione ogni volta che si decide di accendere la tv è così affidabile e voi siete liberi di metterlo sul posto di esigere risposte chiare ora prove aneddotiche non importa quante prove tu abbia col tempo si tende a bloccare le esperienze che non sono normali Martha Beck editorialista della rivista O Michael Beckwith il ragazzo che ho menzionato prima che ha avuto la visione di una pergamena un giorno stava guardando un mulino a vento questo prima che diventare un ministro quando non era completamente convinto che la sua decisione di perseguire una chiamata divina fosse quella giusta disse a bruciapelo senti dio se mi stai ascoltando se questo è ciò che vuoi veramente per me fa che quel mulino a vento punti nella mia direzione anche se era un giorno ventoso e il mulino a vento girava molto velocemente nell'altra direzione non appena disse questo il mulino smise di ruotare sul suo asse normale e puntò dritto verso di lui naturalmente aveva già avuto una o due esperienze sconvolgenti per pagarsi la scuola questo quando voleva diventare medico bequitt vendeva droga solo ai suoi amici ovviamente dato che era un tipo gregario e aperto diciamo solo che i suoi affari prosverarono il suo spaccio di marijuana si espanse su entrambe le coste e lo convinse che se avesse giocato bene le sue carte avrebbe potuto ritirarsi completamente dall'età di 24 anni ma sapeva che qualcosa non andava la sua guida interiore continuava a pungolare dandogli bizzarri sogni suggerendo fortemente che ci doveva essere un modo migliore decise da solo di abbandonare alle droghe per seguire quel modo migliore disse a tutti i suoi amici che era finita si stava ritirando nel suo ultimo affare di droga quello che avrebbe ottenuto sbarazzarsi delle sue ultime scorte fu arrestato dagli agenti federali ora, tenete presente che non solo aveva in suo possesso 45 kg di erba ma aveva, anche grandi somme di contanti pistole e macchine fotografiche che scottano eppure, la sua voce anteriore gli disse andrà tutto bene mentre si preparava al processo i suoi amici pensavano che fosse pazzo perché non ti stai agitando camminando sul pavimento pensando a strategie per uscire da questa brutta storia gli chiesero ero colpevole, dice ma ero anche assicurato da dio che tutto sarebbe andato bene a quel punto aveva visto una visione più grande andò al processo il suo avvocato era Robert Shapiro prima dei giorni di O.J. che allora stava lanciando la sua carriera sereno e credendo che non qualunque cosa accadesse era amato e curato da questa presenza molto reale abbastanza sicuro se la cavò su un cavillo e quando il giudice lo liberò con il commento che non voleva vederlo di nuovo Michael sapeva che non l'avrebbe mai fatto a volte il campo delle infinite possibilità riesce ad arrivare anche a persone che se ne fanno beffe nel 1975 Gerald Giampolski all'epoca uno psichiatra californiano di successo all'esterno stava cadendo a pezzi all'interno il suo matrimonio ventennale era finito lui beveva pesantemente aveva sviluppato un cronico invalidante dolore alla schiena naturalmente non ha mai pensato di cercare una guida superiore come dice lui ero l'ultima persona ad essere interessata ad un sistema di pensiero che usava parole come Dio e amore ma nonostante ciò quando vide per la prima volta corso in miracoli il libro che ho menzionato alcune volte che insegna la trasformazione personale scegliendo l'amore piuttosto che la paura egli ha sentito una voce che gli diceva chiaramente medico guarisci te stesso questa è la tua strada verso casa e naturalmente lo era Giampolski ha continuato a scrivere molti libri tiene molte conferenze sui principi di un corso in miracoli e ha anche fondato un centro a Sosalito California per persone con malattie pericolose per la vita una guida immediata e diretta e disponibile 24 ore 7 giorni alla settimana ma invece di prestare attenzione abbiamo insegnato a noi stessi l'abitudine più innaturale di non ascoltare è come lo studente straniero in scambio che non è cresciuto con la tecnologia e non ha idea che il telefono accanto al suo letto potrebbe metterlo in contatto con quella ragazza carina nella sua classe di biologia pensa di dover aspettare fino a domani per parlarle è come quella stufa spaziale trascurata di cui ho parlato nella prefazione altre prove aneddotiche se solo Dio mi desse un segno chiaro come fare un grosso deposito a mio nome in una banca svizzera Woody Allen regista americano quando aveva 25 anni l'attrice Jamie Lee Curtis era in giro nel suo appartamento di Los Angeles appena acquistato con la sua amica Debra Hill Debra che aveva prodotto Halloween il film spaventoso che ha lanciato la carriera della Curtis aveva portato il numero corrente della rivista Rolling Stone come regalo per l'inaugurazione della casa stavano sfogliando la rivista e chiacchieravano ottimisticamente sull'alla fine dell'ultima relazione di Jamie Lee quando hanno visto una fotografia di tre uomini Jamie Lee indicò l'uomo sulla destra che indossava una camicia a quadri e un sorrisetto compiaciuto e disse a Debra sposerò quell'uomo lei non l'aveva mai visto prima e non aveva idea di chi fosse ma qualcosa dentro di se le disse che era quello giusto quello è Christopher Guest disse Debra è in un nuovo film divertente chiamato questo è il prelievo spinale conosco il suo agente Jamie Lee impressionata da questo chiarissimo movimento nelle sue viscere chiamò la gente il giorno dopo gli diede il suo numero e gli disse di dire a Chris di chiamarla se fosse stato interessato lui non chiamò mai diversi mesi dopo mentre a Lugos un popolare ristorante di West Hollywood Jamie Lee alzò lo sguardo e si ritrovò a fissare il tizio della rivista che era a soli tre tavoli di distanza lui ha salutato come per dire sono il tizio che hai chiamato lei lo salutò di rimando hm pensò lei interessante tranne che un pochi minuti dopo lui si alzò per andarsene lui scrollò le spalle salutò e uscì dalla porta Jamie Lee guardò il suo piatto scalciando se stessa per aver creduto in qualcosa di così stupido come la guida interiore ma il giorno dopo il suo telefono squillò era Chris Guest e voleva fissare un appuntamento quattro giorni dopo al Chianti ristorante di Melrose si incontrarono per la cena nel momento in cui Guest partì per New York per registrare un episodio del Saturday Night Live poco più di un mese dopo si erano profondamente appassionatamente innamorati poco dopo mentre stavano parlando al telefono Chris disse a Jamie oggi ero in giro per la Fifth Avenue oh sì disse Jamie cosa hai fatto lì? ah ti piacciono i diamanti? chiese lui si sposarono il 18 dicembre 1984 otto mesi dopo che Jamie Lee Curtis ebbe quella guida iniziale il metodo la separazione del Mar Rosso la trasformazione dell'acqua in sangue il roveto ardente niente del genere stava accadendo ora nemmeno a New York City Michael Creighton autore di Jurassic Park in questo esperimento dimostreremo che la guida ricevuta da Jamie Lee Curtis e altri non è una strana anomalia tipo Twilight Zone ma uno strumento reale e continuo che tutti noi possiamo usare in qualsiasi momento passerete 48 ore aspettando una risposta specifica e concreta a una domanda specifica e concreta può essere semplice come se adottare un nuovo gattino sia mese o complicato come se accettare o meno un'offerta di lavoro in entrambi i casi date alla vostra guida interiore 48 ore per esprimere la tua decisione ma attenzione ho provato a farlo una volta e sono stata licenziata in retrospettiva tuttavia era la risposta perfetta forse l'unica che potevo sentire alla domanda che avevo fatto è il momento di lanciare la mia carriera di scrittore freelance scegli una questione che ti preoccupa qualcosa che abbia una risposta sì o no qualcosa su cui sei davvero confuso e non sai cosa fare so che stai pensando a qualcosa in questo momento non importa cosa sia quella questione funzionerà guarda il tuo orologio chiedete una risposta chiara e non discutibili e chiedete che arrivi entro le prossime 48 ore potrebbe arrivare immediatamente potrebbe volerci solo un giorno ma entro 48 ore aspettatevi di avere un segno al neon di una risposta il tuo compito è quello di fissare l'intenzione e il tempo il CP farà il resto Stan ricordate il simpatico ex surfista di Esalen di cui ho parlato nella prefazione aveva perso il lavoro per peggiorare le cose la sua fidanzata da tre anni aveva deciso che era ora di voltare pagina inutile dire che aveva delle decisioni piuttosto serie da prendere per prima cosa sulla ordine del giorno Stan decise era trovare un modo per fare un po' di soldi ma non aveva idea di cosa voleva fare gli ricordai che c'era un piano divino per la sua vita e che sarebbe stato rivelato se avesse semplicemente fissato l'intenzione e una scadenza chiara Stan disse qualcosa del genere ehi amico se è vero che hai un piano per la mia vita potrei usare un puntatore direzionale non ho molto tempo quindi per venerdì mattina voglio sapere cosa hai in mente per me giovedì pomeriggio Stan era seduto nelle sorgenti calde con un uomo che non aveva mai incontrato prima l'uomo gli aveva accennato che stava aprendo un centro di automiglioramento in Pennsylvania's Laurel Islands e stava cercando qualcuno che gestisse il posto Stan sentì immediatamente un ronzio e, abbastanza sicuro meno di 30 minuti dopo gli fu offerto il lavoro anche se la somma totale della sua esperienza lavorativa in un centro di automiglioramento era quella di addetto alle pulizie un punto per il CP foglio del rapporto di laboratorio il principio Cara Abbi la teoria la tua connessione con il campo fornisce una guida accurata e illimitata la domanda è davvero possibile ottenere una guida continua e immediata? l'ipotesi se chiedo una guida io otterrò una risposta chiara alla seguente domanda sì o no tempo richiesto 48 ore l'approccio va bene ci siamo o k guida interiore ho bisogno di sapere la risposta a questa domanda hai 48 ore fallo veloce l'uomo circondato dai fatti che non si permette nessuna sorpresa nessun lampo intuitivo nessuna grande ipotesi nessun rischio è in una cella chiusa l'ignoranza non può sigillare la mente in modo più sicuro Albert Einstein fisico teorico tedesco esperimento 6 il principio del supereroe i tuoi pensieri e la tua coscienza impattano sulla materia il corso del mondo non è predeterminato dalle leggi fisiche la mente ha il potere di influenzare gruppi di atomi e persino di manomettere le probabilità del comportamento atomico Sir Arthur Stanley Eddington matematico e astrofisico inglese la premessa lo scienziato giapponese dottor Masaru Emoto ha passato 15 anni a ricercare gli effetti dei discorsi dei pensieri e delle emozioni umane sulla materia fisica il dottore Emoto ha scelto uno dei quattro elementi tradizionali della materia l'acqua per vedere come risponda alle parole alla musica alle preghiere e alle benedizioni usando più di 10.000 campioni d'acqua Emoto e i suoi assistenti ricercatori hanno parlato suonato musica e chiesto ai monaci di recitare preghiere sull'acqua i campioni sono stati poi congelati e i cristalli di ghiaccio risultanti sono stati esaminati al microscopio nel caso vi stiate chiedendo cosa c'entra l'acqua scopri questo l'acqua è presente ovunque anche nell'aria e dato che il corpo umano e la terra sono costituiti per il 70% da acqua è logico che se le parole e i pensieri hanno un impatto sull'acqua influenzano anche sistemi più grandi e complessi costituiti anch'essi da acqua ciò che Emoto ha scoperto è che quando gli scienziati trattavano l'acqua gentilmente dicendo cose come ti amo e grazie i cristalli d'acqua risultanti diventavano chiari e splendidamente formati ma quando Emoto e il suo team parlarono negativamente all'acqua urlando commenti sprezzanti come ti odio o sei un'idiota i cristalli formavano buchi scuri e brutti quando Heartbreak Hotel di Elvis Presow è stato suonato il cristallo ghiacciato risultante si è diviso in due in una foto mostra come un campione dalla diga del lago Fujiwara che inizia come un blob scuro e amorfo è completamente trasformato dopo che un prete prega su di esso per solo un'ora il brutto cristallo si è trasformato in un cristallo esagonale chiaro e bianco brillante ha anche scoperto che la preghiera potrebbe creare nuovi tipi di cristalli che non erano mai visti prima in occidente non ci viene insegnato nulla sull'energia e sul potere del nostro corpo e mente invece di essere addestrati a sintonizzarci con la nostra intelligenza innata ci viene detto ecco un dottore qui c'è un'infermiera quando qualcosa non va consultati con loro gli allenatori ci dicono se siamo abbastanza bravi per entrare nella squadra di basket gli insegnanti ci dicono se la nostra arte è all'altezza ci viene insegnato a consegnare il nostro potere a forze esterne a noi il potere della percezione la mia mente è un brutto quartiere in cui cerco di non entrare da sola Anne Lamott autrice americana quando sono nata il 17 febbraio 1956 mio padre mi ha dato un'occhiata sdraiata in difesa nella mia culla rosa e ha annunciato a mia madre che ero la bambina più brutta che avesse mai visto inutile dire che mia madre era devastata e per me un essere umano di pochi minuti si decise che la bellezza o la mancanza di essa era destinata a colorare ogni momento della mia vita l'accusa di mio padre di cambiare la vita è stata mossa dal mio naso che era incollato alla mia faccia come un opossum ucciso sulla strada dopo che mia madre è stata in travaglio per 18 ore estenuanti il suo ostetrico decise di intervenire con un paio di pins di metallo freddo nella battaglia tra il forcipe e me il mio naso si è appiattito a poco il naso tornò normale ma il mio fragile ego rimase sfigurato volevo disperatamente essere bella volevo dimostrare a mio padre che ero accettabile e rimediare a mia madre per l'imbarazzo che le avevo causato ho spulciato le riviste di bellezza studiando le modelle come un biologo studia le cellule ho arrotolato i miei capelli con lattine di succo d'arancia e ho ordinato maschere facciali verdi e pompe per punti neri dal retro della rivista Seventeen ho risparmiato la mia paghetta per comprare un set di rulli elettrici Clerol indossavo i guanti a letto per evitare che la vaselina che ammorbidisce le mani non macchia le lenzuola ho anche ritagliato acconciature interessanti dal catalogo Montgomery Var incollandole alla pagina posteriore del mio personale libro di bellezza questo libro di bellezza personale oltre alle 50 teste con diverse acconciature elencava i miei obiettivi di bellezza ridurre la mia girovita di 12 cm aumentare il mio busto di 15 cm far crescere i miei capelli e così via ho anche incluso una pagina con piani per realizzare ogni obiettivo per ridurre la mia girovita per esempio dovrei fare 50 addominale ogni giorno limitare il mio consumo mattutino di Pancake A2 e rinunciare alle barrette Milky Way nonostante i miei tentativi benintenzionati sono rimasta meno che bella non importa cosa facessi non riuscivo mai a mettere insieme il mio aspetto come potevo la mia stessa esistenza ruotava intorno all'affermazione di mio padre brutta bambina era la prima frase della mia vita il proclama attorno al quale la mia stessa vita ruotava andare contro di essa avrebbe disonorato tutto ciò che conoscevo mio padre mia madre me stessa le cose andarno di male in peggio in sesta la mia vista si indebolì ed ero costretta a indossare un paio di occhiali neri con montatura di corno in prima superiore quando finalmente ho convinto papà a investire in lenti a contatto un vero e proprio richiamo di bellezza la mia faccia è scoppiata immediatamente in un puzzle di brufoli tutti i miei soldi da babysitter sono andati per clearasil astringente e angel face trucco un'estate dopo aver sentito che i brufoli erano causati da cioccolatini e bibite ho persino rinunciato alla coca cola e alle barrette di cioccolato e come se non bastasse mia sorella che ha avuto la fortuna di sfuggire sia al forcipe e all'accusa di bruttezza fece notare che i miei denti anteriori erano storti ancora una volta ho fatto una campagna per ottenere i fondi di famiglia per installare l'apparecchio la cosa triste di tutto questo lavoro e sforzo è che è stato inutile non avevo idea che finché non avessi cambiato i pensieri radicati su me stesso sarei rimasta brutta avrei potuto fare esercizio truccarmi e arrotolarmi i capelli fino all'eternità ma finché l'accusa di mio padre fu il virus del pensiero su cui operai ero destinata ad essere la bambina più brutta che avesse mai visto oh certo facevo progressi temporanei mi schiarivo la carnagione o mi crescevano i capelli o mi raddrizzavo i denti ma prima che succedesse qualcos'altro per riprendere la vecchia e familiare bruttezza vedete il mio corpo non aveva altra scelta che seguire i progetti che i miei pensieri gli avevano dato più o meno in questo periodo ho scoperto i libri di autoaiuto era un incontro inevitabile ogni matricola del college che pensa di assomigliare molto a frankenstein ha bisogno di tutta la spinta l'autostima che può trovare ho iniziato con Yuri Ronjesons del dottor Wayne Dyer ho letto il libro di Barbara Walters su come fare conversazione ho imparato come conquistare amici e influenzare le persone come rafforzare me stessa con il pensiero positivo e come pensare e diventare ricca tutte le letture alla fine hanno iniziato a cambiare il modo in cui mi sentivo con me stessa ho iniziato davvero a trovare cose che mi piacevano anche cose sul mio aspetto ero alta per una cosa il che significava che potevo più o meno mangiare tutto quello che volevo senza ingrassare e i miei capelli folti erano un vantaggio e la madre della mia migliore amica ha detto che avevo sopracciglia perfettamente modellate invece di cercare le cose che non mi piacevano ho iniziato a concentrarmi sulle cose che mi piacevano come per magia il mio aspetto iniziò a migliorare come ho abbandonato i pensieri limitanti cominciai a vedere la mia bellezza meno castigavo quel povero orchetto nello specchio più iniziava a cambiare meno cercavo di cambiare me stessa più cambiavo io miracolosamente la mia vista è tornata normale ho potuto finalmente buttare via gli occhiali a forma di bottiglia di coca e le lenti a contatto la carnagione infernale si è schiarita e i miei denti dopo mesi di utilizzo di un apparecchio cominciarono a combaciare con i denti pare degli altri membri della mia famiglia infatti l'unica volta che ho sentito grottescamente brutta era quando andavo a trovare mio padre e la sua seconda moglie anche se non me ne rendevo conto in quel momento io cambiavo il mio aspetto durante quelle visite per soddisfare le convinzioni di mio padre su di me o meglio quelle che pensavo fossero le sue convinzioni su di me ora so che l'osservazione di mio padre era semplicemente un commento casuale non aveva cattive intenzioni ma poiché non lo sapevo in quel momento ho preso a cuore il suo commento da bambina brutta e l'ho recitato con dettagli ricchi e vividi anche la scarsa vista che alcuni potrebbero sostenere che sia una propensione genetica era solo una mia creazione nessun altro nella mia famiglia eravamo in cinque ha mai portato gli occhiali tutti altri avevano una vista di venti venti allo stesso modo nessun altro nella mia famiglia portava l'apparecchio avevano tutti i denti perfetti prove aneddotiche d'ora in poi non piagnucolo più non rimando non ho più bisogno di nulla da quest'ora io mi dichiaro libero da limiti e linee immaginarie Walt Whitman poeta americano la malattia è facoltativa probabilmente dovrei farmi esaminare la testa per aver incluso questa sezione nel libro noterete che l'ho nascosto nel mezzo di un lungo capitolo vicino al fondo non è che non abbiate mai sentito idee come prima d'ora che il cancro di quel tale è stato causato dalla rabbia irrisolta o che lo stress può far diventare i capelli bianchi da un giorno all'altro ma quello che mi spingo a dire è che siamo stati condotti lungo il sentiero del giardino da un gonfio e avido sistema medico che ci ha convinto che la malattia è inevitabile non sto criticando medici infermieri o altro personale medico il 99,9% dei quali sono premurosi impegnati e ben intenzionati no, sono ingannati quanto noi quello che sto suggerendo è che l'errata coscienza errata di tutti noi ha portato a grandi errori informatici invece di vedere la malattia come un problema qualcosa da correggere la accettiamo come un fatto della vita siamo tutti d'accordo su questa serie di regole arbitrarie che dicono che la malattia non può essere evitata la malattia è naturale la maggior parte di noi non può nemmeno immaginare la salute perfetta molto tempo fa le nostre menti hanno stabilito questo falso modello di percezione una volta che una mente pensa di non poter fare un certo compito come sturare un'arteria informa il cervello che non può farlo che a sua volta informa i muscoli il virus nella nostra coscienza ha limitato la nostra capacità di utilizzare la grande saggezza del nostro corpo ma la nostra convinzione dell'inevitabilità di un corpo che degenera sembra reale solo perché abbiamo creduto che fosse reale per così tanto tempo il dottor Alexis Carrel un medico francese e vincitore del premio Nobel ha dimostrato che le cellule possono essere mantenute in vita a tempo indeterminato la sua ricerca ha dimostrato non c'è motivo per cui le cellule debbano degenerare mai l'educazione che riceviamo tutti è che non abbiamo potere che non sappiamo nulla spiega Meyer Schneider un uomo che si è curato dalla cecità ma non è vero dentro ognuno di noi c'è tutto quello che dobbiamo sapere quando è nato Alviu in Ucraina nel 1954 Schneider era strabico e aveva glaucoma astigmatismo nistagmo e diverse altre malattie difficili da pronunciare che colpiscono gli occhi le sue cataratte erano così gravi che fu costretto a subire cinque grandi interventi chirurgici prima di compiere sette anni l'ultimo ha rotto la lente del suo bulbo oculare e per il tempo era in seconda elementare fu dichiarato legalmente cieco così tanto per la medicina moderna quando Schneider aveva diciassette anni incontrò un ragazzo di nome Isaac con un messaggio diverso da quello dei medici e dei chirurghi Isaac che era più giovane di lui di un anno aveva il coraggio di dirgli se vuoi puoi allenarti a vedere nessuno aveva mai avuto quel tipo di fede prima tutto quello che Schneider aveva sentito prima di questo era povero povero cieco la famiglia di Meyer Schneider come ogni buona famiglia comprensiva lo scoraggiò dal sperare troppo certo prova gli esercizi dicevano ma non dimenticare che sei un ragazzo cieco nel giro di un anno come Isaac aveva previsto Meyer cominciò a vedere non molto all'inizio ma abbastanza per credere che forse questo ragazzo di 16 anni ne sapeva di più dei medici che lo consideravano cieco e inoperabile alla fine Schneider guadagnò abbastanza vista per leggere camminare correre e persino guidare oggi possiede con orgoglio una patente della California e gestisce un centro di autoguarigione le persone cieche dice diventano più ciechi perché non ci si aspetta che vedano sono gettati in una categoria inoltre non riesce a capire perché un concetto ottimistico suoni così bizzarro alla maggior parte delle persone quando Barbara Streisand era una giovane ragazza cresciuta a Brooklyn si innamorò dei film non desiderava altro che essere un'affascinante star del cinema sfortunatamente sua madre vedova era povera e Barbara non aveva esattamente la stoffa di Grace Kelly qualsiasi consulente di carriera ragionevole l'avrebbe incoraggiata a perseguire un obiettivo diverso dopo tutto tesoro hai un naso non convenzionale e come posso dirlo educatamente? fare l'attrice è come secare Mabdul Jabbar che vuole fare il fantino ma le intenzioni di Barbara erano così forti che credo che abbia manipolato le circostanze attraverso l'unico percorso che poteva manifestando una voce così potente che l'ha portata alla Broadway e alla fine al film sgranate gli occhi e datemi dell'illuso ma ecco i fatti nessun altro nella famiglia di Barbara sapeva cantare nessun altro aveva talento musicale la materia non controlla te tu controlli la materia preferiremmo essere rovinati piuttosto che cambiare preferiremmo morire nel nostro terrore che salire sulla croci del momento e lasciar morire le nostre illusioni Oden poeta anglo-americano quando Terry McBride aveva 22 anni si ruppe un disco nella schiena mentre lavorava nell'edilizia dopo un anno di visite da un chiropratico e provando l'osteopatia e i rilassanti muscolari decise di accettare il suggerimento di un chirurgo ortopedico che pensava che avrebbe dovuto avere la spina dorsale fusa mi hanno detto che sarei stato in ospedale per un paio di settimane a casa per un paio di settimane in un tutore per sei mesi e poi sarei stato come nuovo spiegò McBride in una conferenza che l'ho sentito tenere due giorni dopo l'operazione è sceso con una febbre pericolosamente alta fu di corsa all'ospedale dove i medici scoprirono che in qualche modo durante l'operazione aveva contratto il batterio e coli durante l'anno successivo ha avuto otto interventi chirurgici per cercare di sbarazzarsi dell'infezione dilagante al quinto intervento fu trasferito all'ospedale dell'Università di Washington dove, come nota lui stesso ero una celebrità avevo il peggior caso di osteomielite che avessero mai visto la notte prima dell'ennesima operazione il suo team di medici entrò cupamente nella sua stanza avevano finalmente ottenuto delle radiografie accurate che mostravano che l'infezione non era più solo nella spina dorsale si era diffusa al bacino e all'addome e giù per entrambe le gambe per sbarazzarsi di esso dissero avrebbero dovuto aprirlo da un capo all'altro dissero che facendo questa procedura potevano virtualmente garantire che si sarebbero sbarazzati dell'infezione ma potevano anche garantire che avrebbe perso l'uso della gamba destra ora, avevo studiato con uno dei grandi metafisici John Wayne e quando qualcuno nel cinema disse al duca che che dovevano togliergli la gamba lui disse non c'è problema, fallo lo stesso sottolinea McBride ma poi, il medico continuò a dire che se l'infezione era così grave come tutti pensavano avrebbe potuto anche perdere il piede sinistro e il controllo dell'intestino e della vescica e c'era una buona possibilità che sarebbe diventato sessualmente impotente onestamente, dice McBride è qui dove hanno commesso il loro errore ora non so voi ma io sono arrivato su questo pianeta come un piccolo ragazzo felice che si piaceva ma non ci volle molto per imparare che le persone in autorità sapevano più cose di me di quante ne sapessi io ho imparato, che dovevo prestare attenzione e che erano gli insegnanti a dirmi quanto ero bravo a scuola gli allenatori avrebbero deciso se avevo delle capacità atletiche ho imparato presto a guardare al di fuori di me stesso per capire chi ero ora, probabilmente avrei dato loro una gamba continua McBride ma quando quei medici hanno iniziato ad insistere che non c'era modo possibile per uscire da questo intervento ho deciso proprio in quel momento che nessuno mi avrebbe detto chi ero ho deciso quella notte stessa che nessuno con un bel cartellino avrebbe più determinato il mio destino fu la notte che cambiò la sua vita McBride che aveva studiato i principi spirituali annunciò a tutta la stanza il team di cinque medici sua moglie e sua figlia di due anni che c'era un potere nell'universo e che stava per usarlo per renderlo integro e libero quando aveva iniziato a dire queste cose tutti avevano osservato giusto tieniti stretto i tuoi sogni ma dopo dieci interventi chirurgici la gente cominciò a esortarlo ad affrontare la realtà a smettere di concentrarsi sulle sue priorità personali meschine ed egocentriche stiamo parlando di priorità personali meschine ed egocentriche come avere un corpo senza malattie una schiena abbastanza forte da prendere in braccio mia figlia priorità meschine ed egocentriche come andare in bagno senza un sacchetto di plastica dice alcune persone hanno iniziato a suggerire che forse la salute perfetta non faceva parte del piano di dio anche da buon fondamentalista non potevo credere che meritassi 18 interventi chirurgici forse avevo peccato abbastanza per 4 o 5 ma non 18 spiega McBride fu mandato a parlare con lo psichiatra dell'ospedale che lo fece sedere e gli disse figliolo è tempo di togliersi gli occhiali rosa ora pensi che per essere un uomo deve essere in grado di stare su due gambe di combattere in guerra come ha fatto tuo padre ma è ora di venire lavorare con me di imparare ad accettare che passerai il resto della tua vita su una sedia a rotelle gli mostrò la sua cartella clinica che affermava chiaramente problemi di Terry McBride non sono curabili avrà un'invalidità permanente e continui interventi chirurgici per il resto della sua vita ma io non sono la mia cartella clinica McBride ha insistito non sono il mio passato c'è un potere in me vivo in un universo spirituale e la legge spirituale può liberarmi non pensi che il tuo corpo sarebbe guarito a quest'ora se avesse voluto essere guarire? chiese lo psichiatra ma McBride rifiutò di arrendersi andò 30 grandi interventi chirurgici nel corso di 11 anni e portò un sacchetto per la colostomia per tutto il tempo continuò ad affermare che la salute e la completezza erano il suo destino spirituale alla fine molto tempo dopo che la maggior parte di noi si sarebbe rinunciato uscì dall'ospedale come un integro giovane robusto uomo oggi lui viaggia per il paese parlando del suo viaggio insegnando alla gente la verità sulla loro magnificenza divina come dice lui siamo già liberi l'infinito potere di dio sosterrà la nostra fede in malattia e di volere se questo è ciò che scegliamo ma possiamo anche cambiare le nostre convinzioni in salute amore gioia e pace è tempo di rivendicare la nostra unicità con dio di fare un passo coraggioso nella nostra vita tu sei dio e questa è la verità che ti renderà libero il metodo non ci sono limiti al sé tranne quelli in cui si crede set maestro disincarnato canalizzato da jane roberts poiché non abbiamo accesso a tutti i microscopi di masaru emoto e agli assistenti di ricerca influiremo sulla materia duplicando un esperimento che potreste aver provato all'elementari ovvero far germogliare dei semi di fagioli verdi il dottor Larry dossei in più di una mezza dozzina di libri sulla preghiera ha dettagliato studi medici fastidiosamente precisi che hanno dimostrato che l'intenzione su un particolare risultato fisico influisce su tutto dai semi di segale alle donne con il cancro al senno di nuovo siamo principianti quindi inizieremo con i fagiolini attrezzatura scatola di cartone per uova terreccio semi di fagiolini istruzioni piantare due fagioli in ciascuno dei delle 12 fessure del cartone delle uova e posizionalo vicino a una finestra innaffiare le piante ogni paio di giorni fai la seguente consapevole intenzione con la mia energia innata voglio che i fagioli sul lato sinistro del cartone delle uova crescano più velocemente dei fagioli sulla destra scrivi le tue osservazioni per i prossimi sette giorni voilà alla fine della settimana dovresti vedere la prova che la tua intenzione si è manifestata nel frattempo puoi sperimentare qualcosa che gli scienziati chiamano tinesiologia applicata può sembrare complicato ma è davvero solo un metodo elementare per testare come il tuo corpo reagisce a dichiarazioni negative e positive dette ad alta voce il dottor John Gudeart è stato il pioniere della kinesiologia applicata negli anni sessanta quando scoprì che i muscoli diventavano immediatamente deboli quando il corpo era esposto a sostanze nocive e forti in presenza di qualcosa di terapeutico nel decennio successivo il dottor John Diamond scoprì che i muscoli rispondono anche a stimoli intellettuali tocca il pollice e il dito medio di ogni mano per formare due anelli ora collegali insieme tira le dita collegate della mano destra contro la mano sinistra esercitando abbastanza pressione in modo che tengano sentite come ci si sente ora dite il vostro nome ad alta voce il mio nome è allo stesso tempo esercitate la stessa quantità di pressione dal momento che sto assumendo che tu non stia dicendo una bugia questa dichiarazione probabilmente mostrerà che la vostra mano rimane forte e ferma ora dite mi chiamo Julia Roberts anche se esercitate la stessa quantità di pressione di prima le dita dovrebbero rompersi provate diverse affermazioni vere e false finché si ottiene la calibrazione se il cerchio tiene indica una risposta positiva se le dita della mano destra fossero in grado di rompere la connessione della mano sinistra la risposta è assolutamente no non solo è uno strumento efficace per ottenere il consiglio del tuo corpo ma è anche utile per testare come il tuo corpo risponde a diverse affermazioni come la seguente sono un'enorme palla di pello sono amorevole appassionato pacifico e felice odio il mio corpo sono forte e potente foglio della relazione di laboratorio il principio del supereroe la teoria i tuoi pensieri e la tua coscienza hanno un impatto sulla materia la domanda è possibile influenzare il mondo fisico con la mia attenzione? l'ipotesi se concentro la mia attenzione su una fila di semi di fagioli verdi posso far germogliare più velocemente tempo richiesto sette giorni data odierna e ora l'approccio concentrerò la mia attenzione su una fila di fagiolini invierò a quei semi vibrazioni positive e mi aspetto che siano influenzati dalla mia energia le persone devono rendersi conto che i loro pensieri sono più primari dei loro geni perché l'ambiente che è influenzato dai nostri pensieri controlla i geni bruce lipton biologo cellulare americano esperimento 7 il principio di geni craig i tuoi pensieri e la tua coscienza forniscono l'impalcatura per il tuo corpo fisico il tuo corpo è semplicemente un'espressione vivente del tuo punto di vista sul mondo carl frederick autore di est che gioca il gioco il nuovo modo la premessa l'ambiente in cui vivete risponda ai vostri pensieri ed emozioni per dimostrare questo in modo molto osservabile userai la tua bilancia del bagno sì questo è l'esperimento in cui offri il tuo corpo alla scienza ma non preoccupatevi è solo per tre giorni e il risultato finale è qualcosa che il 90% di noi almeno secondo uno studio della cornelli university sta comunque cercando attivamente di fare perdere peso per quei due o tre diavoli fortunati che sperano di guadagnare peso beh potete aspettarvi un aumento della vostra salute e vitalità il vostro cibo come tutto il resto nel mondo è infuso di energia e lavorando con esso invece di combattere contro di esso come la maggior parte di noi fa nella nostra ossessione di perdere peso potrai facilmente perdere un chilo o due senza cambiare una sola cosa la premessa specifica di questo esperimento è che l'energia fornita dal tuo cibo è influenzata da ciò che dici e pensi quei articoli sul tuo piatto non sono statici grumi di nutrimento ma piuttosto bocconi di energia dinamica che origliare ogni vostre intenzioni e mentre i nutrizionisti non possono quantificare esattamente i vostri pensieri per includere sulle etichette alimentari probabilmente dovrebbero se vogliono fare una valutazione accurata di quello che quel barattolo di maiale e fagioli o quel pacchetto di pasta significa per la tua salute l'energia dei tuoi pensieri viene ingerita insieme al calcio e alla vitamina D se non l'hai ancora visto no leggia il film documentario io sono Tom Shadyek tutto il film è incredibile ma per gli scopi di ricerca di questo esperimento fate attenzione alla scena in cui Shadyek un famoso regista di Hollywood visita l'Institute of HeartMath un'organizzazione di ricerca non profit che studia lo stress e l'energia umana in primo luogo Rolling McCracky il direttore di lunga data dell'istituto di ricerca aggancia degli elettrodi ha una ciotola di yogurt anche se lo yogurt è ampiamente considerato come un inerte McCracky usa gli elettrodi per dimostrare che risponde ai pensieri e alle emozioni di Shadyek l'ago del bioresponse meter oscillava selvaggiamente quando gli è stato chiesto di un precedente matrimonio volava fuori scala quando ha menzionato il suo avvocato con il quale ha confermato di avere degli affari in sospeso lo yogurt senza essere legato a Shadyek in alcun modo è stato in grado di leggere le sue emozioni quando riportava la sua attenzione al presente alla stanza l'ago si fermò non sappiamo esattamente come funziona ma abbiamo la prova inconfutabile che le emozioni umane creano un campo energetico molto reale al quale gli altri sistemi viventi sono in sintonia dice McCracky quindi pensateci quante volte avete detto ho pensato qualcosa di simile al seguente è davvero difficile per me perdere peso mi basta guardare un pezzo di torta al cioccolato è in grasso ho un metabolismo lento non solo pensieri come questo ti fanno sentire come una cacca di cane riscaldata ma influenzano radicalmente il tuo corpo e quello che ci metti dentro in esso negli anni sessanta Cleve Baxter un ex agente della CIA fece notizia quando scoprì che le piante percepiscono le intenzioni umane in 1966 dopo essersi ritirato dalla CIA Baxter iniziò quella che ancora considerata la più grande agency ha di rilevazione delle bugie del mondo una notte mentre era seduto nel suo ufficio di New York decise di attaccare un galvanometro a una pianta d'appartamento fu un colpo di fortuna solo qualcosa per ammazzare tempo quello che scoprì fu che la Dracena che la sua segretaria aveva portato per decorare l'ufficio reagiva non solo al danno fisico inzuppò le sue foglie nel caffè caldo e le bruciò con un fiammifero ma ai suoi stessi pensieri e intenzioni era scioccato e aveva voglia di correre in strada e gridare al mondo le piante possono pensare invece si immerse in un meticolosa indagine per stabilire come la pianta stesse reagendo ai suoi pensieri utilizzando apparecchiature altamente sofisticate di poligrafia è stato in grado di dimostrare che le piante tutti i tipi di piante reagiscono ai pensieri ed emozioni umane ha testato dozzine di varietà diverse quelle che noi umani mangiamo quotidianamente ha scoperto che le piante rispondono ai suoni che sono impercettibili all'orecchio umano e alle lunghezze d'onda della luce infrarossa e ultravioletta che sono invisibili all'occhio umano il biologo vienneser Raoul Francais morto nel 1943 prima che fosse disponibile una strumentazione così complessa aveva già suggerito che le piante osservano e registrano costantemente eventi e fenomeni di cui gli umani intrappolati nella nostra visione antropocentrica del mondo non sanno nulla allora perché questo è rilevante per le nostre bilance da bagno? della tonnellata media di cibo che consumiamo ogni anno la maggior parte proviene dalle piante certo è spesso elaborato e battuto e filato in modo da essere quasi irriconoscibile ma gran parte del nostro cibo inizia come piante viventi il resto del nostro cibo proviene dagli animali i quali, indovinate un po' ottengono anch'essi la loro energia dalle piante quindi quasi tutto il cibo, le bevande le sostanze intossicanti e le medicine che ci tengono in vita sono derivati dalle piante che Bigster e molti scienziati che l'hanno seguito hanno dimostrato che sono in grado di leggere i vostri pensieri stai capendo quello che sto dicendo? quello che pensi e dici di te stesso il tuo corpo il tuo cibo è il cardine su cui ruota la tua salute contare le calorie e i grammi di grasso con zelo religioso può essere il principale ostacolo tra te e il tuo peso ideale lotta per il cibo più uno è ossessionato dal diventare magro più è certo che non ci si arriverà mai Agustin Burangs autore americano le diete sono il nemico ti rendono paranoico pazzo e grasso non ci vuole uno scienziato per capire che le diete non funzionano allora perché ci ostiniamo a privarci e a disciplinarci in nome delle diete quando ovviamente fanno schifo alla melma di fogna pensate a questo così se sei andato a ritirare la tua busta paga il tuo capo ti dicesse mi dispiace ma abbiamo deciso di non pagarti questa settimana continueresti a lavorare a quel lavoro settimana dopo settimana sperando che un giorno avrebbe cambiato idea anche l'ortografia della parola dovrebbe darci un indizio chi vuole fare qualcosa colla la parola morire basti dire che la maggior parte di noi ha un rapporto molto complesso con il cibo basta chiedere all'industria dietetica da 60 miliardi di dollari l'anno invece di godere del fantastico e vivificante nutrimento del cibo lo temiamo lo disprezziamo e lo incolpiamo per l'immagine che vediamo nello specchio qualcuno può dire rapporto di amore odio fino a quando nutri un'energia negativa su te stesso e passi il tempo a desiderare di perdere peso questo è ciò che otterrai negatività e lo stato di voler perdere peso non solo questo tipo di pensiero è controproducente ma ti tiene bloccato con il corpo in cui ti trovi attualmente il tuo corpo è un barometro del tuo sistema di credenze le tue cellule ascoltano tutto quello che dici e pensi e facendo commenti denigratori sui tuoi avambracci rigonfi o facendo girare lo stesso pensiero ancora e ancora sulla camera d'aria intorno alla vita li state imprimendo nei muscoli nelle ghiandole e nei tessuti del vostro corpo questo potrebbe essere uno shock per voi specialmente se passate la maggior parte dei vostri momenti di veglia a lamentarvi in silenzio della vostra bruttezza corpo pieno di cellulite ma lo stato normale del tuo corpo è sano può guarire e regolarsi da solo senza alcun suggerimento da parte vostra ma quando tiene i conti e conti le calorie con frenetico abbandono vi rifiutate di lasciare che il vostro corpo cambi prove aneddotiche il nostro corpo è un cristallo che cammina noi immagazziniamo energia elettromagnetica possiamo ricevere possiamo trasmettere e possiamo immagazzinare energia elettromagnetica dottor norman shealy medico americano di ricerca olistica e neurochirurgo quando alan finger ora famoso insegnante di yoga era un adolescente ha perso 30 chili in un mese dopo aver studiato in india suo padre mani finger portò con sé un potente programma di respirazione che insegnò a suo figlio sovrappeso in un mese di utilizzo degli esercizi di respirazione un potente strumento per muovere l'energia alan ha perso 30 chili so cosa state pensando è impossibile non si può fare quindi lascia che ti fermi qui pensieri come questo pensieri che si fanno beffe delle infinite possibilità ti stanno ostacolando per cambiare la vostra energia dovete cambiare il vostro pensiero la parola impossibile non dovrebbe far parte del tuo vocabolario una mia amica ha cercato di perdere peso per probabilmente 30 anni ha provato tutto compreso l'esercizio fisico e il consumo di piccole quantità di cibo niente ha funzionato alla fine si è consultata con uno specialista di tecnica di libertà emozionale anche se aveva difficoltà a credere che qualcosa di così semplice come picchiettare i punti meridiani del corpo potesse essere efficace per vincere la battaglia del peso che aveva combattuto per molti anni ma era disperata entro un mese dopo aver sbloccato la sua energia bloccata ha perse tutti quei chili ostinati lei è stata in grado di mantenere quel peso e ancora oggi ha un aspetto favoloso come per Alan Finger che ha perso 50 kg un mese misero si può leggere in spazio per respirare un libro che ha scritto con la collega insegnante di yoga Katrina Repka cosa avete da perdere se credete che sia possibile consiglio vivamente anche un libro chiamato Biologia della fede di Bruce Lipton è un biologo cellulare che insegnava alla Stanford University ha scoperto che nonostante ciò che crediamo i nostri corpi sono influenzati più dall'energia e dai pensieri che abbiamo che dal nostro DNA Lipton racconta una storia notevole su un gruppo di pazienti con ginocchia problematiche il primo gruppo è stato sottoposto a un complicato intervento chirurgico il secondo gruppo credeva che anche loro avevano a subito l'intervento ma il medico che conduceva la ricerca fece le incisioni sul secondo gruppo ma non ha effettivamente operato quindi nulla delle loro ginocchia è stato cambiato entrambi i gruppi comunque migliorarono entrambi i gruppi furono presto in grado di camminare e giocare a basket e fare tutte le cose che avevano fatto prima delle loro lesioni al ginocchio ora questo è un effetto placebo piuttosto forte e dovrebbe essere una prova positiva che hai bisogno di vederti come magra e splendida il pensiero negativo sia dannato qualsiasi cosa su cui ti concentri nella tua vita si espande come l'esperimento numero 5 dimostra quindi se ti concentri sul fatto di essere grasso e di aver bisogno di una dieta questa realtà si espanderà nella tua vita il metodo la vita stessa è la giusta abbuffata Julia Child autrice americana chef e personaggio televisivo in questo esperimento rinuncerai il tuo continuo rancore verso il cibo che mangi penserai ad ogni singolo boccone che entra nel tuo corpo come il tuo migliore amico o almeno un conoscente l'operatore energetico Thomas Hanna dice che quando guardiamo il corpo di una persona stiamo osservando il processo di movimento della sua mente sono le nostre convinzioni su noi stessi più che la torta alla crema di banana a cui non abbiamo saputo resistere a farci ingrassare quindi per iniziare questo esperimento vi esterrete dal dire qualcosa di negativo sul vostro corpo potreste notare che questo è difficile da fare ogni volta che fai un commento denigratorio giralo se non ha ad alta voce almeno in silenzio a te stesso per esempio la vostra migliore amica chiama e senza pensare sbottate ho mangiato un'intera busta di popcorn imburrati al cinema ieri probabilmente ho preso 3 chili cancellalo dicendo qualcosa come beh, ho rovesciato metà borsa quando Antonio Banderas si è tolto la camicia e in effetti penso di sembrare più magra non devi essere modesto va bene ammettere che sei uno schianto il cibo è pieno di giugiu energetico e mangiare dovrebbe essere un'esperienza assolutamente positiva siamo andati così fuori strada che questo potrebbe essere l'esperimento più difficile da intraprendere per la maggior parte delle persone poiché il senso di colpa per il cibo è un'abitudine così radicata questo potrebbe sembrare completamente innaturale potrebbe richiedere un po' di pratica potresti anche dover ripetere questo esperimento se noti che i vecchi schemi si insinuano di nuovo se ti ritrovi a chiederti quante calorie o grammi di grasso stai per consumare ecco perché questo esperimento dura 72 ore piuttosto che le 48 ore della maggior parte degli altri esperimenti quello che stiamo cercando di dimostrare è che i tuoi pensieri e l'energia sono in una danza continua con il mondo che ti circonda ricordate quando si pregava prima dei pasti la mia famiglia lo faceva sempre anche al ristorante il che mi metteva in imbarazzo fine quando ero alle medie ora so che quelle preghiere mettevano energia positiva e buoni pensieri positivi nel cibo non che ne fossimo consapevoli di questo a quel tempo ma devo dirvi che nessuno nella mia famiglia ha mai avuto problemi di peso quindi durante questo esperimento farete quanto segue 1. astenersi dal parlare male del proprio corpo se possibile astenersi dalla negatività di qualsiasi tipo 2. prima di mettere qualcosa nel tuo corpo inviagli pensieri amorevoli metteteci sopra le mani e dategli una benedizione 3. concentrati sull'infondere il tuo cibo con amore gioia e pace questo è quanto pesati il giorno in cui inizi e di nuovo tre giorni dopo foglio del rapporto di laboratorio il principio di Jenny Craig la teoria i tuoi pensieri e la tua coscienza forniscono l'impalcatura per il tuo corpo fisico la domanda quello che penso influenza il mio ambiente in particolare il cibo che introduco nel mio corpo l'ipotesi se i miei pensieri e coscienza sono in una danza continua con il mio ambiente il cibo che mangio non può essere influenzato dai miei pensieri su cambiando ciò che penso e dico al mio cibo sarò più sano e per il bene di questo esperimento perdere almeno un chilo tempo richiesto 72 ore data di oggi peso registrato come prima cosa al mattino peso registrato come prima cosa al mattina tre giorni dopo l'approccio non cambiare una sola cosa della tua dieta infatti ciò che mangiate dovrebbe essere un non problema durante il periodo di questo esperimento tuttavia ogni volta che mangi qualcosa nei prossimi tre giorni che siano le vostre uova al tegamino del mattino o una fetta pomeridiana della torta di compleanno di un collega inviate deliberatamente e consapevolmente al cibo pensieri positivi e amorevoli prima di ingerirlo ringraziatelo per avervi nutrito e aspettatevi che contribuisca al miglioramento del vostro corpo si fabbrica la bellezza con la mente augustin buruns autore americano esperimento 8 il principio dei 101 dalmati sei collegato a tutto e a chiunque altro nell'universo io sono perché noi siamo tenet della filosofia sudafricana conosciuta come ubuntu la premessa in questo esperimento proverai che sei interconnesso con tutti e tutto attraverso un campo invisibili di intelligenza ed energia in gergo quantistico questo reticolo di connessioni è chiamato non località e anche se è uno dei concetti caratteristici della meccanica quantistica la non località insieme al suo cugino il aggravigliamento ha provocato molti grattacapi negli ultimi 300 anni a partire da Sir Isaac Newton che considerava ridicola quella che chiamava azione a distanza nonostante il fatto che la sua teoria della gravità avesse proposto proprio un fenomeno per essere brevi la non località è quando due particelle si comportano in modo sincrono senza alcun intermediario ma non ha senso logico giusto? se volete spostare per esempio una scarpa abbandonata in mezzo al pavimento dovete toccare la scarpa o toccare una scopa che tocca la scarpa o incaricare il vostro figlio di 5 anni quello che l'ha lasciata lì di raccoglierla tramite vibrazioni attraverso l'aria fino all'orecchio le cose possono influenzare solo quelle che si trovano nelle immediate vicinanze ci deve essere una sequenza una catena di eventi noi crediamo di poter alterare solo le cose che possiamo toccare ma non è così ora abbiamo un modello dimostrabilmente più accurato che dimostra che un oggetto senza essere vicino a un secondo oggetto può influenzare il secondo oggetto sfortunatamente la maggior parte di noi ancora persistono nell'aggrapparsi alla vecchia visione del mondo della catena di eventi anche se i fisici hanno dimostrato più volte che una volta che un atomo è stato in prossimità di un altro atomo sarà influenzato o aggrovigliato da quell'atomo non importa quanto lontano persino Einstein non è riuscito ad abbracciare completamente questo controintuitivo concetto un enigma ancora più strano è che una volta che gli atomi hanno interagito sono aggrovigliati per sempre abbiamo persino dimostrato che la non località e il aggrovigliamento funzionano su cose più grandi come gli esseri umani nel 1978 il dottor Jacobo Greenberg Silberbaum della Nazionale Autonoma del Messico poi replicato dal neuropsichiatra londinese Peter Fenwick agganciò due soggetti a un elettroencefalografo in stanze isolate le onde cerebrali prodotte da una serie di luci stroboscopiche in uno degli occhi del soggetto è apparso identico sull'ig dell'altro soggetto anche se non era affatto vicino agli stessi lampi anche se la non località non ha senso per i nostri newtoniani possiamo ancora usarla a nostro vantaggio come il vostro computer che è collegato via internet ad un'infinita quantità di informazioni tu, in virtù del fatto di essere un essere umano sei collegato a chiunque altro nel mondo a volte quando voglio comunicare a qualcuno in un'altra parte del mondo io sussurro il mio messaggio alla quercia gigante nel mio giardino inutile dire che gli alberi come i cani in 101 dalmati sono interconnessi e la quercia può facilmente inviare messaggi a una palma nel giardino di un amico in California attraverso il concetto di non località in questo esperimento userai la non località per inviare un messaggio a qualcuno a distanza qualcuno che non vedrai o con cui parlerai quella sensazione di sincronizzazione si tratta di amore e di come siamo tutti connessi Mark Wahlberg attore americano quando mia figlia era alle medie ha cominciato a rispondere ad ogni domanda con la stessa risposta 22. se qualcuno chiedeva che ora fosse lei rispondeva 2 e 22 anche quando erano le 5 e 43 se qualcuno si chiedesse quanto costa un cartone di latte per la mensa ancora una volta risponderebbe con 2,22 dollari i suoi amici si sono divertiti molto e hanno iniziato a chiamarla esattamente alle 2 e 22 ogni pomeriggio ha persino aperto una pagina fan su Facebook chiamata l'incredibile meraviglia di 222 come ho detto era alle scuola media quella stessa estate abbiamo fatto due viaggi in entrambi questi viaggi senza alcun input o pianificazione da parte mia siamo finiti a stare nella stanza 222 dei nostri hotel uno a Seattle dopo che abbiamo perso la nostra connessione a Juno l'altro nell'anamo hotel di Londra situato di fronte alla sede della BBC lo psichiatra svizzero Carl Jung chiamava eventi come questi sincronicità la simultaneità il verificarsi simultaneo di due eventi significativi ma non causalmente connessi alcune persone vedono coincidenze come queste come divertenti anomalie sputate fuori dal generatore di eventi casuali sostenendo che è solo inevitabile che alla fine gli eventi della colonna A combacino con quelli della colonna B in questo esperimento vi permetterete di supporre che gli eventi sincronici non siano il risultato della legge delle medie o delusione pura e semplice ma piuttosto prodotti validi della non località e l'aggravigliamento infatti nel suo libro l'ascesa di Prometeo Robert Anton Wilson sostiene che anche la contemplazione di questi problemi di solito scatena sincronicità giunghiane vedete quanto tempo dopo leggere questo capitolo incontrerete una coincidenza sorprendente se avete delle storie fantastiche in tutti i modi inviatemele tramite il mio sito web www.pamgrout.com come Wilson amava sottolineare il tessuto dell'universo non gioca, secondo le regole umane infatti lasciamogli spiegare il teorema della non località proposto negli anni sessanta dal teorico John S. Bell fu l'ormai famoso teorema di Bell che portò ad esperimenti reali che dimostrarono definitivamente la natura quantistica non locale del mondo il teorema di Bell è molto tecnico ma in linguaggio comune equivale a questo non ci sono sistemi isolati ogni particella nell'universo è in comunicazione istantanea più veloce della luce con ogni altra particella l'intero sistema anche le parti che sono separate da distanze cosmiche funziona come un intero sistema dopo questo esperimento scoprirete che la sincronicità un fenomeno che la gente regolarmente scrolla via che strana coincidenza non è altro che la prova sperimentale dell'interconnessione di tutte le cose tutto ciò che non sembra l'amore è fumo e specchi possiamo affettare e tagliare come vogliamo ma non possiamo giustificare il fatto di distogliere la nostra attenzione da questa evidenza l'arido se medico americano e autore nel 1972 al convegno annuale dell'associazione americana per il progresso della scienza un meteorologo di nome edward lawrence introdusse un termine nuovo di zecca nel gergo americano l'effetto farfalla era la sua osservazione che un evento apparentemente insignificante come il battito d'ali di una farfalla in Brasile poteva scatenare un uragano in Texas in altre parole piccoli quasi impercettibili possono avere conseguenze grandi ed epocali la cosa bella di questo esperimento è che puoi usarlo per attirare l'amore nella tua vita potete usarlo per illuminare il mondo quando si generano pensieri edificanti su qualcuno questo contribuisce favorevolmente alla sua energia al contrario quando giudichi gli altri anche se te lo tieni per te influisci la loro energia appesantisci la qualità delle vostre interazioni puoi letteralmente elevare il vostro mondo proiettando amore benedizioni pace e altre emozioni ad alta frequenza alle persone nella vostra vita come si dice in un corso di miracoli siete benedetti da ogni pensiero benefico di qualsiasi vostro fratello in qualsiasi luogo c'è una storia su un manifestante che era fuori dalla scuola militare d'america prendendo una posizione silenziosa contro le politiche dello stati uniti e il loro comportamento prepotente qualcuno gli chiese cosa ti fa pensare che tenere quella piccola candela avrà qualche effetto su questi governi fanno quello che fanno da decenni ormai ha risposto non mi preoccupo di cambiarli non voglio che il mio paese mi cambi i tuoi pensieri sulle altre persone ti cambiano è davvero possibile in questo mondo noi contro loro che noi come afferma questo principio energetico siamo davvero uno beh ad essere sinceri sì siamo tutti in questo insieme e ogni volta che giudichiamo o pensiamo qualcosa di meno che caritatevole su qualcuno crocifiggiamo noi stessi ci infliggiamo del dolore le nostre differenze per quanto enormi le facciamo sono superficiali e senza senso ed è ora di lasciarle andare quando incontri qualcuno ricorda che è un incontro sacro come vedi lui vedrai te stesso come trattate lui tratterete voi stessi come pensi a lui penserai a te stesso puoi cambiare la tua relazione con chiunque semplicemente inviandogli buoni pensieri prove aneddotiche tutto ciò che vogliamo che si tratti di api pini ponderosa coyote essere umani o stelle e amare ed essere amati essere accettati amati e celebrati semplicemente per essere chi siamo è così difficile Derek Jensen autore americano e attivista ambientale la mia amica che chiamerò ginger perché non è il suo nome ha avuto un rapporto difficile con sua madre per anni alla fine lei ha deciso che ogni sera prima di addormentarsi avrebbe mandato a sua madre delle benedizioni sua madre naturalmente non aveva idea che lei stesse facendo questo fino ad oggi ginger non ha mai detto a sua madre che per circa sei mesi ha trascorso qualche minuto ogni sera immaginando tutte le cose che aveva sempre desiderato e vedendo se stessa felice per questo onestamente non so come sia successo ma il nostro rapporto è cambiato ora siamo i migliori amici dice ginger altre prove aneddotiche esplorate le vostre latitudini più alte sii un colombo per interi nuovi continenti dentro di te aprendo nuovi canali non di commercio ma di pensiero Henry David Thoreau scrittore americano e filosofo l'autrice di bestseller Martha Beck una volta era come la maggior parte di noi abbastanza amichevole fiduciosa ma senza esagerare dopo tutto era una scienziata un pedigree di Harvard sociologo che aveva bisogno di fatti per formulare qualsiasi tipo di conclusione e la conclusione a cui è arrivata la stessa a cui arriva la maggior parte di noi sul pianeta Terra è che le persone sono buone ma non si vuole essere troppo coinvolti soprattutto no se sei ad Harvard e stai cercando di ottenere la tua seconda laurea probabilmente è meglio tenere le persone a distanza come lo descrive nel suo meraviglioso libro aspettando Adamo andiamo in giro come la regina Elisabetta che sia benedetta stringendo i nostri piccoli accessori evitando il minimo accenno di scorrettezza non mostrando mai i nostri veri sentimenti o toccare qualcun altro se non attraverso la pelle dei guanti ma la vita ha giocato un brutto tiro a Martha Beck le ha dato un figlio con la sindrome di Down Adam che le ha insegnato che tutto quello che pensava di aver capito del mondo è un grande stratagemma specialmente la parte sul non fidarsi delle altre persone quando era incinta di Adam suo marito anche lui laureato a Harvard viaggiava molto in Asia e lei era rimasta a casa a far fronte ai suoi studi impegnativi a loro bambino di due anni e a una gravidanza che non stava andando bene incendi, potenziali aborti e continui disturbi della gravidanza la portavano al limite della sopportazione come dice lei mi sentivo, come se un carico di ghiaia fosse stato scaricato su di me ogni volta che stava per scoppiare un angelo e non intendo metaforicamente o un conoscente che conosceva appena si presentava con parole gentili generi alimentari o altra assistenza tenete a mente che questa è una donna che doveva essere sull'orlo della disperazione perché qualcosa di così vu vu passasse lei aveva da tempo rifiutato qualsiasi nozione di Dio e aveva giurato per educazione di seguire la buona vecchia logica beconiana di rifiutare di credere qualsiasi cosa finché non fosse stata provata la sua verità ciò nonostante una donna che conosceva appena si presentò alla sua porta con la spesa una mattina quando stava per passare svenire una forza invisibile apparve dal nulla per guidare lei e sua figlia attraverso il suo appartamento pieno di fumo prima che bruciasse al suolo e lei fu in grado di vedere e parlare con suo marito anche se lui era a Hong Kong e lei a Boston e no, non intendo per telefono quello che ha capito è che contro ogni probabilità nonostante tutto ciò che lavora contro di esso su questo sgradevole scomodo pianeta la maternità è qui in abbondanza puoi sempre trovarla se sei abbastanza intelligente e sapere dove cercare anche se non sei abbastanza intelligente tende ad apparire specialmente se ne hai davvero bisogno dice Beck devo liberarmi di ogni dolore ogni terrore ogni idea sbagliata ogni bugia che si frappone tra la mia mente cosciente e quello che so nel mio cuore essere vero ho espanso la mia realtà da una serie di solidi fatti stretta, forte e fredda come la lama di un rasoio ad un caos selvaggio di possibilità il metodo quelli che ora appaiono come i paradossi della teoria quantistica sembreranno altrettanto senso ai figli dei nostri figli Stephen Hacking fisico teorico britannico in questo esperimento invierai un messaggio a qualcuno che conosci usando il concetto di non località secondo Laura Day autrice di intuizione pratica è facile come inviare un mail la cosa buona di questo esperimento è che non dovete nemmeno lasciare la vostra poltrona la maggior parte delle vostre interazioni con altri umani avviene nel regno non fisico tutti quei pensieri che pensi di tenere privatamente per te non sono veramente privati dal momento che siamo tutti connessi tanto vale che li urli attraverso un interfono sottilmente tutti stanno ricevendo il messaggio comunque siamo tutti collegati a questa enorme banca dati e scambiamo costantemente energia con tutti quelli che si trovano nel nostro cerchio di influenza e in modi più piccoli con ogni altro essere sul pianeta dimenticate la terapia potete risparmiare tutti i tipi di denaro cambiando semplicemente il dialogo all'interno la vostra mente questo è in fondo l'unico coraggio che ci viene richiesto avere coraggio per il più strano il più singolare è il più inspiegabile che possiamo incontrare Rainer Maria Rilke poeta boemo austriaco esperimento 9 il principio dei pesci e dei pani l'universo è illimitato abbondante e stranamente accomodante la maggior parte delle persone arriva a conoscere solo un angolo della propria stanza un punto vicino alla finestra una striscia stretta su cui continua a camminare avanti e indietro Rainer Maria Rilke poeta boemo austriaco la premessa questo esperimento sfaterà il mito che la vita fa schifo e poi si muore la maggior parte di noi che lo ammettiamo o no crede che la vita sia difficile crediamo che ci sia solo tanto da fare sia che si tratti di soldi di tempo o di popcorn al cinema multisala anche persone con una Maserati in garage passano troppo tempo a cercare di capire come ottenere di più perché perché credono erroneamente che non ce ne sia abbastanza anche i miliardari anche le persone con una sovrabbondanza di risorse vivono sotto l'incantesimo opprimente del non c'è abbastanza un mio amico stava intervistando il ricco proprietario di un business di successo la cui azienda stava lanciando un nuovo prodotto notando i rabbiosi segni del dollaro nei suoi occhi gli chiese se c'era un margine di profitto un indice di successo un importo in dollari qualche tipo che avrebbe considerato abbastanza l'imprenditore si fermò un attimo sospirò e diede questa risposta amico tu proprio non capisci non c'è mai abbastanza è come il gioco delle sedie musicali tutti hanno paura che quando la musica si ferma saranno loro a non avere più un posto a sedere siamo ricchi oltre misura ma ci sentiamo legati spaventati e sempre in guardia certo ci definiamo una società abbondante ma in molti modi non è altro che un'illusione un stratagemma grazie all'onnipresente mantra non c'è abbastanza siamo troppo occupati a giocare alle sedie musicali correndo sempre più velocemente intorno quell'illusorio cerchio di sedie che si restringe contrariamente a tutto quello che si sa il principio di pesce e pane propone che c'è una legge naturale di abbondanza e che tutto va bene puoi rilassarti quando gesù pregò di moltiplicare i pesci e i pani non si preoccupò di come questo potesse avvenire semplicemente mise tutti i suoi pensieri in un'unica formazione laser vale a dire che l'abbondanza e la ricchezza erano un suo diritto divino allo stesso modo per la durata di questo esperimento metterai da parte i tuoi schemi di pensiero normali e permetterai loro di essere sostituiti dalla remota possibilità che ci potrebbe essere sufficiente per tutti c'è qualcosa che non va in questa immagine se pensi che ci sia un uomo nero accendi la luce dorothy thompson giornalista americana e emittente radio televisiva la scarsità e la mancanza è la nostra impostazione predefinita il condizionamento indiscusso che definisce la nostra vita la convinzione che non c'è abbastanza inizia come prima cosa ogni mattina quando la sveglia suona ah merda non ho avuto abbastanza sonno prima ancora di alzarci prima ancora di infilare i piedi nelle nostre pantofone a forma di coniglio stiamo già lamentando la mancanza quando finalmente ci alziamo e ora non ho abbastanza tempo per prepararmi e da lì si va in discesa passiamo gran parte della nostra energia a preoccuparci e a lamentarci di non avere abbastanza non abbiamo abbastanza tempo non facciamo abbastanza esercizio fisico o fibre o vitamina le nostre buste paga non sono abbastanza grandi il nostro fine settimana non sono abbastanza lunghi noi poveri non siamo abbastanza magri abbastanza intelligenti o abbastanza istruiti non ci viene mai in mente di esaminare se questo mantra del non abbastanza sia vero è così profondamente radicato che modella il nostro senso più profondo di chi siamo essere carenti è diventato la lente attraverso la quale sperimentiamo ogni aspetto della vita è il motivo per cui accettiamo lavori che non ci soddisfano è il motivo per cui rimaniamo in relazioni insoddisfacenti è il motivo per cui continuiamo a tornare alla linea del buffet molto tempo dopo che i nostri appetiti sono stati riempiti è perché abbiamo creato sistemi e istituzioni per controllare l'accesso alle risorse petrolio che percepiamo come preziose e limitate se non fossimo così preoccupati di non averne abbastanza potremmo rilassarci e usare le risorse che abbiamo per sviluppare fonti alternative di energia come il sole o l'energia eolica mi affretto a sottolineare che non si esauriranno mai questa finzione del non abbastanza ci spinge a fare cose di cui non siamo orgogliosi cose che compromettono i nostri più alti ideali cose che distruggono il mondo naturale cose che ci separano dal nostro più alto io e una volta che ci definiamo come carenti tutta la nostra energia viene risucchiata nell'assicurarci di non essere quello che viene lasciato fuori non quello che perde terreno a favore dell'altro ma ecco il problema è tutta una grande grassa sfortunata bugia ce n'è abbastanza per tutti viviamo in un universo grande e generoso e se riusciamo a superare questa paura infondata di non abbastanza possiamo smettere di accumulare risorse andiamo chi ha davvero bisogno di 89 paia di scarpe e liberare la nostra energia per fare in modo che tutti ottengano ciò di cui hanno bisogno i nativi americani chumash che hanno vissuto per migliaia di anni sulla costa centrale della California godettero di quella che definirei una vita ricca e prosperosa vivevano in piccoli villaggi affiatati e usavano le risorse naturali intorno a loro per fare canoe frecce medicine pranzavano regolarmente più di 150 tipi di frutti di mare meloni e pinoli facevano coperte di pelliccia vasi di pietra ollare decorati con conchiglie e cesti straordinari così strettamente intrecciati potevano contenere acqua quasi ogni giorno i chumash giocavano ballavano cantavano ninna nanna ai loro bambini essi godevano una sudata purificatrice nel villaggio a Paik al giorno d'oggi chiamiamo questo tipo di stile di vita sussistenza lo guardiamo dall'alto in basso come una un'esistenza difficile ma quello che vorrei suggerire è che i chumash a differenza di noi vivevano in un'economia di abbondanza per i chumash c'era sempre abbastanza non troppo non troppo poco abbastanza la maggior parte importante c'era abbastanza tempo per le cose che contano relazioni, cibo delizioso, arte, giochi e riposo in questo momento con le risorse già a tua disposizione non devi trovare un nuovo lavoro o trovare una nuova relazione o anche iniziare una nuova pratica yoga che richiede tempo puoi iniziare a riconoscere e condurre una vita ricca e significativa e la parte migliore è che puoi smettere di dilavorare così tanto prendetevela comoda per un cambiamento la beatitudine accade e se questa forza potente fosse usata per elevare le persone invece di tenerle intrappolate nella catena alimentare aziendale e religiosa Mark Vicente, direttore di che cazzo ne sappiamo noi? il punto fondamentale è che non abbiamo alcuna concezione dei limiti che abbiamo posto al nostro percezione se sapessimo davvero fino a che punto, in cui abbiamo negato la bellezza del mondo saremmo scioccati la nostra confusione è così profonda che non possiamo, nemmeno concepire il mondo senza sacrificio ma ecco il punto il mondo non contiene nessun sacrificio se non quello che gli abbiamo imposto vale la pena fermarsi un momento a considerare quanto ci siamo illusi pochi giorni dopo il 29esimo compleanno di Eckhart Tolle ebbe un intenso attacco d'ansia aveva pensieri suicidi la sua vita fino a quel momento aveva fondamentalmente uno schifo in quella particolare notte egli, continuava a dire a se stesso più e più volte non posso più, vivere con me stesso improvvisamente, dice potevo sentirmi risucchiato nel vuoto quando si svegliò tutto ciò che poteva sperimentare era l'amore uno stato di profonda, ininterrotta, pace e beatitudine il suo intenso dolore emotivo costrinse la sua coscienza a ritirarsi da tutti i limiti che aveva posto su di essa il ritiro fu così completo che il suo sé illuso il suo sé infelice e profondamente pauroso crollò immediatamente come un giocattolo gonfiabile con la spina rimosso trascorse quasi due anni senza fare nulla se non, sedersi sulle panchine del parco in uno stato di intensa gioia oppure considerate Byron Katie questo agente immobiliare californiano era nel mezzo di una vita ordinaria due matrimoni, tre figli una carriera di successo quando è entrata in una profonda depressione si è registrata in un centro di recupero per donne con disordini alimentari non perché avesse un disordine alimentare ma perché era l'unica struttura che la sua compagnia assicurativa avrebbe coperto una notte mentre giaceva sul pavimento della soffitta mi sentivo troppo indegna per dormire in un letto improvvisamente si svegliò senza nessuna delle normali nozioni preconcette di sacrificio della vita tutti i pensieri che mi avevano turbato tutto il mio mondo il mondo intero non c'era più sparito tutto era irriconoscibile e risate sgorgavano dal profondo e si riversava ero inebriata dalla gioia dice nel suo libro mille nomi per la gioia andò a casa e si sedette alla finestra a guardare fuori in completa beatitudine per giorni e giorni era come se la libertà si fossi risvegliata dentro me dice il colonnello mustard nel conservatorio con la chiave inglese il senso comune è l'insieme dei pregiudizi acquisiti entro i 18 anni Albert Einstein fisico teorico tedesco stavo giocando al gioco da tavolo clou con un paio di amici di mia figlia abbiamo distribuito i quaderni dei detective e abbiamo messo la corda il tubo di piombo e le altre armi in miniatura nelle stanze in miniatura del palazzo dissi a Kylie che interpretava il professor Plum perché non vai tu per prima le ragazze mi guardarono come se avessi appena chiesto loro di fare la doccia nello spogliatoio dei ragazzi mamma Miss Grout protestarono a gran voce cosa? cosa ho detto? tutti sanno che la signorina Scarlett va per prima allo stesso modo hanno spiegato che per fare un'accusa bisogna essere nella stanza dove si pensa sia avvenuto l'omicidio e se si vuole prendere un passaggio segreto lo si può fare solo tra salotto e la cucina o la biblioteca e giardino d'inverno chi lo dice? ho chiesto il regolamento lo dice proprio qui uno di loro, mi ha sbattuto in faccia il foglio delle regole queste regole incise nella pietra mi ricordano il modo in cui giochiamo la vita qualcuno ha deciso che questo è il modo in cui il mondo funziona e poiché, siamo tutti d'accordo nel vederlo così lo abbiamo reso realtà si scopre che siamo stati tutti ingannati quasi tutti i concetti e i giudizi che diamo per scontati sono grossolane distorsioni delle cose come sono realmente tutto ciò che pensiamo sia reale è semplicemente un riflesso delle regole dell'indizio su cui siamo tutti d'accordo il mondo che pensiamo di vedere è semplicemente la proiezione delle nostre regole individuali degli indizi forse è il momento di prendere quelle regole del clou farle a pezzi e usarle come coriandoli finché non lo facciamo finché non capiamo finalmente che siamo interamente amati interamente amabili e interamente amabile continueremo a sentirci vuoti a mettere in dubbio il nostro scopo e a chiederci perché siamo qui ecco perché dobbiamo chiedere una lente completamente nuova lente per guardare il mondo prove aneddotiche essere tristi è più facile che essere allegri chiunque può dire e ottenere una reazione da parte della folla ma quanti di noi possono fare cinque minuti di buona stand-up comedy O'Rourke ex Rolling Stone corrispondente Karen Johnson ha sempre saputo di voler essere un'attrice infatti dice che il suo primo pensiero coerente da bambina fu amico mi piacerebbe recitare anche se è cresciuta nelle case popolari di New York il teatro è quello che lei chiamava fingere di essere qualcun altro era una grande parte della sua vita questo accadeva ai tempi in cui quando Joe Papp portava Shakespeare gratis il suo quartiere a Chelsea lei inoltre guardava un sacco di film con suo fratello Clyde e sua madre, Emma che ha cresciuto due figli con un solo stipendio quando ho visto Carole Lombard scendere le scale con un lungo vestito di raso ho pensato, posso farlo, dice volevo scendere quelle scale e dire quelle parole e vivere quella vita potresti essere qualsiasi cosa lassù nei film potresti volare potresti incontrare forme di vita aliene potresti essere una regina potresti dormire in un grande letto con lenzuola di raso, nella tua stanza all'età di otto anni recitava per l'Hudson Guild Community Center un programma di asilo, teatro, e arte per bambini vicino al suo quartiere la sua vita ha subito una deviazione al liceo quando la sua dislessia l'ha portata ad essere erroneamente classificata come lenta, forse ritardata lei abbandonò la scuola divenne una drogata e dimenticato il suo sogno di recitare all'età di 19 anni era una madre single lei stessa la buona notizia è che ha smesso con la droga infatti, il padre di sua figlia era il consulente che l'ha aiutata a smettere con la droga ma la cattiva notizia è che lui non era tagliato per essere padre se n'è andato pochi mesi dopo la che figlia Alexandria era nata Karen, aveva abbandonato la scuola superiore senza capacità infatti, l'unica cosa che sapeva fare era prendersi cura dei bambini ha accettato un lavoro come tata e si trasferì a Labbock, in Texas con l'amico che l'aveva assunta alla fine, l'amico si trasferì a San Diego e Karen e sua figlia la seguirono volentieri quando la relazione andò a rotoli lei si ritrovò bloccata in California senza soldi e nessuna abilità non sapeva nemmeno come guidare un grande ostacolo, nelle autostrade della California non avevo un diploma di scuola superiore, dice tutto quello che avevo eravamo io, e mia figlia oh sì, e quel sogno, che mi piacerebbe recitare durante il giorno, ha imparato a posare mattoni e andava alla scuola di cosmetologia su di notte, giocava con una troupe di teatro sperimentale per un po', ha fatto trucco e parrucco per un'impresa di pompe funebri integrando il suo reddito, con un assegno sociale preoccuparsi, di come comprare a mia figlia più di un paio di scarpe o di come far durare 165 dollari di spesa, per un mese attraverso tutto questo ha continuato a credere, che tutto è possibile ha continuato a credere, di poter essere come Carole Lombard fluttuando giù per le scale in raso recitare, è l'unica cosa che ho sempre saputo che avrei potuto fare, dice la sua incrollabile convinzione ha finalmente, sbloccato la porta nel 1983, il famoso regista di Hollywood, Mike Nichols ha assistito alla sua performance in una troupe sperimentale a Berkeley scimmie di strada nera fu così entusiasta, dei personaggi da lei interpretati che la scrittorò immediatamente, per uno spettacolo da sola lo spettacolo dei fantasmi, a Broadway Steven Spielberg si accorse di quello e la scritturata, per il ruolo di Sally nel colore viola a quel punto aveva cambiato il suo nome in Whoopi Goldberg posso fare qualsiasi cosa posso essere qualsiasi cosa nessuno mi ha mai detto, che non potevo nessuno ha mai espresso l'idea, che fossi limitata a una sola cosa e quindi, penso in termini, di ciò che è possibile non impossibile ha detto Whoopi nella sua autobiografia sapevo, che non avrei mai potuto trasformare l'acqua in vino o far parlare i gatti in francese ma ho anche imparato che se si arriva a una cosa, senza nozioni preconcette su cosa sia quella cosa il mondo intero, può essere la tua tela basta sognarlo, e puoi renderlo tale credo di appartenere, a qualsiasi luogo io voglia essere in qualsiasi situazione, o contesto io mi collochi ho creduto che una bambina potesse nascere da una famiglia monoparentale nelle case popolari di Manhattan iniziare una famiglia monoparentale tutta sua lottare, attraverso sette anni di assistenza sociale e lavori e saltuari e finire comunque a fare film quindi, sì credo, che tutto sia possibile lo so perché l'ho vissuto lo so perché l'ho visto sono stata testimone di cose che gli antichi hanno chiamato miracoli ma non sono miracoli sono i prodotti del sogno di qualcuno come esseri umani siamo capaci di creare un paradiso e di rendere la vita degli altri con le nostre stesse mani sì, sì, sì questo è possibile se qualcosa non è successo non è perché, non può succedere o non succederà semplicemente non è ancora accaduta altre prove aneddotiche sfruttare il potere della tua mente può essere più efficace dei farmaci di cui sei stato programmato a credere di aver bisogno Bruce Lipton biologo cellulare americano per anni la vita di Myrtle Filmora ha ruotato intorno al suo armadietto pieno di medicine non solo l'eventuale cofondatrice della Unity Church soffriva di tubercolosi che le faceva sputare sangue e aveva una febbre quasi costante ma aveva anche la malaria aggravata un giorno assistette ad una conferenza dell'insegnante del nuovo pensiero dottor Hicks che fece l'affermazione scandalosa che Dio, che era tutto buono non avrebbe mai augurato la malattia a nessuno inoltre, disse se lei si fosse allineata con questo spirito onnipotente avrebbe scoperto il suo vero sé che non poteva che essere sano più e più volte Myrtle cominciò ad affermare io sono una figlia di Dio e quindi, non è eredito la malattia si rifiutò di giudicare secondo l'apparenza e lo dava l'energia vitale di Dio in ogni cellula del suo corpo a poco a poco Myrtle cominciò a migliorare nel giro di due anni non c'era più alcun segno delle sue vecchie malattie il marito di Myrtle, Charles fu testimone della notevole guarigione di sua moglie e decise di provare le stesse affermazioni anche lui era considerato disabile grazie ad un incidente di pattinaggio da ragazzo e ad una successiva serie di operazioni la sua cavità dell'anca era gravemente danneggiata e una delle sue gambe aveva smesso di crescere indossava una prolunga d'acciaio per rendere le sue gambe pari pensava che il meglio che potesse fare era imparare a vivere con il dolore cronico come Myrtle, Charles Fillmore iniziò ad affermare che esiste, una forza energetica onnipotente e buona non solo è stato completamente guarito dal dolore nel giro di un anno ma la sua gamba accorciata raggiunse l'altra l'universo si prese cura di lui il metodo la realtà è solo un'illusione anche se persistente Albert Einstein, fisico teorico tedesco questo esperimento dimostrerà ciò che Sally Field ha finalmente capito quando ha vinto l'Oscar per posti nel cuore io ti piaccio ti piaccio davvero proverà quanto sia davvero sublime il nostro mondo per le prossime 48 ore terremo traccia della bontà e della bellezza il registro della storia, naturalmente è scritto nel sangue guerre, tradimenti e competizione ma come il paleontologo Steven J. Gould ha detto il record fossile mostra lunghi periodi ininterrotti di stabilità biologica infatti, è un paradosso strutturale che un atto violento, ci distragga così tanto dai 10.000 atti di gentilezza la cortesia umana, la gentilezza, e la bellezza sosteneva, sono la norma chiamava il nostro dovere la nostra santa responsabilità di registrare e onorare il peso vittorioso di tutte, le innumerevoli piccole gentilezze che sono troppo spesso inosservate e invisibili tieni un diario a portata di mano per i prossimi due giorni ed elencare queste gentilezze qui ci sono alcuni esempi di ciò che potresti enumerare mia moglie mi ha dato un bacio prima che partissi, per il mio appuntamento dal medico io e la receptionist, abbiamo confrontato le foto del suo nuovo bambino e nel mio nuovo nipote quando son entrato nel mio ufficio con un braccio carico di libri uno sconosciuto, mi ha tenuto la porta l'uomo al bancone del pranzo sorrise e disse come va? gli studenti nella sala da pranzo sovraffollata hanno gentilmente condiviso un tavolo la mia mail si è comportata male e un collega mi ha aiutato a risolvere il problema un collega, in un altro stato ha risposto al mio messaggio con grazia e buona volontà foglio della relazione di laboratorio il principio, i pesci e i pani la teoria, l'universo è illimitato, abbondante e stranamente accomodante la domanda, la mia attenzione al negativo mi impedisce di vedere la realtà? l'ipotesi, se cambio la mia prospettiva e faccio uno sforzo concertato per cercare la bontà, la bellezza e l'abbondanza si mostrerà in picche numero di cose gentili, belle, buone l'approccio, ho sentito il vecchio adagio ciò che apprezzi, apprezza quindi io credo, che farò un tentativo chi lo sa forse esprimere gratitudine è qualcosa di più di una mambo jumbo polliana o opracosa Willie Nelson, dopo tutto ha detto che quando ha iniziato a contare le sue benedizioni tutta la sua vita è cambiata come Willie, sono pronto a scommettere sulla probabilità di pace, beatitudine e gioia di conseguenza, cercherò attivamente la bontà con una vendetta abbiamo più possibilità, a disposizione in ogni momento di quanto ci rendiamo conto Thich Netan, monaco buddista e attivista di pace postfazione tiratevi su a vicenda è bene riunirsi per lo scopo di di co-creare Abraham X dammi il 5 batti il pugno ce l'hai fatta il libro e, si spera, i nove esperimenti hai coraggiosamente gettato, il tuo cappello sul ring questo significa, che la parte più difficile è finita ma se abbandoni ora ti perdi la parte migliore dell'intera avventura qui è dove inizia la rivincita quello che vorrei suggerirvi è di formare un gruppo nella tua città nativa o nella tua chiesa o anche nel negozio delle attrezzature ma, non dite loro, che vi ho mandato io con altri lettori di questo libro anche se la CP è sempre con noi sempre a guidarci a volte aiuta avere corpi umani reali per ricordarcelo e il cielo sa che la compagnia ci farebbe bene ecco perché è vitale trovare dei partner nel crimine altri guerrieri spirituali che siano disposti ad ascoltare a incoraggiare e a ricordarti perché lo stai facendo come Abraham X ama dire quando ti sintonizzi con l'energia che crea i mondi l'universo ti abbina con altri con simili vibrazioni è quasi come un servizio di appuntamenti cosmico questi compagni di squadra entreranno nella tua sfera vibrazionale il simile attrae il simile e insieme sarete in grado di squadrare l'energia fino a quando esplodere esponenzialmente in un nuovo mondo e un nuovo delizioso modo di essere la linea guida numero 1 giocare e divertirsi questa è e sarà sempre l'ultimo generatore di energia create un cerchio protettivo in modo che ognuno di voi si senta al sicuro e valorizzato non richiede un impegno di 4 ore forse lo farete al telefono ma è importante arruolare altre persone con cui condividere i risultati dei suoi esperimenti altri che stanno anche loro sperimentando condividere storie ispiratevi a vicenda create nuovi esperimenti il mio gruppo propone un esperimento diverso ogni settimana questi possono essere qualsiasi cosa dal calmare l'energia in una stanza affollata e frenetica funziona come un incanto basta irradiare pace e quiete e osservare come cambia l'energia per esempio in un ristorante o in una riunione molto carica a cambiare il tenore di una relazione in cui si tengono giudizi e conclusioni automatiche il mio gruppo si diverte a riferire sui nostri successi e sulle volte che non siamo riusciti ad uscire dal condizionamento della vecchia scuola entrambi potenti piani di lezione in questi circoli è imperativo parlare e concentrarsi sulla vita nel modo in cui si vuole che sia essere non su come può apparire invece di chiedere cosa c'è che non va? probabilmente la domanda più ripetuta in tutta la lingua inglese e, concentrarsi su cosa è giusto? questa è l'unica domanda che significa veramente qualcosa la risposta è la nuova e più gioiosa storia che ti stai sforzando di creare durante ogni incontro condividete esempi di come la vostra vita sta migliorando e crescendo e come sempre apprezzate, abbellite, affermate e sognate tenendo queste tre cose in mente 1. Siete fantastici che bene rendiate conto o no siete un essere energetico tremendamente potente correnti di possibilità scorrono in profondità nelle vostre ossa 2. Il grande campo delle potenzialità è illimitato assolutamente tutto è possibile tutto ciò che serve è la volontà di aprire la vostra mente abbandonare i condizionamenti della vecchia scuola e continuare ad espandersi verso idee più gioiose più libere e più grandi idee 3. Ci siamo tutti dentro insieme se ci prendiamo cura l'uno dell'altro e facciamo un passo in più per apprezzare e giocare insieme ci guadagniamo tutti ognuno di noi viene sollevato certo potremmo camminare da soli fino al traguardo ma la vera gioia viene nell'affrontare il viaggio insieme nell'alzare le nostre voci in un potente e unificato grido per aiutare le nostre voci